Allora, iniziamo. Se prendete posto. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Sonia Stefanizzi e sono il direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale che ospita stamani questo evento. Vi porto i saluti del nostro Dipartimento e soprattutto do il benvenuto a studentesse e studenti di tre istituti che sono qui presenti, istituti tecnici. Ricordo l'Istituto Tecnico Morinari di Milano, l'Istituto Tecnico Cartesio di Cinisello Bassamo e l'Istituto Tecnico Versari di Cesano Maderno. Benvenute e benvenuti. Allora, il mio saluto breve, poi mi dispiace vi devo lasciare perché ho lezione, ma volevo solo introdurre velocemente questo convegno e dire che questo incontro è un incontro molto importante perché è il momento conclusivo della decima edizione di un master che è stato organizzato presso il nostro Dipartimento dal collega Andrea Cerroni, un master in comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile. E questa giornata vuole essere proprio l'occasione per approfondire alcuni interrogativi che sono rimasti aperti sulla transizione energetica. La transizione energetica, come avrete modo poi di approfondire durante la giornata, è una questione molto importante, ma anche una questione delicata, soprattutto perché è una questione geopolitica. E per questo, come avrete modo di vedere, di ascoltare, si registrano nel dibattito pubblico delle posizioni che sono molto diverse. Infatti per più di mezzo secolo petrolio e gas hanno rappresentato il fulcro della geopolitica dell'energia. Quindi in relazione a questo ha senso chiedersi se e come, in seguito all'attuale processo di transizione guidato dalle politiche di decarbonizzazione, sempre più forti e da significativi sviluppi nelle tecnologie rinnovabili, come la questione può, quali sono gli interrogativi che si pongono. Infatti oggi, con il contributo di esperti che provengono da diversi campi, da diverse specializzazioni, il convegno vuole aprire il dibattito, cercare di fare un po' il punto della situazione, chiarezza, sullo stato dell'arte delle tecnologie disponibili, sugli orientamenti che si stanno delineando nelle strategie energetiche e soprattutto sulle ricadute geopolitiche, economiche e sociali nel breve e nel lungo periodo. Io vi ringrazio per la partecipazione, vi auguro buon lavoro e vi saluto. Grazie, arrivederci. Grazie professoressa Stefanizzi. Il convegno di oggi si divide in quattro panel, il primo è dedicato alla geopolitica e all'emergenza climatica, poi proseguiremo parlando di mix energetico, decarbonizzazione e comunità energetiche, dopo la pausa pranzo invece proseguiremo con l'idrogeno e infine concluderemo con la mobilità. Iniziamo subito quindi da questo primo panel, dal titolo La transizione energetica al tempo della guerra e dell'emergenza climatica. Due argomenti, due temi che stanno condizionando appunto questa transizione. Avremo modo di parlarne con i tre relatori che sono oggi qui presenti e che ringrazio per la loro partecipazione. Andrea Tilke, professore presso l'Università di Troenheim, capo del progetto Horizon presso la Commissione Europea e consulente presso il Ministero della Mobilità e dei Trasporti. Poi abbiamo Massimo Nicolazzi, professore presso l'Università di Tolino di Economia e delle Fonti Energetiche e Senior Advisor di Geoeconomia e Sicurezza Energetica presso l'ISPI. Poi la dottoressa Sissi Bellomo, giornalista per il Sole 24 Ore. Modera l'intervento Luca Carra, direttore di Scienze in Rete. Bene, allora prima di dare la parola a Sissi Bellomo per in realtà moderare questa prima sessione. Volevo salutarvi e ringraziarvi tutti, voi presenti, molti studenti ma non solo e anche chi è collegato online perché siamo su YouTube, sul canale YouTube della Bicocca dove potrebbero anche lì arrivare ovviamente commenti e domande e anche sul portale Scienze in Rete che appunto dirigo e che si occupa molto, soprattutto negli ultimi tempi, di transizione ecologica e transizione energetica. Abbiamo costruito con gli studenti del Master del Maxis un convegno, un convegno devo dire molto articolato, molto impegnativo e interessante perché viene incontro a quelle che immagino saranno anche le vostre preoccupazioni, le vostre domande in merito alla transizione energetica. Come passiamo? Qui vedete sui nostri schermi ho messo una slide che in parte sta cambiando nei suoi target, nei suoi obiettivi, perché questa era la roadmap dell'Europa prima del Fit for 55 che ha ulteriormente reso ancora più ambiziosi alcuni di questi obiettivi ma essenzialmente noi al 2020 l'Europa doveva raggiungere quei tre obiettivi di meno 20% di riduzione del gas sera rispetto al 1990, 20% da fonti rinnovabili per quanto riguarda l'energia e il 20% di aumento dell'efficienza energetica. Abbiamo però con il Green Deal europeo adesso degli obiettivi che sono molto molto ambiziosi rispetto soprattutto a quella che è la situazione attuale di guerra e di difficoltà di vario genere che sono andare a meno 55% delle emissioni dei gas clima alteranti, aumentare queste due invece target sono stati leggermente aumentati nella proposta di Fit for 55 che sono 32% di fonti rinnovabili sul totale energetico di energia primaria e il 32% ma adesso credo siamo al 38% di maggiorazione dell'efficienza energetica fino a quello che è la deadline finale a metà secolo nel 2050 dove dovremo azzerare, zero netto, non zero puro ma zero netto, quindi emissioni ce ne continueranno ad essere ma dovremo compensare con assorbimenti, quindi zero netto delle emissioni di gas clima alteranti ma anche zero pollution e tutta una serie di altri obiettivi che vedremo poi nel corso delle altre sessioni. Questa prima sessione i relatori sono stati già presentati affronta il tema più d'attualità che è quello cosa facciamo adesso con la guerra, con la guerra che è diventata anche uno strumento, cioè che ha trasformato le fonti energetiche in particolare il gas in uno strumento di guerra e che ci viene meno e che questo ha fatto schizzare non solo questo ma anche questo in alti prezzi, come si compone, come si compongono, come riusciremo ad armonizzare questi obiettivi con la situazione attuale e di questo che parliamo in questa prima sessione, poi vedremo gli argomenti delle altre che affronteranno il tema delle fonti energetiche più nel dettaglio, l'idrogeno e altro ancora. Io mi fermo qua, auguro buon lavoro a tutti, a chi è qui da noi presente, chi invece ci segue online e do subito la parola a Sissi Bellomo, del Sole 24 Ore, grande esperta di materie prime e di fonti energetiche per condurre questo che è un po' un talk show, un po' un dibattito, non ci sono slide, non ci sono lezioni frontali ma appunto una discussione che poi verrà aperta anche a voi per fare domande. Grazie. Grazie professore, è un invito il mio anzi ad aiutarmi tutti a co-condurre perché possiamo anche porci delle domande fra di noi e professor Cara la prego se ha qualche stimolo ulteriore da porci lo faccia liberamente, così come invece alla fine apriremo alle domande dal pubblico che è un pubblico meraviglioso perché io adoro avere un pubblico giovane, sono menti lucide, sono menti aperte, sono menti curiose e forse gli canteremo una canzone un po' diversa da quella che si sente ogni giorno o la sensazione che magari sfateremo qualche leggenda metropolitana, chiamiamola così, non lo so, o dei panelist che sanno essere provocatori e acuti e molto esperti delle cose di cui parleremo. Accennava il professor Cara al gas che è diventato uno strumento di guerra, beh io forse con un certo cinismo che mi deriva anche dal fatto che sono tanti anni che faccio la giornalista e tanti che mi occupo di materie prime, il gas e tutte le altre materie prime in qualche modo sono sempre stati e sono strumento anche di politica, le risorse sono, è quasi un luogo comune, sono spesso causa di guerre, di dispute, magari di guerre commerciali semplicemente, che però possono essere dannose, dolorose e conflittuali anche se meno cruente ovviamente delle guerre combattute. Oggi abbiamo una guerra vera e propria che si combatte nel cuore dell'Europa, vicinissimo, molte persone generose sono andate a portare personalmente aiuto in Ucraina e ci sono andate semplicemente mettendosi in auto o sul camion per portare aiuti e dietro l'angolo, ne abbiamo già avute di guerre dietro l'angolo nell'ex Jugoslavia quando voi non eravate neanche nati, è una cosa che fa ancora più impressione non perché le altre guerre siano meno terribili, però questo ci impressiona, ci colpisce, ci sta toccando adesso anche nel portafoglio perché le sanzioni contro la Russia e il precipitare delle relazioni commerciali che erano state sempre ottime e fiorenti con la Russia ci sta mettendo in difficoltà e per tornare al nostro tema centrale transizione energetica e sicurezza energetica adesso sono diventate due impellenze, due sfide, due sfide urgentissime che talvolta ahimè confliggono, per cui io forse partirei da questo conflitto, da questi elementi di conflitto tra le due urgenze che la società deve affrontare e che una società sviluppata e avanzata, un'economia avanzata come quella dell'Europa deve avanzare e quindi proprio flash, Tilke, le sembra che stiamo facendo dei passi indietro seri sul fronte della decarbonizzazione e della transizione, in effetti quando c'è mancato il gas non abbiamo acceso le paleoliche, abbiamo acceso le centrali a carbone. Il rischio è molto grande sicuramente, però io credo che questo sia un errore fondamentale cadere in questa trappola, la trappola è lì, è subito pronta in particolare per certi monopolisti che vedono nel futuro sfuggire il business del petrolio, del gas e delle fonti fossili e quindi non vedono l'ora di trovarsi in una situazione in cui possono tornare indietro, ma la società dovrebbe essere molto accorta e dire invece che bisogna andare avanti nella transizione in modo ancora più accelerato per riuscire a far fronte alle crisi e alla crisi che stiamo vivendo. Chiaro che ci sono delle questioni di tempi perché se siamo stati così poco furbi e poco intelligenti da affidarci in modo così grande al gas e al gas proveniente da paesi sostanzialmente molto spesso inaffidabili per poi trovarci che quando uno chiude il rubinetto bisogna, naturalmente il gas cos'è? è una cosa che uno accende e spegne, mentre realizzare energie rinnovabili, fotovoltaico, eolico implica un certo lavoro, non si fa in un minuto, non si accende, bisogna installarli, bisogna trovare il luogo dove metterli e così via. E quindi c'è un gap temporale ma non si può andare indietro. Sì, si possono fare delle piccoli ritardi, accendere una centrale a carbone, secondo me tra una centrale a carbone e una centrale a gas non c'è molta differenza, perché basta perdere il 5% del gas in emissioni in atmosfera di gas naturale, come succede? Perché la rete butta via tantissimo gas e le emissioni reali del gas sono equivalenti a quelle del carbone, quindi io non vedo tanto questo problema, ma vedo il problema del fatto che ci siano delle forze che cercano di spingere in là nel momento in cui ci si trova in queste situazioni. Nicolazzi, lei è d'accordo che alla fine non cambia molto se accendiamo qualche centrale a carbone? Vede un fallimento della transizione o una battuta d'arresto? Cerchiamo un attimo. Allora, andiamo di mettersi d'accordo su una cosa, un processo energetico è una roba apparentemente semplice, ci vuole una fonte, ci vuole un convertitore e alla fine ne tirate fuori quello che gli economisti chiamano lavoro utile. Il processo era talmente semplice che è cominciato con l'homo sapiens, abacche e mammut, nel senso che la fonte era il cibo, il convertitore era il muscolo e il lavoro utile era andare a caccia o fare altre cose di questo genere. Col fossile e con la macchina tutto è diventato leggermente più complesso, incluso il fatto che nel frattempo ci siamo moltiplicati, all'inizio del Novecento c'erano meno di un miliardo di sapiens in giro per il mondo, adesso siamo sui 7 miliardi e mezzo e tendenti ai nove. Per molto potete dire grazie alla penicillina, ma per il resto siete costretti a dire grazie ai fossili che sono stati dei moltiplicatori di ricchezza, per quanto iperinquinanti, ma se ne siamo accorti dopo, sono stati dei moltiplicatori di ricchezza e dei coadiuvanti demografici in qualche modo. Allora, in un mondo di 7 miliardi e mezzo di persone, tanto per stare sul semplice, se voi cambiate la fonte dovete cambiare anche il convertitore. quanti miliardi di cucine a gas dobbiamo cambiare e chi le paga? La complessità della transizione è anzitutto, in termini di tempi, una complessità di reperimento delle risorse o degli stimoli volti in qualche modo a favorire e ad accelerare il cambio dei convertitori. Se voi volete andare elettrico non è che cambiate motore, dovete cambiare macchina. Cambiare macchina significa comprarsene una nuova. Allora, detto questo, io credo che il problema che noi oggi stiamo effettivamente vivendo è che abbiamo due carichi contrastanti di stimoli. da un lato io credo che questa guerra abbia in qualche modo aumentato la propensione al cambiamento e all'uscita dai fossili dell'opinione pubblica. Ci siamo un po' più sensibili dopo che il gas è arrivato il 25 agosto a 349 euro. Andare ad aria, sole e vento, abbiamo risolto i temi della sicurezza energetica in punto di fonte, no? E' finita la vecchia politica della sicurezza. Però non è un guado che raggiungiamo domani mattina. Allora oggi noi abbiamo in realtà due temi che si sono sovrapposti. Un tema Covid che ha in qualche modo rallentato il nostro sviluppo e la nostra disponibilità di energia in punto di investimenti. E' un tema guerra. Cosa fa la guerra? Qui chiudo e qui è il dilemma. La guerra e il Covid da un lato hanno aumentato la nostra consapevolezza della necessità della transizione. Però dall'altro hanno drenato le risorse che sono necessarie a cambiare i convertitori. Noi abbiamo usato per finanziare consumi, bonus, sconti bolletta, abbiamo speso in consumi una serie di risorse che non ci sono più disponibili per investimenti. Quindi in nuova generazione elettrica rinnovabile ed in una serie di altre cose. Allora il tema è come riusciamo a reperire risorse, investimenti, capacità di cambiamento dei convertitori in qualche modo all'altezza della nostra aspettativa di cambiamento. Quindi da questo punto di vista forse anche le crisi, la doppia crisi della pandemia seguita subito dopo dalla crisi guerra-sanzione forse hanno anche messo a nudo in modo impietoso la vulnerabilità del nostro sistema. Forse ci stavamo cullando nel fatto che fosse più facile di quello che in realtà non sia la transizione, che richiedesse in fondo meno impegno, che le cose erano già ben avviate. Anche perché il 20-20-20 bene o male l'avevamo centrato e eravamo bravi. Intanto, visto la prevalenza di un pubblico giovane, che mi fa veramente piacere, io credo che i giovani, spero che i giovani abbiano ben chiaro quali sono i punti di fondo del problema. Il punto di fondo del problema è che noi ci siamo avviati 150-200 anni fa a bruciare combustibili fossili, ne sapevamo poco, abbiamo capito poi tardi che avevamo tirato fuori del carbonio che era seppellito da milioni di anni sotto terra e l'abbiamo messo in circolo. E questo, dato che ha un effetto serra nell'atmosfera, come CO2 o come metano anche, questo sta scaldando il pianeta, lo sta scaldando in un modo che non può essere, cioè non abbiamo un'opzione. Questo è il punto che deve essere chiaro a tutti. Non c'è un'opzione ad abbandonare i combustibili fossili e a passare a energie pulite. Perché se non andiamo verso quella soluzione ci troviamo in un mondo invivibile fra un po' di anni. E questo riguarda voi, perché i giovani saranno anziani molto dopo di noi. Abbiamo un qui e ora che è un problema altrettanto impellente perché qui e ora abbiamo delle famiglie che rischiano di non arrivare a fine mese perché non ce la fanno a pagare le bollette. D'accordo, d'accordo. La questione è come proteggere le famiglie bisognose o le aziende in potenziale crisi. E questo è il punto. Ma il punto è che, e rispetto a quello che diceva Nicolazzi, permetti, che diceva non ci sono risorse. Ma molte delle risorse vengono proprio stimolate dal fatto che oggi i costi energetici sono altissimi. E dato che investire in una pompa di calore al posto di una caldaia costa di più all'inizio ma costa molto di meno dopo. Abbiamo questo vantaggio che oggi le fonti rinnovabili, il fotovoltaico, magari hanno un costo di installazione iniziale ma poi permettono dei risparmi nel tempo molto forti. Un'auto elettrica ha già oggi quello che si chiama costo totale di possesso. Cioè io metto insieme non solo il costo iniziale ma quanto spendo di combustibili o di ricarica o così e di manutenzione eccetera nell'arco dei dieci anni. Costa la metà, nonostante che costi molto di più a comperarla, ma nei dieci anni costa la metà. Ora questo modo di pensare deve entrare anche nelle famiglie e deve entrare nel sistema bancario che deve poter permettere alle famiglie di investire su cose che cambiano il sistema energetico. Tutto questo però ci dice quanto sia delicata da maneggiare la politica energetica, quanto vada conciliata con esigenze di budget, di bilancio, di bilanci anche statali e quanto sia anche importante maneggiare il mercato. Facciamo un passo di nuovo al qui e ora. Abbiamo un pubblico giovane e aperto ma che forse non ha già per acquisite scontate le cose che stanno accadendo. Quello che sta accadendo lo vediamo tutti i giorni, prezzi del gas molto elevati anche se adesso ultimamente stanno scendendo parecchio e siamo sempre sul chi va là. Cosa sta succedendo con i prezzi, Nicolazzi? Riflettono davvero l'emergenza perché citavi giustamente che erano andati fino a 350 euro a megavattore a quest'estate, poi adesso sono precipitati, ma davvero sono precipitati, anche sul famigerato TTF che tutti vi avranno dipinto come una mostruosità popolata da speculatori. Io ho un'opinione completamente diversa, ma anche lì sono intorno a 100 euro. Sono passati neanche due mesi, è vero, è ancora più del doppio di come erano un anno fa. Che succede se questo è andato? Il frontmaster? No, tu mi parli del day-end però. Sì, il day-end. Allora, quello che era 350 era il prezzo del contratto per il mese successivo ad agosto e quello è andato intorno a 100, professore, se mi permette. Poi ci sono varie scadenze di questi contratti sull'energia e l'energia si negozia anche per la singola ora del giorno. C'è quella per il giorno prima, quella che compri oggi per domani, che effettivamente al TTF è andata sotto 60, beh, al PSV italiano è andata addirittura sotto 40 euro megawattora, ieri sempre. Comunque, cosa sta succedendo? Che cos'è questo caos dei prezzi? Fammela prendere da lontano, se posso, no? Sento parlare, ex ministri, amministratorieni e quant'altro, dell'errore di mettersi nelle mani dei russi, che poi in realtà l'hanno votato loro, quindi vorrei un attimo staccarmi da questa retorica per un momento. Quando io avevo la vostra età, quindi nel secolo scorso... Che detto così è brutto, eh? Beh ragazzi, sono anche anagraficamente fossile, che ci posso fare, insomma? Anch'io ce l'avevo nel secolo scorso l'età nuova. Che ci posso fare? Nella seconda metà dell'altro secolo sviluppo economico e fame di energia sono andati di pari passo. Adesso, voi non lo sapete, ma ancora nel 1960 la maggiore fonte di energia, di generazione elettrica in Italia era l'idroelettrico, non erano i fossili. Da questo siamo partiti. Avevamo anche meno bisogno di energia. Ho detto, è salito un tumultuoso, miracolo economico, un tumultuoso, domanda di energia. E inizialmente questa domanda di energia l'abbiamo risolta con molto petrolio. Quando avevo la vostra età andavo all'università a Torino, se tu andavi in collina a Torino non vedevi Torino. Vedevi un parallelepipedo grigio scuro. Perché il riscaldamento domestico era fatto a olio combustibile, cioè a nafta, con tutto il particolato possibile e immaginabile. Poi invece, quando io avevo letto a vostra, è arrivato il metano ti dà una mano. Era uno slogan davvero, le pubblicità bellissime, vedi, con i disegni di Flora. Però dalla collina io ho ricominciato a vedere la città. Perché ha ragione Tilch, parlando di emissioni, ma almeno in punto di particolato nei centri urbani. Un passettino avanti via metano, l'abbiamo fatto. Che cosa potevamo scegliere per aumentare la nostra disponibilità di energia e magari lasciare a casa la nafta? Guardate che all'inizio di questo secolo le rinnovabili non erano un'opzione immediata. E guardate che l'energia è soprattutto infrastrutture, non è una roba istantanea. Se volete più gas, ci vuole qualche anno a fare i buchi per produrlo e lo stabilimento per dique farlo a fini di trasporto. Fondamentalmente noi e l'Europa in generale, alla fine dell'altro secolo, avevamo l'opzione secca, gas o nucleare, o entrambi. E noi siamo il paese che ha scelto solo gas. E dove lo trovi il gas? La Svizzera non abbonda di giacimenti. Gli idrocarburi hanno il maledetto vizio di andarsi ad addensare fuori degli Stati Uniti in luoghi ad alta instabilità politica. Se la riguardate a posteriori, meglio la Russia o la Libia come fornitore al 40%? Perché queste sono le opzioni di cui stiamo parlando. Oggi abbiamo l'Algeria al 40%. Oggi abbiamo l'Algeria che ha strassuperato la Russia e va oltre il 40%. Io non so se fidarmi di più dell'Algeria che della Russia, però intanto abbiamo fatto quel che potevamo. In Svizzera ci sono solo i mercanti del gas, cioè i traders, non il gas. Il gas è altrove. Veniamo alla vicenda. Prezzi sarò brevissimo. Grazie. No, però è giusto perché noi finiamo di parlare nei convegni sempre tra persone che hanno un background comune e che a volte si danno le cose per scontate. Anzi poi tutte le domande che volete alla fine di questo nostro dibattito. Allora io faccio solo una battuta, poi magari ci ritorno perché non vorrei sottrarre. No, anche perché ne ho già un'altra mente per lui di provocazione. Va bene. Allora io vi racconto solo questo. Noi siamo arrivati all'anno scorso in una situazione che gli economisti vi direbbero di mercato corto. Mercato corto è quando un panettiere finisce il pane alle due del pomeriggio e se andate lì alle tre non ne trovate più perché fondamentalmente non se ne produce abbastanza per soddisfare i bisogni su tutta la giornata. E hanno successe tante cose per mandarci corti. Quando parlate di energia ricordatevi che una fonte può sostituire un'altra. Vedi generazione elettrica. L'elettricità la fate con qualunque cosa. Volete le luminarie a Natale? Mettete una bicicletta con una dinamola, attaccate all'albero, qualcuno ci pedala 24 ore e abbiamo generato elettricità. E smaltiamo anche il cenone. E smaltiamo anche il cenone. No? Un'idea per il prossimo anno. Assolutamente. Risparmio energetico, luminari, basta pedalare. E linea perfetta. Basta pedalare, è anche linea perfetta. Allora, cos'è successo? Dice, cosa c'entra col gas? Eh, c'entra. Succede che se in Brasile c'è siccità e il Brasile è ancora un posto dove si va a idroelettrico, quello che non riescono a fare con le dighe devono farlo con il gas. E quindi devono aumentare l'importazione. Eh, dice, l'eolico nel mare del nord c'erano le palle che giravano più ad agio. Come compensi il tuo bisogno di elettricità? Quella che non arriva dalle palle. Anche in casa nostra, i nostri bacini idrici prosciugati da quest'estate è terribile. Ci aggiungete che i cinesi si erano messi a fare i cinesi peggio che prima del Covid in termini di loro consumi interni. Ci aggiungete un po' di altre contingenze, compreso il fatto che forse i russi ci hanno un po' giocato non dando disponibilità oltre a quelle contrattuali di gas. e la guerra è cominciata il 24 febbraio. Il 21 di dicembre il prezzo del gas era quasi sette volte il prezzo dell'inizio dell'anno. 21 dicembre abbiamo superato i 130 euro. 2021 a dicembre il prezzo del mese dopo era più alto di quello di oggi. era quando si guardava con grandissima preoccupazione alle scorte europee vuote, troppo vuote, pericolosamente vuote perché i prezzi in salita avevano... TTF dopo perché diventa... TTF sì, ci arriviamo. TTF dopo perché diventa... Era un momento in cui le scorte erano vuote. Ve lo spiego con domanda e offerta senza andare sull'esoterico dei futures e di queste cose. In una situazione di mercato corto ci infilate la guerra. La guerra vuole dire che il 15 per cento del gas che nel mondo va in commercio internazionale, eh? Vi casca dal tavolo. Non c'è più. Bisogna sopperirci con qualcos'altro. Succede che hai dei governanti preoccupatissimi per l'inverno che dicono dobbiamo fare stoccaggio, cioè mettere in magazzino del gas per l'inverno a qualunque costo. Succede che col gas russo che non c'è più il pane finisce alle 11 del mattino più che alle 2 del pomeriggio. E comincia la corsa di noi europei in competizione tra noi e con l'asiatico all'ultima nave che porta in giro gas per il mondo da scaricare per i nostri stoccaggi. Vi faccio una nota. Normalmente il gas d'estate costa molto meno che d'inverno perché se ne consuma molto meno. Io, se un mio studente mi avesse detto che il prezzo più alto del gas lo si realizza ad agosto, non lo facevo tornare neanche all'appello dopo. Il record assoluto lo abbiamo fatto il 25 di agosto quest'anno. Perché eravamo tutti lì a caccia della nave da assaltare per riempire gli stoccaggi. Credo di avervelo spiegato in termini di domande e offerta. E non in funzione del prezzo. Se poi vogliamo parlare di TTF, speculazione e queste cose, aggino dopo. Perché sul mercato c'erano dei soggetti che compravano a prescindere dal prezzo. No, no, era il prezzo lo faceva il venditore a fine dei nostri stoccaggi. Assolutamente, stiamo trascurando di brutto ticca. Non credo che non devi chiudere il tuo microfono se no non posso accendere il microfono. No, non credo, io lo tengo sempre aperto e... Ah, io posso perché... Ok. No, è che volevo aggiungere una cosa che effettivamente c'è stato, se avete sentito nei talk show prima delle elezioni, ci sono molti politici, alcuni dei quali hanno vinto le elezioni, che lanciavano strali contro il fatto che ci fosse la speculazione che faceva diventare alto il prezzo del gas. Ora, per quelli che conoscono il mercato, di speculatori sul mercato del gas, da diversi mesi non ce n'erano più, c'erano solamente acquirenti istituzionali, ovvero l'ENI, ovvero le compagnie del gas, la BP, la Shell e altri che forniscono gas ai loro paesi rispettivi o hanno contratti di qua e di là, solo loro e comperavano per mettere gas negli stoccaggi e il prezzo andava su, perché poi di disponibilità c'era poca, questo è il punto. Ci siamo fatti prendere in giro da chi ci ha detto che il problema era la speculazione, non è vero, non è vero, la speculazione l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo creata noi, quindi stiamo attenti e non cadiamo nei facili, i mercati purtroppo riflettono delle questioni di disponibilità e di, cioè è semplicemente questo, tanto c'è e tanto non c'è. Mi sento in dovere di precisare che un po' di speculazione su questi mercati esiste, ma che è fisiologica è normale e dobbiamo capire di quale mercato stiamo parlando, perché una cosa sono gli hub e una cosa sono i mercati dei future su quest'altra, ed è vero che sono fuggiti. però, dato che diversi... Non si sente tanto che parlate... Sì, mi viene da voltarmi verso l'interlocutore, scusate. Allora, cioè i prezzi sono incominciati a scattare molto in alto l'anno scorso, ma perché ci sono state una serie di convergenze, quelle che citava prima Nicolazzi, il fatto che in Europa c'è un grande deposito di gas in Olanda che ha avuto dei problemi perché ci sono stati dei terremoti dovuti molto probabilmente a riempimenti e svuotamenti di questo deposito e quindi hanno dovuto bloccare tutto e poi la Gazprom che insieme a Putin stava preparando evidentemente l'invasione dell'Ucraina ha incominciato a non riempire i depositi che aveva in Germania, perché erano depositi della Gazprom, cioè i depositi del gas erano di proprietà della Gazprom, erano di proprietà russa in territorio tedesco, cosa veramente difficile da capire dal punto di vista di sicurezza, ma noi ci siamo fatti prendere per il naso anche perché loro non riempivano quei, adducendo anche problemi tecnici, hanno mandato anche delle turbine a riparare, ma secondo me c'erano delle falsità anche rispetto a certe questioni, a vederlo ex post, probabilmente ci sono stati degli aspetti proprio di manipolazione per fare in modo che proprio ci fosse la mancanza di mercato e che i prezzi salissero. C'erano stati anche incidenti in dei giacimenti russi, un inverno molto freddo, non lo sapremo mai quanto c'era di strategia deliberata o quanto non ci fosse. A quell'epoca, quando c'era l'allarme, un anno fa, quando c'era l'allarme, i nostri stoccaggi europei di gas sono vuoti, sono vuoti, sono vuoti, a quell'epoca probabilmente era in gioco anche un fattore speculativo su questa paura, compriamo contratti, facciamo salire e quindi facciamo necessariamente salire il prezzo del gas. Dopodiché il mercato è diventato super volatile, che vuol dire che i prezzi oscillano tantissimo, è diventato rischiosissimo e costosissimo stare su questo mercato, avrete sentito parlare del problema delle garanzie per poter operare su questi mercati, della Uniper tedesca costretta a salvataggio di Stato perché nel momento in cui si è dovuta approvvigionare sul mercato aveva questi margin call pazzeschi, ma tutti questi non sono fattori speculativi, in realtà sui mercati, come diceva giustamente Til, che a questo punto sono rimasti solo quelli che devono esserci e vi sfido a trovare un mercato dove togli ad un botto il 15% del gas mondiale, ma era anche il 40% delle nostre importazioni europee, il 30%, 40, 50% in Germania addirittura, sfido a chiunque di voi a togliere da un momento all'altro tutta questa offerta e a vedere i prezzi che rimangono fermi dove sono, succederebbe anche al mercato della frutta dietro l'angolo, per quello che non ci arroghiamo di dirvi, vi hanno raccontato balle, però la speculazione è veramente, ha avuto un ruolo marginale. Nicolazzi, parliamo di quello che stiamo cercando di fare, perché propaganda politica o meno, necessità di tenere buona la gente, tra l'altro oltre al gas ci è venuto a mancare molta elettricità da nucleare in Francia che tuttora ha dei problemi e moltissima energia idroelettrica che in Italia è ancora a metà della nostra produzione di rinnovabili e in realtà è idroelettrico, con la siccità terribile che ha colpito l'Europa tutta e l'Italia, i paesi mediterranei in particolare, l'Italia ha avuto un crollo del 40% anche dell'energia idroelettrica quest'estate, ma sfido io a vedere i prezzi che rimangono fermi e indifferenti di fronte a questa situazione, però resta il fatto che questo crea una sofferenza enorme per la società, per le imprese. L'Europa è un anno che sta cercando di mettere qualche rimedio tampone, il primo pacchetto europeo è stato a ottobre dell'anno scorso, era più che altro una serie di consigli, saggi. A che punto siamo adesso? Mentre parliamo noi qua si riuniscono per l'ennesima volta, Nicolazzi, un vertice europeo alle 3 di questo pomeriggio, tra oggi e domani dovrebbero mettere a punto le ultime proposte, tra cui anche un modo per evitare questa volatilità dei prezzi e questi estremi che fanno male, perché poi arrivano alla fine le nostre tasche. Si riuniscono un'altra volta, comincio dal fondo, penso un'altra volta inutilmente. Quello che è successo in questi mesi a livello europeo è stato ciascuno per sé e Dio per tutti, noi ci siamo fatti un pacchettino di una sessantina di miliardi di aiuti a famiglie e imprese, i tedeschi che sono più ricchi di noi hanno messo in pista un pacchettino da 200 miliardi, che comprende tra l'altro la garanzia di fornitura di gas agli energivori sussidiata, per cui gli energivori, le acciaierie, le cartiere, per un anno pagheranno 9 centesimi a kilowattora, che è una minima frazione di quello che è oggi il prezzo pieno. Le piccole e medie imprese avranno il gas a 12 centesimi a kilowattora, buona concorrenza tutti. Anche su questo punto si è sentito urlare sul fatto che cattivi tedeschi perché pensano solo a se stessi, a parte il fatto che anche noi abbiamo pensato molto a noi stessi perché abbiamo messo sul piatto 60 miliardi per le nostre famiglie, ma pensiamo anche un'altra cosa, che io quando ho sentito che la Germania metteva 200 miliardi per le proprie imprese, ho detto per fortuna, perché l'Italia vende, cioè le imprese italiane vendono alla Germania se le imprese tedesche non comperano, sono le imprese italiane che soffrono, quindi anche quello può aiutare. Anche se non vendono, perché poi in realtà dalla Germania compriamo molti prodotti chimici per esempio. Anche quello. C'è già un problema enorme in Europa perché quello c'è un problema di disponibilità. La chimica europea è basata, centrata sulla Germania con queste grandi imprese come la Basque che poi vendono a tutti gli altri, se non funziona la Germania non funzionano tante altre parti, quindi vediamone le interconnessioni. Dopodiché parliamo di mettersi d'accordo per fare degli interventi comuni. Dopodiché nessuno si salva da solo. Questo è l'ennesima dimostrazione che nessuno dovrebbe salvarsi da solo, nessuno si salva da solo. Ma come fare allora a ricompattarsi, a agire insieme? Quello che ha detto ti era perfetto, la mia osservazione era diversa. Noi abbiamo costruito male un tentativo di Europa politica su un'Europa che nasceva come mercato comune. Se noi ci mettiamo a sussidiare in maniera differenziata le imprese tra loro concorrenti dei singoli stati membri, viene giù il castello. Questo era il mio punto. Poi, che noi siamo fornitori di alcuni che godono di questo, hai ragione perfettamente. Però il mio punto era, siamo nati come mercato comune e questo è incompatibile con una concorrenza nazionale sui sussidi. fine. Questo era il mio punto sulla Germania. Però attenzione, noi le abbiamo date in maniera un po' diversa, cioè più sbagliata. Ne beneficio perfino io in termini di riduzione di IVA ed altre cose che proprio non avrei nessun titolo, scusatemi. Però qui c'è un intervento diretto di finanziamento a imprese produttrici e non solo di loro sambattaggio. Abbiamo un attimo avarcato un punto di non ritorno in termini di mercato. Poi che cosa stiamo facendo? ritorno alla tua... ma non lo so, io vedo una commissione che produce tantissima carta. Adesso va di moda quando fanno, buttano in giro un'idea a chiamarla non paper. Ci sono i mitici non paper della commissione. Io non ho capito se li chiamano non paper perché poi non li stampano o per altre ragioni. Però... Perché qualche accademico serio si è lamentato secondo me. Tutto questo... Che paper è un'altra cosa, vero professor Carlos? Vabbè. Allora, oggi vanno a discutere una cosa apparentemente complessa che rischia se non è inutile di essere dannosa e i cui punti sono grossomodo i seguenti. Uno, non si fanno più contratti di acquisto gas superiori a un certo volume senza il permesso di Bruxelles. Dove il volume sono 5 terawattora, che è una forma esoterica e tanta roba, ma comunque... che vuole fondamentalmente dire che è Bruxelles come apparato burocratico e non gli stati nazionali o le società nazionali a mettere il bollino e buono su ciò che importi e da dove la importi. Al fine delle scorte o no? No, no, in generale. È un modo per dirti non andare più a far spesa in Russia, non so come dire, no? Ma non la facevamo lo stesso. Poi introducono una roba che non si capisce se sia un aggregatore di domanda o un compratore. Cioè ci sarà un'unica entità in Europa che raccoglierà la domanda di gas di tutti gli operatori nazionali, privati, quant'altro e cercherà di agevolare una procedura di acquisto congiunto che non si capisce dal testo come funzioni. Sembra su base volontaria quindi non si farà. Quindi non si farà, quindi è un altro pezzo. No, aspetta! Il 15% dei volumi per lo stoccaggio è obbligatorio. Quello che dicevo, lo stoccaggio. Comunque è tutto molto confuso, è un equilibrismo per mediare tra mille interessi. Poi hanno, allora, grande leggenda metropolitana in questi giorni. I prezzi scendono perché gli speculatori hanno paura del price cap. Scusate. Prezzi scendono perché hanno paura che un manipolo di stati membri guidati dal governo italiano impongano un prezzo massimo per tutto il gas importato. Che è tecnicamente impossibile e lo speculatore che non c'è, tu sai quanto si spalenta, insomma, no? Con questo punto di visto. No, no, ma ragazzi, i giornali di ieri, titoli dei giornali di ieri, la paura del price cap allontana la speculazione. Beh, non io, eh. Non ci sono né il price cap né la speculazione, c'è solo il titolo. No, io non ho scritto questo pezzo mai. C'è solo il titolo, no? Allora, hanno introdotto questo meccanismo che è un lip service, un dire al governo italiano e altri governi, dai ve l'abbiamo messo dentro. Hanno inserito questo meccanismo che non esiste. Lo chiamano, non è più un price cap, è diventato un corridoio dinamico. Cosa voglia dire corridoio dinamico? Ve lo lascio immaginare. In realtà vuole dire che si cambia la banda, può essere elastico, può non essere fisso, da qualche parte dovrebbe arrivare un prezzo massimo. Però per mettere in pista il corridoio dinamico devono avverarsi una serie di condizioni il cui avveramento è impossibile. Cioè, è come dire, figliolo, queste sono le chiavi della mia macchina, la puoi usare ma non puoi consumare carburante. Uno si siede in macchina e si ascolta la radio. Non vai in auto. No? Allora, le condizioni messe per la partenza del corridoio dinamico non sono realizzabili e quindi non è un corridoio dinamico, ma è tecnicamente un corridoio cieco. Se vogliamo chiamarlo così. Posso fare una domanda? Allora, tutte queste cose più o meno tecniche, quindi insomma, che fanno capire prima di tutto una cosa, perché noi quando parliamo di fonti parliamo dei costi delle fonti, quanto costino poco adesso le rinnovabili rispetto anche ad altre fonti. Ma non tutti sono abituati a ragionare in termini di mercato. Cioè, poi il mercato, come dimostra appunto questo rapporto tra domanda e offerta, impone dei prezzi che possono di colpo salire al massimo, poi scendere, oscillare, eccetera. Quello che però vorrei chiedere, tutto questo indaffararsi intorno al gas rivela che noi abbiamo storicamente da decenni una profonda e pericolosa dipendenza da una fonte fossile di cui dovremmo sbarazzarci al più presto. So che la storia non si fa con i sé, ma se noi avessimo, oltre al discorso del nucleare che poi affronteremo tra le altre cose nella prossima sessione, ma avessimo cominciato ad investire, a continuare a investire di più anche nelle rinnovabili che si sono invece appiattite nell'ultimo decennio e avessimo le condizioni del Paese, come dire, adatte per impiantare più rinnovabili anche da quando c'è stato il PNR, eccetera. Sarebbe cambiato qualcosa? Cioè, comunque noi dobbiamo per la legge europea sviluppare al massimo queste rinnovabili, non l'abbiamo fatto, siamo legati ancora a una fonte che adesso ci sta mettendo e sta mettendo tutte le nostre economie in profonda difficoltà. Quindi forse la domanda anche come ne usciamo, vuol dire anche in prospettiva più lunga, a parte quello che succede dopo domani, come ne usciamo nel prossimo decennio insomma, in qualche modo da questo tipo di situazione. Io forse a Mattil che la porrei e gli chiederei anche quanto è importante che ci sia un mercato dell'energia anche per stimolare la transizione. Aveva accennato prima al fatto che con questi prezzi diventa ancora più conveniente, ma lo era la grid parity famosa, la convenienza, il fatto che si ripaghino le rinnovabili, era già una realtà prima di tutto questo bailamme. Io partirei da una constatazione che forse, che non sempre viene fatta. Cioè, nella transizione tra fonti fossili e rinnovabili, bisogna pensare a quanto si sta spendendo oggi per comprare all'estero gas, petrolio e carbone o poco, ma comunque queste fonti fossili. Prima della crisi energetica erano circa 60 miliardi all'anno. Oggi credo che siamo, non so, sarà triplicato, una cosa del genere, non si sa bene. Sì, leggevo 90 forse miliardi, però forse era un consuntivo dell'anno scorso. Comunque, ogni pala eolica che si installa toglie una parte di questa spesa. Bisogna pensare in questi termini, cioè se io tolgo il 30% di questo, tolgo il 30% di quella spesa che potrà essere fatta, dato che, certo, devo fare un investimento iniziale per avere i pannelli fotovoltaici o l'eolico, ma poi la generazione è praticamente a costo nullo, quasi, o molto piccolo, perché c'è un po' di gestione, chiaramente, ma è molto molto bassa. La differenza è denaro che non spendiamo e che non mettiamo in una banca del Qatar. Però questo discorso vale per un paese dirigista come la Cina, perché da noi devi individuare dei meccanismi che siano mercato o che siano fondi pubblici a fondo perduto per coordinare il tutto. Non è che chi è da noi che decide invece di darle a catarli, dalle paleoliche. No, ma io lo dico dal punto di vista generale, bisogna pensare che questi investimenti cosa generano nel tempo? Generano la disponibilità di denaro che era, che non andava per investimenti interni, per esempio, nell'economia, nei consumi interni e così via, e che quindi può generare altro genere di crescita economica. Altra cosa comunque è il mercato, il mercato dell'energia è estremamente importante ed è importante che i segnali, i cosiddetti segnali di prezzo, cioè quanto questo prezzo del gas sta salendo, non è che per paura di quello bisogna comprimerlo, tenerlo giù, perché se si fa così, gli operatori che investirebbero in energie rinnovabili stanno fermi. Se faccio costare meno in modo artatamente, faccio costare meno il gas, è chiaro che questo mi rende meno conveniente fare un investimento alternativo. Il prezzo è importante per generare investimenti positivi. C'è un sistema europeo in corso che si chiama ETS, che è l'European Trading Scheme, Emission Trading Scheme, che è uno schema di scambio di diritti di emissione per le aziende energivore e per le aziende che producono energia anche, cosa hanno? Ognuno ha disponibilità di una certa quantità di emissioni, ogni anno vengono ridotte e se non investono per creare impianti che non producono emissioni, devono comprare delle quote sul mercato. Queste quote stanno salendo adesso, stanno salendo di prezzo, ma è importante che salga il prezzo perché se no non ci sono investimenti in alternative, in energie alternative. Quindi il mercato, se funziona bene, è benefico. Gli interventi sul mercato, nel mettere un tetto ai prezzi o cose di questo genere, sono pericolosi, sono molto pericolosi perché creano delle distorsioni. Anche nei meccanismi di finanziamento delle rinnovabili, perché poi esistono determinati contratti in cui finanzi un'opera con l'aiuto delle banche, però sulla base di economics del futuro. Ecco, se è tutto sballato, se è volatile, se il prezzo oscilla continuamente, se non sappiamo quanto costa oggi, quanto costa domani, quanto costerà fra due anni, non si riesce neanche a fare operazioni di project financing sostanzialmente. E poi un prezzo artatamente basso non aiuta neanche l'efficienza o la diminuzione dei consumi. Se noi abbiamo gas a presto sussidiato accumuleremo enormi debiti pubblici e non riusciremo neanche ad arrivare magari al ragionamento di spegnere qualche luce o fare la lavatrice di notte. Io scherzo sempre sul fatto, io sono cresciuta, ero bambina negli anni 70, shock energetico, domeniche a piedi. I miei genitori, me lo ricordo ancora adesso come un ritornello, spegnete quella luce, ma a chi serve quella luce, se esci da una camera spegni la luce. E mi sono resa conto che io invece quest'estate alle mie figlie che hanno 19-14 anni dicevo spegnete quel condizionatore. Facciamoci due domande, quanto consuma un condizionatore rispetto alla lampadina che mio papà mi diceva di spegnere? Ecco, dovremmo avere una consapevolezza non solo di come sono belli Friday for Future, ma di come noi siamo anche diventati viziati in termini di energia, di come le risorse naturali siano un valore che non va dissipato. A me piacerebbe vedere da parte di tanti ambientalisti, di tanti giovani idealisti, anche un senso di quanto valgono le risorse che noi giustamente utilizziamo nel mondo. Però, scusate, mi è venuto un momento mamma, ma chiudo la paretta. Scusa, anche dato che anche l'uso dei computer oggi ha già raggiunto quasi il 5% dei consumi mondiali di energia. I grandi database, sono le criptovalute che piacciono tanto oggi. Adesso c'è un momento vecchio. Pensate una cosa, che se voi scambiate delle fotografie, più piccola è, meno energia consuma. Se io mando in giro dei file attaccati a degli email in continuazione, adesso vanno veloci. Ma ogni volta che uno fa un gesto del genere e consuma più energia, un megabyte di data, è terribile. Allora, stiamo attenti che anche quello vuol dire pensare un pochettino al pianeta. E i segnali di prezzo contano. Uso questi 5 minuti per fare un altro domandone di quelli grossi, che spero che il prof. Nicolazzi riesca a sintetizzare. Il TTF, che odiamo tutti, che è il riferimento dei prezzi che abbiamo. No, lo sanno cos'è. Quella cosa terribile che gli olandesi ci impongono cattivi. No, mi dovrei prendere la mezz'ora di Zollino, che dovrebbe venire dopo di me per spiegare questa cosa. No, noi stiamo usando un parametro giusto per i prezzi, perché tra le tante cose che in Europa discutono da tanto tempo, e questo si ascoltano qualche telegiornale, secondo me l'hanno sentito, abbiamo sbagliato il riferimento, ci stiamo facendo fregare da un prezzo che hanno inventato gli olandesi, adesso non entreremo nel dettaglio, ma abbiamo un parametro giusto dei prezzi? Abbiamo dei parametri. Fammi fare una battuta sui segnali di prezzo, però, nel senso che per semplificare un po' quello che dicevamo prima con una battuta, io penso con angoscia alla mia eroina, che è la signora Gina, che spesso cito nei miei scritti. Che non è una droga. No. Penso, in questo inverno la signora Gina che deve spiegare all'Antonio che bisogna mangiare sta roba strana che assacciamo a sashimi perché costa meno dello spezzatino, perché tre ore sul gas dello spezzatino voi potete mangiare il pesce crudo, insomma, no? Quindi un segnale di prezzo diventa anche questa cosa, per paradosso. TTF, HABS ed intorni. Una volta c'erano contratti bilaterali del gas di lungo periodo, ciascuno si faceva al prezzo suo e dato che i contratti di lungo periodo devono avere un indice di adeguamento del prezzo costruito dentro, il petrolio era liquido, il gas evaporava, i contratti di importazione di gas di lungo termine erano indicizzati rispetto alle variazioni dei pezzi di certi prodotti petroliferi che venivano assunti come base. Poi un giorno è arrivata sta roba strana che abbiamo cominciato a comprare il gas in navi e non ad aspettare che ce lo portasse il tubo, no? Il gas che va via tubo va dove lo porta il tubo, il gas che va via nave va dove lo porta il prezzo. Diventa in qualche modo un mercato simile a quello petrolifero. più navi, più liquidità, più vendite spot, cioè più aumentavano gli acquisti di gas tipo se vado dal panettiere e mi compro la pagnotta, non faccio l'abbonamento 365 pagnotte, lo spot è questa roba qui. C'erano una serie di mercati regionali o infraregionali dove arrivando liquido si trattavano spot. Il primo è stato quello inglese, poi l'Olanda ha fatto un grande rigassificatore, dall'Olanda passava anche il gas che veniva dalla Norvegia, c'era il nonno moribondo, Gröningen, il giacimento che ho citato prima che non era ancora moribondo. l'Olanda è diventato il singolo mercato dove si trattava più gas. Il crocevia più affollato per il gas, il punto in Europa dove ne fa affollato. adesso che abbiamo un mercato liquido del gas, indicizziamo a gas i contratti di lungo periodo e non li indicizziamo a petrolio. e come li indicizziamo? Ma qual è il posto in Europa dove se ne contrabbanda di più? Ed era l'Olanda. E quindi oggi i contratti dell'Eni con Gasparum sono indicizzati all'andamento del TTFE. Abbiamo insistito per anni, abbiamo negoziato per anni perché i russi, perché i norvegesi, perché i libici, gli algerini, no, basta, noi non vogliamo più che i nostri contratti per l'acquisto di gas siano legati al petrolio, ai prodotti petroliferi. Noi vogliamo comprare gas con un prezzo indicizzato, legato alle associazioni del gas. Sottrago 30 secondi. Era un periodo in cui costava molto poco. Sottrago 30 secondi, 30 alle domande, solo per completare questo tuo pensiero. Con la guerra si sono invertiti i flussi del gas in Europa. Una volta il flusso prevalente da est veniva ad ovest, col venir meno del russo da ovest va a est. Il punto di ingresso più importante era l'Olanda, l'Olanda si è trovata con le infrastrutture intasate a causa di questo cambio di flusso. Col risultato che il TTF è diventato il posto in Europa dove il gas costava di più per alcuni mesi. E' questo che ha fatto urlare alla speculazione. Era un tema di infrastrutture. Ci hanno appena messo due nuovi rigassificatori, li hanno ordinati dopo che noi abbiamo ordinato quello di Piombino, però già sono in funzione, aperta parentesi, chiusa parentesi, vi comunico che da quando funzionano il TTF è tornato a quotare meno del PSV, cioè del mercato italiano. Abbiamo smesso di comprare a piene mani perché le scorte sono già fatte, non abbiamo più dove metterle. Comunque, io ci tengo che qualche stimolo ce lo lancino loro, il nostro pubblico, che arrivino delle domande, cercheremo di essere chiari, non so se lo siamo stati finora, abbiamo cercato. Prendiamo i microfoni. Abbiamo cercato di esserlo e se non lo siamo stati potete anche invitarci a tornare a qualche punto. Per dire, dare un grazie Sissi Bellomo, grazie a tutti voi perché è un tema molto molto complicato quello che è l'economia del gas fondamentalmente, ma credo che ci siano stati degli spunti per capirlo un po' meglio. Volevo solo mostrare questo libro dal titolo Politico Nicorrect di Antoniazzi, Elogio del petrolio, che quando l'ho visto in libreria mi ha fulminato, me lo sono comprato da Feltrinelli, che più o meno racconta tutta la cosa che dicevi all'inizio, cioè quanto nel secolo scorso, però è ancora nel secolo prima, le fonti fossili siano state sicuramente all'origine di un benessere, di uno sviluppo economico che adesso però ci fa pagare il conto a causa delle emissioni e va bene. E anche, fai vedere pure Andrea, ecco, invece il libro di cui abbiamo parlato anche a Scienze in Rete, delle sette lezioni sulla transizione climatica, che racconta di più il discorso proprio della transizione. la manderemo come bibliografia alle scuole, ci siamo già in contatto, l'ho detto già al professore. Allora, io ho preso le domande dei ragazzi, poi i professori o i presenti, se poi vogliono. Allora, c'era una domanda che ci incuriosiva, quindi capendo che il prezzo del petrolio non è basato sulle fake news della speculazione, dicendo che appunto si lega al discorso, scusate, del gas, si lega al discorso del petrolio, come è stato spiegato. La domanda è, ma allora, oggi, se io dovessi veramente pagare un chilogrammo di gas? Cioè, io ho la macchina a metano, un giorno sono andata in un distributore, l'ho pagato 3,5 al chilogrammo, euro, l'eni, così, aveva messo il prezzo. Un altro me lo vendeva a 2,2, finalmente sono riuscita a trovare a 1,6,99 vicino casa. Vi ricordo che prima lo pagavo meno di un euro. Quindi, secondo voi, quanto dovrebbe essere oggi il prezzo, cioè, rispetto alle risorse possibili che abbiamo ancora nel pianeta, quindi il 40% che ci deriva dall'Algeria? Non si può stimare. Non si può dire quale dovrebbe, e comunque quando si arriva all'ultimo anello della catena, della distribuzione, bisogna tenere conto che vanno ripagati anche tutta una serie di anelli di questa catena, c'è la distribuzione, la lavorazione. Però quelli ci sono sempre stati anche prima. Il benzinaio, il gasaio, non so come si chiama. Allora, si deve remunerare tutta una serie di cose, è una valanga di tasse. È una valanga di tasse. L'Italia è uno dei paesi al mondo dove paghiamo più tasse sui carburanti, tassi accise e varie. Vabbè, però i parametri per cui dovremmo... Il prezzo, per quello che ci sono i mercati, perché i mercati aiutano a definire il prezzo. Se c'è un venditore che può mettere un prezzo più basso, vende di più. Per cui la concorrenza tra venditori che riescono ad abbassare, fa abbassare il prezzo. Poi bisogna che il mercato funzioni. Fino a quando, cioè se un mercato funziona, il prezzo si abbassa fino a che questo copre i costi di produzione e il beneficio che ciascuno degli operatori ritiene congruo. Dopodiché non c'è altro modo per definire un prezzo della risorsa. È una risorsa che si trova sotto suolo, uno fa un buco, gli costa fare un buco e dopodiché quello che tira fuori ha un costo di estrazione, eccetera, eccetera. Ma è piccola cosa rispetto al costo finale che si paga sul mercato. Nicolazzi vuoi aggiungere qualcosa? Se parliamo di gas parliamo di mercati e non di mercato. Noi senza indignarci siamo andati avanti per anni che il gas in Europa costava tre volte quello che costava negli Stati Uniti semplicemente perché gli Stati Uniti avevano un eccesso di produzione. Poi noi ce l'avevamo via tubo e l'Asia lo pagava un 30-40% più di noi. Quando il russo è uscito dal tavolo per la prima volta il gas è costato più in Europa che in Asia per alcuni mesi. E questi sono gli unici riferimenti di cui disponiamo. Poi in vari posti d'Europa costa diverso. Per raccontarvi una strana variante. Da noi, day ahead, per il giorno dopo, il gas oggi prezza più o meno 70 euro. In Spagna, per megavattore, in Spagna te lo danno a 30. Ma perché te lo danno a 30? Perché c'è un ingorgo di metaniere che non riescono a scaricare e col prezzo dei noli delle navi, purché tu glielo ritiri, te lo danno a qualunque prezzo pur di liberare la stiva. Cos'è che pigliamo come riferimento? Noi in Italia possiamo prendere come riferimento solo la piattaforma italiana, se vogliamo, che si chiama PSV, punto di scambio virtuale, fa riferimento alle compravventi di gas fatte dentro il tubo della rete nazionale. Oggi quota anche lei un po' più di 70 o forse qualcosa meno, non l'ho vista stamattina, ed è sempre stata abbastanza allineata col prezzo olandese. No, mi sembrava che un modello... Ecco, se posso aggiungere... Scusa, un'ultima cosa. L'ultima cosa è che questi prezzi non hanno il prezzo del carbonio, perché ancora una tassa sul carbonio generale che compensi, compensi, diciamo, tra virgolette, il danno che le emissioni fanno non è piazzato a livello della risorsa. In Europa si paga, diciamo, attraverso quel sistema per le industrie energivore che dicevo prima, ETS, ma è seguente, non è sulla risorsa. Mi sembrava che i modelli matematici potessero in qualche modo aiutare a prevedere quanta... Cioè, nel senso, si parla del picco, non so, del petrolio, per cui si può sapere esattamente quanto è possibile la risorsa metano. Poteva essere un'idea... Cioè, in realtà, io quando vado a comprare un gioiello, so che l'oro comunque è un metallo prezioso che mi costa... Ma anche il prezzo dell'oro cambia continuamente, però. Sì, ma non... Certo... No, no. Ah, ecco. Sì, sì, cambia parecchio. Non è che cambi poco. C'è la storia che nel Cinquecento, nel Seicento, Cinquecento e Seicento, i tulipani costavano... I volvi dei tulipani, ma un bulbo di tulipani costava milioni. Perché è una questione rilevante che ha a che fare con la richiesta. Anche l'offerta e la domanda dipendono dal mercato, tutto sommato. Stefano Sandrelli, che è un altro docente del Master. Prego. Grazie, Luca. Volevo chiedervi questo. Io ho la sfortuna, ho la fortuna di essere di Piombino. La cosa che voglio chiedervi è questa, perché mi ha scioccato abbastanza, proprio come professionista della comunicazione. Perché, secondo voi, non è stato tentato nessun approccio di coinvolgimento democratico della popolazione di Piombino nel tema del rigassificatore? E ripeto, nessun tentativo. E' certo che non sia stato fatto nessun tentativo. Sì, è venuto... Perché io ho qualche dubbio, è vero che io dubito di qualunque cosa, sono veramente... Strano perché... Presidente della Regione Gianni, che ha illustrato il progetto. Ma questo non è un tentativo di coinvolgimento democratico della popolazione. No, volevo sapere soltanto se... Io nello specifico non sono in grado di rispondere, anzi, mi sorprende questa tua affermazione, che non sia stato neanche tentato. Non so se tutti in sala sa cosa sono i rigassificatori, perché anche questo è un elemento informativo da dare. Cioè, in tubo il gas è gas. Nelle navi viene liquefato, peraltro con un bel costo, perché voglio dire, liquefare del gas non è come mandarlo via tubo. Quindi arrivano le navi, arrivano nei porti e li va rigassificato. Tutto questo è stato, come dire, imposto ancora di più dall'emergenza, perché non era più il gas dal tubo. Immagino con prezzi anche superiori. Che in Italia si facciano fatica a fare anche i rigassificatori, immagino che in Olanda, forse anche senza consultazione, le abbiano fatte al volo, è un discorso lungo, ma se qualcuno, comunque dei relatori, vuol dire la sua su questo, è interessante. Allora, scusa, un attimo. Prendo insieme quello che diceva lei e quello che è stato detto adesso. Dimenticatevi che esista qualunque rapporto storico tra costo di produzione di un idrocarburo e suo prezzo. Perché se no non ci capiamo e cominciamo a dire che giustamente no, il liquefatto lo devi liquefare, quindi ti parte il controvalore di un 15% del gas che hai comprato in forma naturale, poi lo devi trasportare e nella nave lo dovete tenere a meno 152 il gas, se volete che vi resti liquido. Quindi non è precisamente un cargo con dei container sopra. E poi in arrivo lo devi rigassificare. Ok, questo è il processo. Dentro questo processo, se voi oggi comprate negli Stati Uniti a prezzo americano del gas naturale, lo liquefate, lo trasportate per nave, lo scaricate in Europa, lo fate passare dal TTF già a gas naturale, se proprio siete stati inefficienti, tutto questo a destinazione vi costa 35-40 euro, vi è capitato di rivenderlo a 350. Di questo stiamo parlando. Piombino, due battute per rendermi antipatico. Io credo che la politica energetica italiana non possa prescindere come priorità dall'abolizione dell'attuale versione del titolo quinto della Costituzione, che è quella che sottopone all'approvazione di autorità politiche regionali, provinciali, comunali, quartierali e quant'altro. Qualunque progetto di interesse nazionale, credo anche debba passare dall'interdizione alle sovrintendenze a occuparsi di infrastrutture energetiche, perché a Piombino quello che sta succedendo è che è in corso una perizia tecnica per capire qual è il colore più adatto per il rigassificatore, su richiesta della sovrintendenza, dipingi di rosa il tuo rigassificatore, credo che dobbiamo tornare all'antica abitudine per cui l'energia è fatto di pianificazione e di interesse nazionale, se l'energia nelle installazioni che le sono necessarie comporta disagio quant'altro, cerchiamo di trovare il modo di risarcirli e di metterli in conto, non di fare comunicazione, vi ricordo che questo è il sistema con il quale in Francia fanno a gara i comuni per ospitare depositi provvisori di scorie nucleari, perché con quello che si prendono di finanziamenti e di benefici per questa scelta, sono in concorrenza assoluta tra di loro, quindi più che di comunicazione parlerei in qualche modo di profumato risarcimento del disagio. Posso fare un'altra domandina? Sì, volevo aggiungere una piccola cosa su questo, che dopodiché è vero che non sempre è stato fatto un lavoro accurato di concertazione anche sul territorio per le infrastrutture in Italia, in alcuni casi è stato fatto meglio il suo lavoro, in altri casi è stato fatto peggio, certamente contano anche il substrato culturale, abbiamo visto, sentivo stamattina la radio, Ravenna l'ha approvata l'installazione del regassificatore con opposizione e maggioranza che hanno votato con Patti per il sì certo lo vogliamo il regassificatore a largo di Ravenna, ma a Ravenna da sempre si fa industria estrattiva e petrolifera. In certi casi in Italia sono stati fatti degli errori enormi anche di comunicazione, dando forse un aiuto al nascere di fenomeni come i NoTap, NoTav, eccetera, eccetera. Dopodiché è vero, come diceva Nicolazzi, che bisogna concertare, bisogna discutere e bisogna risarcire il territorio in qualche modo. Chiedono adesso in Basilicata di avere ulteriori benefici per il fatto che hanno i posti di petrolio, in Puglia vorrebbero adesso ottenere quello che sdegnosamente rifiutavano ai tempi del TAP, e poi c'è un problema davvero culturale che colpisce non solo l'oil and gas, ma anche le rinnovabili in Italia, ahimè, che è quello, si fanno le guerre anche contro le paleoliche, contro i pannelli solari, poi magari diciamo tutti di essere verdi. E poi chiaramente c'è il tema che oggi abbiamo toccato poco del permitting, da noi c'è un problema terribile, ci sono troppe voci che possono dire la loro, che possono mettere i bastoni fra le ruote e che riescono a fermare qualunque opera, anche quelle più pulite e che servono per la decarbonizzazione. E mi chiudo qui. Direi che il tempo, volevo solo dire una cosa, ma poi abbiamo finito il tempo, voglio solo un'ultima piccola cosa con risposte rapide. In termini di Amarcord, l'austerity del 70, eccetera. Un tempo il sistema energetico era nazionalizzato, no? Poi abbiamo aperto il mercato e tutte queste discussioni che abbiamo fatto oggi sono riconducibili al mercato. Macron ha nazionalizzato l'EDF in Francia. Tutto questo come si connette con tutti i ragionamenti del mercato libero? Cioè c'è anche questa, visto che in Francia è successo, cosa cambia questo nel nostro panorama economico delle fonti energetiche? Domandina proprio, insomma. Però ero curioso, visto che ho visto questi segnali politici. Faccio, faccio. Io credo che l'energia ha degli elementi profondamente strategici per una nazione per cui ci sono degli aspetti di sicurezza nazionale che vanno tenuti presenti. Dopodiché l'energia come sta evolvendo appunto con l'ingresso delle rinnovabili diventa un qualche cosa di molto diverso perché sta diventando un qualcosa che è prodotta da tantissimi, molti di voi magari hanno già pannelli fotovoltagi sul loro tetto e producono energia anche per altri. Quindi sta diventando un qualcosa che non è più un mercato concentrato su grandi monopoli ma diventa un mercato molto più complesso, più libero, più diffuso. Questo sta cambiando completamente e deve cambiare e poi cambierà naturalmente anche strutturalmente il sistema perché invece di essere un sistema in cui c'erano grandi nodi che producevano energia e grandi assi che la portavano fino alla periferia funzionerà, dovrà funzionare all'incontrario e quindi dovranno essere realizzate reti di alta tensione anche che partono dalla periferia e portano all'interno eccetera eccetera, un sistema intelligente governato dall'intelligenza dell'informatica con attuatori automatici che derivano, che cambiano i flussi eccetera eccetera, è tutta un'altra cosa quello che si deve sviluppare domani, però è essenzialmente anche una questione di sicurezza nazionale. Ma poi rispetto alla questione del... è chiaro che la discussione e il coinvolgimento del cittadino è fondamentale. vivendo in una democrazia non si può non coinvolgere cittadini, però non si può neanche accettare questa sindrome dei not in my backyard, quello che in americano, in inglese si dice NIMBY, che è sì è importante fare questo ma non lo fate qui, lo fate dall'altra parte e diventa una discussione ingestibile, per cui ci deve essere un aspetto di formazione e informazione delle persone come prima cosa, molta formazione e informazione, ma poi devono essere queste decisioni che hanno anche aspetti compensativi. Ma voglio dire, però dobbiamo essere anche un po' più rispetto per esempio all'aspetto del paesaggio. Noi stiamo facendo, cioè ci sono regioni o località che si oppongono alle paleoliche, ma quando mai ho visto delle opposizioni vere a dei ripetitori televisivi, oppure a delle antenne su tutti i tetti e delle parabole di qua e di là, ma abbiamo un metro che è molto diverso per cose diverse e per quelle che ci interessano noi, perché tutti vogliono vedere la televisione, non dicono assolutamente niente se c'è un ripetitore. E anche questo impone una regia centralizzata, una pianificazione lungimirante, attenta, che vada a pianificare per decenni a venire, perché i tempi sono lunghi. No, volevo solo dire rispetto a una domanda che hai posto, molto sinteticamente, domani sarà ben godi, però bisogna arrivarci e senza sostegno statale, senza concertazione pubblica, la transizione che ci manca da fare non va neanche a incominciare se lo lasciamo al mercato. L'economia è spesso un fatto di mode cicliche, il mio incondizionato consiglio, che sarebbe il caso di mettere in cantina Friedman e rimettersi a leggere Keynes. E con Keynes chiudiamo la prima sessione, potete fare un po' di stretching, c'è anche una macchina del caffè, quindi chi prima parte ha probabilità di berlo, ma alle 11.05, c'è 10 minuti massimo, si comincia con la seconda sessione, che sarà ancora più sulle fonti rinnovabili. Bene, allora ricominciamo perché non dobbiamo perdere l'attimo e proseguire con la seconda sessione, con la seconda sessione che ci porta a ragionare di più sulla transizione necessaria, transizione energetica verso l'elettrico, perché come sapete per decarbonizzare la nostra società e l'economia entro la metà di questo secolo e vedremo se ce la faremo per arrivare allo zero netto, si tratta di fare una transizione essenzialmente verso l'elettrico o combustibili comunque che non emettano gas clima alteranti, infatti questa sessione l'abbiamo intitolata appunto verso l'elettrico, la sfida delle rinnovabili, verso cui necessariamente dovremo portarci ad aumentare la loro quota, il possibile, possibile però come dire un altro tema di discussione, il ritorno del nucleare, il ritorno in Italia del nucleare, c'è in molti paesi come sapete il nucleare anche se alcuni li stanno chiudendo altrove invece stanno reinvestendo sul nucleare e ovviamente l'imperativo dell'efficienza. Abbiamo composto per questa seconda sessione un menù di tre persone che in qualche modo ci danno un ampio spettrio di opinioni e di competenze che coprono un po' tutti questi argomenti. Dalla mia sinistra abbiamo quindi Giuseppe Zollino che è professore di tecnica ed economia dell'energia all'Università di Padova e di insegna e docente anche di impianti nucleari, peraltro Giuseppe Zollino è il responsabile del tema dell'energia per il partito in azione di Calenda Renzi e quindi ha dato anche il suo contributo in questo discorso. Abbiamo poi Gianluca Ruggeri dell'Università dell'Insubria ma è anche ingegnere ambientale e è anche cofondatore dell'associazione E Nostra che è un'interessante associazione mi verrebbe da dire di azioni a riato popolare o comunque di coinvolgimento proprio di cui si parlava un po' prima delle persone perché investano nelle energie rinnovabili e possano diventare non solo consumatori e avere delle approvvigionamenti elettrici che siano al 100% rinnovabili ma anche diventino magari non solo consumer ma anche consumer, anche venditori di questa energia. Questo è un movimento dal basso anche molto interessante, si parla anche di comunità energetiche, parleremo anche di questo e Aurora d'Aprile che io ho conosciuto tanti anni fa perché ha cominciato credo a scrivere di argomenti sul clima, quanto una quindicina ad anni fa forse, sul clima ha lavorato sui temi del clima, del cambiamento climatico, di energia e tante altre cose anche nella CMCC che è questa fondazione che si occupa di cambiamenti climatici, ora lavora Carbon Sync che fa parte del più grande gruppo multinazionale del South Pole e che si occupa di un'altra cosa che pochi forse conoscono ma che sono le strategie attraverso le quali le aziende fanno e devono fare questo percorso di decarbonizzazione che non riguarda peraltro solo la bolletta elettrica ma tante altre pratiche che devono essere messe in campo per arrivare anche a livello di aziende, anche a livello di industrie e di imprese, piccole o grandi che siano, a una sempre minore emissione di gas clima alteranti, quindi diciamo veramente è il futuro ed è un futuro importante. Si parla non dell'oggi, non dell'ieri ma anche molto in questa seconda sessione appunto del nostro futuro energetico, del nostro futuro economico anche. La prima cosa che vorrei chiedere a chi vuole rispondere di voi a questa prima domanda è vorremmo riallacciarci anche a quello che è stato detto nella precedente sessione, molto interessante sulla situazione attuale, sul gas, sul mercato, forse avete capito quanto e non sempre non si capisce appieno quanto conti il mercato, i meccanismi del mercato nella determinazione dei prezzi e dei consumi energetici e delle strategie. Quindi se qualcuno vuole riallacciarsi a quanto detto precedentemente con qualche commento partirei proprio da questo. Buongiorno a tutti, più che commento volevo solo aggiungere una piccola informazione. In una logica di mercato il prezzo varia a seconda della domanda e dell'offerta. Questo è stato riportato un esempio del 1600 quando c'era stata una bolla, che su tutti i libri di storia è scritta speculativa, all'epoca si poteva dire, sui tulipani. Però ragazzi, se costano cari i tulipani compriamo margherite. No? Nell'energia se costa caro il gas facciamo nucleare. Sì, tra 15 anni però. E intanto faccio in tempo a chiudere tutto. L'energia è una cosa speciale. Se a Milano improvvisamente tutte le cliniche che fanno le dialisi decidessero di farle costare 15 volte di più, giustamente non per speculazione, perché mancano i pezzi. Che facciamo? Aspettiamo che cali la domanda di dialisi e che il prezzo torni a quello che era prima? Questo è successo nel gas. La domanda è calata. Non c'entra niente il caldo. La domanda domestica e degli ambienti che non sono riscaldati al 20 di ottobre ha dato un piccolo contributo. Ma un dato che è stato scritto anche sul Sole 24 Ore, avevamo qui la bravissima Sissi Bellomo prima, è che lo scrivono loro, io non ho i dati sotto mano, 22,5% in meno di consumi di gas nel settore industriale a settembre 2022 rispetto al 2021. I segnali di prezzo funzionano se, ripeto, io invece di comprare tulipani che costano cari, regalo alla mia fidanzata, a mia moglie, rose che costano di meno. Chi produce piastrelle e ha i forni a gas non può nemmeno inseguire il mercato del giorno, il prezzo di domani. Un forno per piastrelle o per vetro ha sette giorni di tempo per andare in temperatura, perché non si può salire rapidamente, e sette giorni per tornare ad essere a riposo, perché sono più di mille gradi. Non è che la piastrella si può cucinare a 500 perché così uso meno gas. Infatti hanno fermato la produzione, meno 22,5% di consumi di gas a settembre. Ottobre sarà uguale. Sui libri dei mercati, li studerete all'università, li abbiamo studiati già noi che siamo più vecchi, c'è scritto che tutta la curva, poi ci sono le curve con diversa pendenza, ci sono le curve quasi verticali della domanda, quando la domanda è rigida. La domanda può essere rigida per pigrizia, è stato citato quando eravamo giovani, ci dicevano spegnete la luce, fate la lavatrice la notte, adesso ci diranno fate la lavatrice a mezzogiorno, perché c'è la produzione solare che è al picco e di notte dobbiamo usare le batterie per far andare la lavatrice. Vabbè, cambiamo, ma quella è una questione, spostare l'orario non fa male. Ma altri consumi non possono essere facilmente sostituiti. Ho citato il forno, adesso stanno cominciando distretti industriali a chiedere deroghe, sospensioni, dei divieti che ci sono sull'uso di certi, li chiamano vettori energetici. Invece di avere i forni a gas, ci brucio dentro qualsiasi altra cosa, nafta, GPL, gas costa troppo caro. Però non si fa da un giorno all'altro, ci vogliono alcuni mesi e ormai si stanno abituando a quest'idea. Diciamo, ma perché non lo facciamo a idrogeno? Anche quello, passare all'idrogeno vuol dire cambiare il lato della domanda. Non è che quello che oggi funziona a gas o a energia elettrica o a qualunque altro vettore, mettiamo il jet fuel degli aerei, lo facciamo andare a idrogeno così, con uno schiocco di dita. Ci vogliono investimenti, ci vuole tempo, ci vuole un progresso controllato delle cose, non sbalzi avanti e indietro. L'OPEC venne costituito con grande sforzo dei paesi utilizzatori di petrolio, non per tenere particolarmente basso il prezzo del petrolio, ma per contenerne le oscillazioni. Quando il prezzo sta scendendo, quelli fanno un accordo per ridurre la produzione perché gli interessa, come pure quando sta salendo troppo fanno un accordo per aumentarla perché vogliono evitare che qualcuno switchi alla macchina a gas piuttosto che alla macchina a benzina. Poi ci sono le deviazioni, le anomalie, ma il concetto è questo. Non possiamo accettare che il pubblico si astenga dal fare un qualunque tentativo di intervento quando le variazioni di mercato sono a livello di un fattore fino a 14. Rispetto non a un minimo che si era riscontrato per un sistema eccezionale, rispetto alla media di quanto è costato il gas e l'energia elettrica nei precedenti dieci anni prima del covid, noi siamo arrivati a pagare all'energia elettrica, costava 55, l'abbiamo pagata alcuni giorni di agosto 700. Questo non è mercato, questo è una cosa che non funziona. Non funziona e non ha funzionato soprattutto perché non c'erano dei meccanismi di intervento che regolassero oscillazioni esagerate, ma anche il meccanismo di formazione del prezzo. Voi non sapete che quando tutta l'energia elettrica costa 700, perché il gas costa caro, stiamo pagando 700 anche l'energia idroelettrica che invece viene prodotta a 20. Dice però sai se cambiamo il meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica rischiamo di fare danni, più danni di così, mi pare complicato immaginarli. Quindi responsabilità è anche di chi non ha regolato il mercato. Il mercato è certamente il meccanismo più trasparente, quando è trasparente, di stabilire quanto costa un bene. Vi dico una cosa che è stata accennata al tavolo precedente. Nell'Arabia Saudita dove ci sono giacimenti migliori, tutta l'area, tutta quell'area lì, non solo l'Arabia Saudita, nella penisola arabica il petrolio si estrae, sono numeri che ti dicono gli addetti ai lavori però dicono non lo dire a nessuno, si estrae tra 2,5 e 3,5 dollari a barile. Poi si pagano le royalties dagli stati dove i pozzi sono collocati eccetera, ma il barile di petrolio, non so quanto è quotato oggi, ma insomma possiamo dire intorno, sotto o sopra, 80, 90, 100, estratto a 2,5. Poi ci sono luoghi dove costa di più estrarlo. Nel Golfo del Messico si estrae 1600 metri sotto la crosta del fondo marino che sta a sua volta ad oltre 1000 metri. ci sono tecniche di estrazione molto evolute che consentono di estrarre gas, petrolio, scusate, complicato, no? E lì costa 15, 20 dollari a barile. Poi ci sono le royalties sopra, poi ci sono tutti i processi di raffinazione. Non guardate adesso la benzina, parliamo del barile di petrolio. Non è da sorprendersi. Voi non pagate l'oro quanto costa estrarlo o i diamanti quanto costa estrarli. Lì i ricarichi sono persino più alti, però sono dei beni dei quali, tranne in applicazioni particolari dove serve oro, ma sono veramente delle cose particolari, sono beni che uno, si regola se comprarli o no, non ha bisogno di consumare ogni giorno diamanti oppure oro. L'energia secondo me va gestita in un modo analogo a come vengono gestiti i servizi sanitari, perché sono entrambi beni essenziali. Poi dirò qualcos'altro sulle tecnologie. Certo, se ci sono altri commenti che riguardano quanto ho detto prima sul mercato, su qualcosa del genere, prego. Non so se Gianluca Ruggeri vuole... Ma io provo a fare un salto, nel senso che sono arrivato che la discussione era già iniziata, quindi magari mi sono perso dei pezzi, ma quello che ho sentito nella prima sessione, in parte anche quello che ho sentito adesso, se devo riassumere quello che mi porto a casa, è che il sistema che abbiamo costruito negli ultimi trent'anni non funziona più. Poi possiamo stare a discutere di tutta una serie di meccanismi... Non aggiungere qualche cosa, buttarlo via forse no, non aggiungere qualche cosa. Di fatto in questo momento non funziona più. Se poi ci aggiungiamo che gli scienziati del clima ci dicono da trent'anni che non funzionerà più per altri motivi, che non hanno nulla a che fare col mercato, ma col tema della crisi climatica, che cominciamo a sperimentare anno per anno, ma che sarà sempre peggio. Se pensiamo che sia pesante l'onere economico della crisi energetica è perché ancora non abbiamo avuto modo di pagare l'onere della crisi climatica per quando sarà se non facciamo in modo che l'aumento della temperatura non arrivi ai 5-6 gradi che potrebbero ancora essere un orizzonte raggiungibile se continuiamo indiscriminatamente a consumare le fonti fossili come abbiamo fatto negli ultimi 50 anni, anzi aumentando. Quindi abbiamo questi due orizzonti e di fatto questo significa che non è che possiamo risolvere la questione secondo me modificando meccanismi di fornitura, di formazione del prezzo, dobbiamo interamente rifare tutta la nostra società. La sfida della crisi climatica non è una sfida che secondo me neanche risolviamo se decarbonizziamo il sistema energetico. Faccio un esempio molto banale, ma tra le azioni più efficaci per la riduzione delle emissioni identificate da quello strumento straordinario di scienza condivisa a livello globale che è l'IPCC, che è questo organismo dell'ONU in cui i scienziati di tutto il mondo si mettono e condividono i risultati della scienza per delineare da una parte qual è il problema e quali sono le strade per risolverlo. Una delle strategie più efficaci è il cambio di dieta e la riduzione dello spreco alimentare, per dire. Perché? Perché in quelle due filiere evidentemente stiamo producendo molte più emissioni di quelle che possiamo produrre. Se arriviamo al sistema energetico, noi abbiamo costruito un sistema energetico basato sulle fonti fossili, che sono una straordinaria ricchezza, hanno delle caratteristiche che nessun altro ha. Io non credo che semplicemente sostituendo una fonte con un'altra noi arriviamo neanche lontanamente a risolvere il problema. Per fare una battuta, se noi pensiamo che il fotovoltaico sia la risposta, se noi pensiamo che l'eolico sia la risposta, se noi pensiamo che il nucleare sia la risposta, secondo me è perché non abbiamo capito la domanda. La domanda è ben più complicata. Allora, in questa sfida, che è una sfida che la vostra generazione avrà come compito, come dire, proprio generazionale, cioè voi dovrete prendere un mondo che noi in parte abbiamo preso dai nostri padri, l'abbiamo un pochino modificato e ve lo dovrete rifare da capo, dovrete rifare il modo in cui sono realizzati i nostri edifici, il modo in cui ci muoviamo, il modo in cui è organizzata la città. Giusto per, e poi chiudo su questo, ma se noi pensiamo a come è fatta la città, fino al Settecento la città era fatta attorno alla risorsa legno, che era materiale da costruzione, fonte energetica, i mezzi di trasporto erano fatti in legno, poi in Inghilterra c'è stata la crisi energetica elisabettiana nel Settecento, perché non è che questa è la prima crisi energetica e quindi non avevano più legna da bruciare, tutta la legna l'avevano usata per fare le navi, per fare le guerre contro l'invincibile armada e quindi si sono trovati costretti a dover ricorrere al carbone, il carbone non è che non ci fosse prima, c'era anche prima, ma era meglio usare la legna che usare il carbone. Per usare il carbone però bisognava andarla a prendere in miniera e le miniere molto spesso erano sommerse d'acqua e quindi non riuscivi a tirarlo fuori e quindi prima di tutto dovevi svuotare la miniera dell'acqua per poi andare a prendere il carbone. Per fortuna Watt ha inventato quella macchina straordinaria che consentiva tra le altre cose di svuotare le miniere e che funzionava a carbone, pensate la fortuna, io invento una macchina che usa una cosa e che mi rende più facilmente sfruttabile quella cosa che uso. Il carbone poi lo si usava per produrre l'acciaio con cui venivano fatte le ferrovie, per alimentare le locomotive che erano a carbone, per produrre i mattoni con cui venivano costruite le città della rivoluzione industriale, se pensate alle città inglesi dell'Ottocento sono tutte fatte di mattoni, cotti con il carbone e poi alimentavano tutti i processi industriali. Nel Novecento è successa la stessa cosa col petrolio, abbiamo costruito le nostre città attorno alle caratteristiche del petrolio, abbiamo costruito città in cui ci si muove più facilmente in auto che a piedi, abbiamo costruito i centri commerciali e così via e noi non possiamo pensare che ci prendiamo un mondo che è stato costruito prima sulle caratteristiche del carbone, poi sulle esigenze del petrolio e poterlo alimentare con una fonte diversa, dobbiamo proprio rifare tutto. Ecco, oltretutto questo mi dà il desto per dare un altro consiglio bibliografico, perché praticamente Gianluca Ruggeri ha ripercorso la storia dell'energia e c'è questo bellissimo libro di Smilla che si intitola Proprio energia e civiltà, Energy and Civilizations, che è un libro veramente interessante. Chiusa parentesi ed è molto interessante capire che effettivamente benché oggi noi adesso in questa sessione ci concentreremo sull'energia, sulle fonti e sul mix energetico, è vero che la transizione climatica, ecologica, come vogliamo chiamarla per arrivare a una decarbonizzazione permanente e totale, dovrà lavorare sui pattern alimentari, sulla mobilità, perché non è pensabile necessariamente di passare dall'auto a benzina a tutti, all'auto elettrica, ma più trasporto pubblico, però anche più bicicletta, città più a misura di gente che cammina, che va in bici, almeno sulle brevi distanze. C'è anche, e qui volevo chiedere una cosa ad Aurora, d'aprile, in tutta questa equazione c'è anche appunto il mondo delle aziende, piccole o grandi, che già sentono oggi comunque, stando nel mercato, l'esigenza di decarbonizzare, quindi sapere anche da lei, avere anche da lei un contributo su questo percorso, di che altro pezzo ha bisogno. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Luca per la domanda, adesso cerchiamo di far entrare il mondo delle aziende in questa esigenza di decarbonizzazione globale che tutti sappiamo essere importante per i cambiamenti nell'atmosfera e nell'ecosistema che vediamo tutti i giorni sempre più forti, ma prima volevo farvi una domanda, visto che siete tutti attenti, chi di voi sa cos'è l'accordo di Parigi? Potete alzare le mani? Eh qualcuno, insomma. Non tanti, non tanti. E dov'è Parigi però invece lo sa. Dov'è Parigi? Mi auguro di sì. E chi di voi sa cosa sono i cambiamenti climatici? Un po' di più. Un po' di più. Sì. Va bene. Immaginate che l'accordo di Parigi, che è appunto un accordo globale, che tutti i paesi del mondo hanno firmato, si sono messi d'accordo per dire che dobbiamo evitare che le emissioni nell'atmosfera che normalmente produciamo con tutte le attività produttive, insomma quotidiane, che le persone, i paesi, le aziende producono, comportino un aumento della temperatura globale alla fine di questo secolo, quindi 2100, un tempo che sembra infinito, di più di due gradi. Possibilmente cercare di stare entro 1.5. Questo cosa significa? Che secondo l'accordo di Parigi al 2050 dovremmo cercare di arrivare a un bilanciamento tra le emissioni che produciamo e le emissioni che gli ecosistemi e diciamo anche le attività riescono ad assorbire. 2050 sono 35 anni dopo l'accordo di Parigi. Sembrano tanti, ma vi faccio un esempio. 35 anni sono il tempo di vita, anche diciamo scarso, di una nave commerciale. Sono andata in vacanza l'anno scorso, il traghetto su cui stavo era degli anni 70, cioè era ancora utilizzato ora ed era anche in buone condizioni. Quindi quello che diciamo che mi sembra interessante portare, farvi ragionare, sono i tempi con cui queste azioni prendono piede. Sembrano tempi lunghissimi, ma in realtà, come dicevano anche i colleghi, trasformazioni così grandi portano, come dire, comportano decenni di lavoro e quindi in realtà 2050 dopo domani. Detto questo, le aziende se ne stanno accorgendo. Io lavoro in una società che appunto si occupa di guidare le aziende, anche le organizzazioni pubbliche però sono principalmente le aziende che negli ultimi due anni hanno attivato questo tipo di necessità per andare a dire, va bene, sappiamo che dobbiamo e vogliamo essere partecipi di questo cambiamento, cosa dobbiamo fare? Poi magari nel giro ci torniamo un po' nel merito. Ora volevo tornare quindi a comunque quello che resta, credo, il capitolo più rilevante di questa trasformazione che è quello della produzione, distribuzione eccetera dell'energia per andare verso l'elettrico, oltre che il risparmio, l'efficienza e tutto quanto, come dire, possa servire a ridurre questo carico di circa 50 miliardi di tonnellate di gas serra che ogni anno iniettiamo in atmosfera. Per arrivare a un zero netto siamo ancora parecchio lontani. L'Italia in questo ha un gioco, un ruolo piccolo. Noi emettiamo l'1% dei gas serra mondiali, circa 400 milioni credo adesso di tonnellate, eravamo a 500 milioni, siamo adesso a 400 milioni. L'Europa credo che contribuisca per il 9% delle emissioni mondiali, la Cina attualmente è il primo paese al mondo, non so, non mi ricordo che percentuale, forse il 20-25% delle emissioni mondiali. Dobbiamo trasformare il mondo dell'energia energia, dobbiamo abbandonare progressivamente nell'arco di pochi decenni le fonti fossili. Come lo facciamo? Con che mix energetico? E questa è una domanda che pongo in primis a Giuseppe Zollino e poi a tutti, ma anche a Gianluca Ruggeri, perché qui lo faccio subito come dire, questo tipo di affermazione. Ci sono idee diverse, non solo che riguardano nucleare sì e nucleare no, io non vorrei che questo dibattito di oggi diventasse il derby tra nucleare versus rinnovabili, ma anche altre modalità che riguardano le rinnovabili, eolico, solare, geotermiche eccetera, l'idrogeno come vettore e con che tempi noi immaginiamo di poterci finalmente liberare dopo che ci hanno servito per più di un secolo di gas, petrolio e carbone, soprattutto il carbone in primis ma anche delle altre fonti. Quindi chiederei magari di iniziare a Giuseppe Zollino questo suo ragionamento. Va bene, allora, abbiamo dato già alcuni numeri sulla situazione delle emissioni, poi uno potrebbe interrogarsi sulla storia, no? Cioè va bene, adesso i cinesi stanno emettendo più di noi, però quando gli diciamo quindi dovete voi fare lo sforzo, loro replicano, cominciamo a fare la storia dell'integrale delle emissioni, cioè per chi non fa lo scientifico, diciamo di tutte le emissioni che avete fatto voi europei, è stato citato il caso dell'Inghilterra, no? Che usava carbone per tutto, rispetto a noi. Quindi non venite adesso a dirci che noi improvvisamente dobbiamo fermarci quando siete voi che siete responsabili della situazione della concentrazione di carbonio, anidride carbonica in atmosfera, perché poi alla fine ragazzi il problema è quello, noi abbiamo un eccesso di concentrazione di anidride carbonica in atmosfera che ha un trend sicuramente netto di incremento della temperatura. Tutta la discussione un po' stucchevole sul fatto che quest'anno, quest'estate è stata calda, quindi tutti hanno detto c'è una improvvisa accelerazione del cambio climatico, poi magari l'estate prossima sarà più fredda e ci saranno quelli che diranno visto che avete sbagliato. La climatologia, la scienza del clima, per quel poco che si può leggere anche studiando, leggendo un libro o un articolo di review, ci sono dei trend di cambiamenti globali che sono quelli legati alla concentrazione di CO2 e poi delle variazioni che possono essere periodiche con periodi diversi che ci danno, a seconda del caso, l'impressione di un'accelerazione oppure magari tra due anni il convincimento che era un falso allarme. Invece no, sono due cose che si sovrappongono. L'aumento di concentrazione di anidride carbonica in atmosfera si misura, è un fatto oggettivo, abbiamo superato il 410 parti per milione contro i 280 che era solamente quello che c'era 200 anni fa, prima dell'inizio della rivoluzione industriale, è una cosa assolutamente reale. Quindi la responsabilità umana sui cambiamenti lunghi, quelli che ci porteranno a fine secolo con un aumento medio di temperatura che potrebbe persino essere di 5-6 gradi e sarebbe una sciabura, quelli sono incontrovertibili. Per cui, dico soprattutto ai più giovani, non mischiamo le cose, troverete o voi stessi siete convinti, che le cose stanno precipitando perché quest'anno è stato più caldo e magari tra due anni troverete qualcuno che vi dice visto che ti sbagliavi perché in realtà è un falso allarme. Sono due cose che dovete guardare in maniera diversa. Il numero che conta è la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. Le emissioni però sono la causa di questa concentrazione, quindi noi se vogliamo ridurre la concentrazione, un'altra informazione che dovete avere è che la persistenza dell'anidride carbonica in atmosfera purtroppo è lunga. Se io azzero oggi le emissioni, riporto la concentrazione al livello di prima in cent'anni. Quindi il fatto che si dica entro il 2100 vorremmo che la temperatura non superi i 2 gradi non vuol dire che abbiamo tempo fino al 2100 per azzerare le emissioni. Non possiamo farlo domani ma nemmeno rinviarlo le calende greche. Adesso calende greche non si può più dire visto anche... Però dobbiamo fare una cosa di mezzo. Perché una cosa di mezzo? E questo è importante anche dirlo. Perché è vero che dobbiamo auspicare un cambio nel nostro modo di vivere. Intanto il cambio deve essere di tutto il mondo. Noi in Europa siamo stati bravi, abbiamo ridotto di una certa quantità tra il 2000 e il 2020 le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Il resto del mondo sapete cosa ha fatto? Le ha aumentate di una quantità 19 volte superiore a quella che noi siamo riusciti a ridurre. Possiamo dire che hanno sbagliato? Andate a vedere cosa è successo in Cina. Vent'anni fa in Cina avevano un livello di vita, consumi energetici pro capite e qualità della vita che non ha nessun confronto con quello di oggi. Oggi gran parte della popolazione cinese, ancora non tutta, vive come noi. Vent'anni fa no. Il paese dove drammaticamente non è cambiato niente in media su tutto il continente è purtroppo l'Africa ma prima o poi speriamo cambia pure lì. E cosa facciamo? Gli impediamo di fare i primi passi perché dobbiamo domani azzerare le emissioni? No, dobbiamo aiutarli a trasferire tecnologie che non siano ugualmente inquinanti come quelle che stiamo usando noi. Per cui trovare il percorso ottimo, il passo giusto è veramente l'essenza di tutta quanta questa faccenda della transizione. Io ho scritto e ho detto tante volte, nessuno potrebbe trovare nessuno che sia contrario a raggiungere quel mondo idillico che la Commissione europea descrive nel Green Deal. Il problema è arrivarci, come muoversi, che passi fare, con quali strumenti e secondo me si è creato negli ultimi 5-6 anni, soprattutto a Bruxelles, un equivoco drammatico. Noi non dobbiamo fare altro che ridurre le emissioni di anidride carbonica e per questo dobbiamo usare tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione. Parlo del settore dell'energia che rappresenta il 75% delle emissioni. Poi ci sono alcuni processi industriali, la produzione di cemento di suo emette anidride carbonica, non perché si usa calore, perché la reazione chimica emette anidride carbonica. Gli allevamenti intensivi emettono anidride carbonica per processi biologici. Ci sono anche altre cause, ma la produzione di energia, l'approvvigionamento energetico è la principale. Quindi io mi occupo di questo e di questo vi parlo. Quindi l'obiettivo è ridurre le emissioni. Come si fa a ridurre le emissioni di anidride carbonica nel settore dell'energia? Bisogna trovare un equilibrio tra tutte le tecnologie che non emettono anidride carbonica. Quali sono? Ci aiuta l'IPCC, è stato citato il panel tra tutti i governi che aderiscono alle Nazioni Unite, con scienziati, alcuni veramente altri burocrati in rappresentanza, però il numero di scienziati è alto e anche di alto livello. Quindi basta prendersi uno dei rapporti con gli allegati tecnici e c'è una bella tabella con le emissioni in termini di grammi di CO2 emessi per ogni kilowattora prodotto, kilowattora in unità di misura dell'energia, di tutte le tecnologie oggi note e anche quelle sulle quali si stanno muovendo i primi passi. Non è un'opinione, non è una battaglia tra una o l'altra tecnologia. L'unico aggettivo che si deve mettere alle tecnologie è il seguente, emettono anidride carbonica, non emettono anidride carbonica. Quale vogliamo usare? Possibilmente quelle che non emettono anidride carbonica. qualcuno vuole fare la scelta questa sì, questa no, questa sì, questa no, questa sì, questa no? Lo faccia pure. Quella è un'opinione. Il fatto è che noi abbiamo a disposizione un set di tecnologie accertate in termini quantitativi dalle Nazioni Unite e il buonsenso scientifico ci dice che dobbiamo mettere a punto un mix di quelle tecnologie specifico del singolo paese. Un paese senza sole non ha senso che punti sul fotovoltaico, un paese senza vento non ha senso che punti sull'eolico. C'è la geotermia ma un paese che non ha risorse geotermiche che come per fortuna noi abbiamo non può puntare sulla geotermia. Capite che sì, quello è un set di tecnologie e poi ciascuno, ciascun governo stabilisca un analogo gruppo di scienziati che determinino qual è il mix possibile. Uno? No. I mix possibili. Poi la politica decida ce n'è uno che non piace, un altro che piace di più, anche se costa un po' di più, va benissimo. Ma è importante che la politica decida mettendosi d'accordo, non dico tra tutti i gruppi, anche quelli che rappresentano lo 0,5%, ma almeno le forze politiche più rappresentative debbono concordare questa cosa. Se noi continuiamo a cambiare mix e strategia ogni volta che ci sono le elezioni andremo avanti da crisi energetica a crisi energetica perché questa crisi non è capitata per caso. È il risultato di errori drammatici su scelte sbagliate fatte nei passati 25 anni oppure, peggio ancora, su scelte mai fatte. Poi se c'è tempo ritorno e entriamo nel vivo di quali sono questo set di tecnologie che non emettono le diride carboniche. Sì, ecco, infatti adesso entriamo nel vivo perché una volta detto che quindi sono solare, olico, geotermico, idroelettrico e nucleare, non l'ha citato. Ci sono, no, allora se le diciamo, le elenchiamo. Certamente solare, però sul solare ce ne sono tante, c'è il fotovoltaico, c'è il solare a concentrazione, ci sono diverse tecnologie possibili e tra ciascuna di queste diverse opzioni. L'eolico, c'è l'eolico a terra, l'eolico a mare, l'eolico galleggiante a mare oppure quello ancorato sul fondale. C'è la geotermia, la geotermia è quella che sfrutta vapore geotermico, in Italia siamo stati pionieri, però si chiama anche geotermia lo sfruttamento dell'inerzia termica del terreno con le pompe di calore, quindi geotermia. Poi abbiamo le biomasse, è molto importante utilizzare biomasse per produrre bioliquidi o biogas che vengono impiegati poi, per esempio, anche per alimentare le vetture. Una vettura alimentata a biometano è una vettura verde al pari di un'automobile elettrica, anzi più verde di un'automobile elettrica che viene alimentata con elettricità prodotta a carbone, per esempio. Un'automobile elettrica in Cina è verde per modo di dire, sì, non emette gas inquinanti in città, però l'energia elettrica all'80% è fatta da carbone. Se quell'automobile fosse sostituita da un'auto a biometano sarebbe persino più sostenibile. Quindi tutte queste cose sono elencate, c'è l'energia nucleare, quella a fissione di oggi e nel lontano futuro, vedremo quanto lontano, a fusione, però ci sono anche, per esempio, tecnologie che ho detto, tipo le bioenergie, ma anche quelle fossili, che possono essere equipaggiate con sistemi di cattura della CO2 prodotta dalla combustione. E queste tecnologie vengono considerate, anche nelle tabelle che ho detto, dell'IPCC, come idonee alla transizione. Se io ho dei contratti di fornitura gas che durano ancora 25 anni, potrei cominciare a introdurre la cattura della CO2, così a un certo punto esaurisco la mia disponibilità di gas e nell'ultima parte magari non emetto anidride carbonica in atmosfera. Cioè le tecnologie di cattura possono essere utili nella fase di transizione, persino utili a quello che si chiama la emissione negativa, uso biomassa, catturando la CO2 che si produce alla combustione di questa biomassa e quindi non conto sul fatto che quando quella biomassa ricrescerà ricatturerà la CO2, ma la CO2 viene catturata due volte, quando ricresce la biomassa è in fase di combustione, ottenendo come risultato una tecnologia, di nuovo l'IPCC la chiama così, ad emissioni negative, che uno dice come è possibile, perché senza la cattura della CO2 nella fase di combustione sarebbe ad emissioni nulle, se ci sommo la cattura diventa ad emissioni negative, che è un processo fondamentale per trovare quell'equilibrio che è stato citato, perché quando parliamo di emissioni zero al 2050 ci accontenteremmo anche di avere emissioni nette zero, con qualche caso in cui si emette e qualche caso in cui ci siano emissioni negative che bilancino l'equilibrio. E poi racconteremo, per chi non lo sa, perché probabilmente molti non lo sanno, come funziona, come funzionerà, se converrà o non converrà la cattura e il sequestro, diciamo, di questi gas serra, che da qualche parte poi si infilano, per esempio, nelle riserve di gas esauste. Ecco, però il diavolo sta nei dettagli, perché ammesso sicuramente, lo dice anche l'IPCC, che queste sono tutte le forme che non emettono anidride carbonica ed altri gas climalteranti, poi a seconda degli studiosi, delle scelte anche politiche, non solo scientifiche, ci sono, come dire, l'accento può andare di più, come l'IPCC lo mette di più, sulle rinnovabili o può essere più o meno accettabile da tutta una serie di punti di vista, per esempio nell'energia nucleare, e ne parleremo. Chiederei quindi a Gianluca Ruggeri un po' qual è il suo punto di vista e come lo vede questo mix energetico. Così, insomma, vorrei nel prossimo giro cercare di esaurire, perché già abbiamo una ventina di minuti e vorrei parlare anche poi dei processi di decarbonizzazione aziendale, quindi è interessante un po' entrare un po' nel merito del bilanciamento di questo mix. Ma l'intervento che ho fatto prima mi serviva un po' anticipare quella che è la risposta a questa domanda, nel senso che va benissimo ovviamente ragionare sul mix di produzione, ma di nuovo credo che contestualizzando le cose dobbiamo capire se la quantità di energia che oggi usiamo è una quantità sensata oppure no. E la mia opinione è che non sia sensata, perché le fossili ci hanno viziato. Le fossili ci hanno viziato. E abbiamo usato per un secolo tecnologie che erano delle stufe che producevano un pochino di luce. Le lampadine incandescenza, il 95% dell'energia che consumavano, la consumavano per fare calore e solo il 5% lo utilizzavano per produrre luce. I motori a combustione interna, quando sono messi nelle migliori condizioni di operare, arrivano a un 20-25% di efficienza di produzione, di lavoro rispetto al calore prodotto. Poi li mettiamo su auto dove quando freniamo disperdiamo tutta questa energia anziché recuperarla e l'efficienza di tutta questa, li mettiamo su auto che pesano alcune quintali, quindi alla fine se noi facciamo la proporzione tra l'energia che servirebbe per spostare una persona e l'energia che consuma l'automobile per spostare quella persona, la proporzione è 1 a 100. Allora, ovviamente non è che possiamo arrivare al processo perfetto per cui faremo 1 a 1, però da 100 anche solo arrivare a 30 o a 20 o a 10 vuol dire guadagnare tantissimo. Quindi noi abbiamo possibilità di realizzare operazioni di risparmio come quelle che quest'inverno saremo in qualche modo obbligati a fare con l'abbassamento delle temperature dei termostati e la riduzione della stagione di riscaldamento, quindi queste hanno a che fare più che altro con le abitudini delle persone. Poi possiamo fare efficienza, cioè usare tecnologie che si consentano di consumare meno energia. Nel caso degli edifici, per esempio, se isoliamo un edificio, i consumi energetici per tenerlo caldo d'inverno o fresco d'estate ovviamente si riducono molto. Poi abbiamo la possibilità di operare l'elettrificazione, cioè sostituire tecnologie che oggi sono basate sulla combustione, come le caldaie e i motori delle automobili, con tecnologie che sono basate sull'elettricità, come le pompe di calore che fanno esattamente quello che fanno le caldaie ma usando molta meno energia e i motori elettrici che fanno esattamente quello che fanno i motori a combustione interna ma usando molta meno energia. Poi ci sarebbe anche il tema della gestione della domanda, ma qua entreremo in... quindi questo magari ce lo teniamo se avanza tempo. La combinazione di tutte queste cose ci consente di usare tantissima energia meno di quella che usiamo adesso. In termini di energia primaria, paesi come la Svizzera si sono dati l'obiettivo di arrivare al 2050 con un consumo di energia primaria pari a un terzo di quello che era nel 2000. Un terzo, la Germania e la Francia come obiettivo hanno il 50%, quindi la metà. Allora capite che nel momento in cui dobbiamo usare, cioè abbiamo meno energia da produrre la possiamo produrre più facilmente con tutte quelle alternative che sono state citate. E allora sì che può avere senso interrogarsi sul mix. Se invece pretendiamo di fare quello che facciamo adesso, diventa tutto estremamente più complicato. Rispetto al mix, le cose sono state già dette, sono state anticipate, in particolare uno dei tanti, tantissimi documenti di riferimento per le strategie al 2050 è quello dell'International Energy Agency, Net Zero 2050, emissioni Net Zero 2050. Esiste anche una versione che si chiama sintesi per i decisori politici in italiano sul sito della IEA.org se cercate Net 2050 lo trovate abbastanza facilmente, in cui vengono descritte chiaramente tutte queste altre cose che bisogna fare, cioè bisogna smettere per esempio di cercare nuovi giacimenti di gas, di carbone e di petrolio da subito. Entro il 2025 bisogna mettere fuori mercato le nuove caldaie a combustibili fossili, cioè dal 2025 non vendere più caldaie a gas. Guardate che ci sono paesi che hanno già deciso di farlo, ci sono paesi in cui se fatto un edificio nuovo non potete collegarlo alla rete del gas. E poi tutto questo ci consente di arrivare al 2050 a un sistema fortemente decarbonizzato in cui le emissioni sono ridotte del 95% come ordine di grandezza rispetto all'attuale quindi è più facile fare poi il riassorbimento. Nel mix energetico a metà secolo, secondo l'International Energy Agency, eolico e fotovoltaico dovrebbero coprire il 70% dell'energia, eolico e fotovoltaico. Sommando le altre rinnovabili si dovrebbe arrivare circa al 90% e il resto prevalentemente dovrebbe venire da energia nucleare. Sarà così? Ma chi lo sa se sarà così? Ci sono 30 anni, potrebbero essere fatte delle innovazioni tali in ciascuna di queste tecnologie che magari le consentono di produrre di più, oppure troveremo dei problemi per cui quello che oggi ci immaginiamo molto sviluppato lo sarà di meno. Credo che l'approccio per cui ogni singolo paese decida il suo mix sia assolutamente sensato. Se prendiamo, in particolare per il nucleare, le stime della World Nuclear Association che è un po' l'associazione di riferimento dell'industria nucleare arrivano al 2040, quindi non al 2050, ma hanno tre scenari. Il primo è in cui praticamente si produce esattamente la stessa energia elettrica nucleare che si produce adesso, con una variazione del 5%, quindi su 20 anni è praticamente nulla. Un altro in cui c'è un aumento più considerevole è il terzo, quello in cui l'aumento è più significativo in cui c'è un raddoppio della produzione attuale, ma in un sistema in cui avremo molta più elettricità di oggi, quindi probabilmente anche nelle loro stime arriviamo sempre dalle parti di quel 10% a livello globale. Che significa? Che ci saranno paesi che potranno anche scegliere di avere 60%, 70% nucleare, ci saranno paesi che avranno 30% nucleare, ci saranno tantissimi paesi che avranno 0% nucleare, quindi 100% da rinnovabili o al limite se si svilupperanno, perché adesso su questo ci sono molte più perplessità e perché non ci sono tecnologie mature nel campo della cattura del carbonio, potrebbe esserci anche quel ruolo lì. Quindi è effettivamente una decisione che è molto più politica e paese per paese, anche in funzione di tutta una serie di cose che sono state ricordate prima, c'è economie dirigiste dove c'è qualcuno che decide per gli altri, possono più facilmente fare certe scelte, economie in cui invece si basa tantissimo sul mercato, certe scelte sono sfavorite, sistemi democratici in cui può cambiare la maggioranza e quindi partiamo con un piano che è a lungo termine e poi tra cinque anni ci sono le elezioni e i partiti che vengono eletti decidono che quel piano a lungo termine non funziona, ovviamente tutto questo è una delle cose che bisogna tenere in considerazione quando si definisce qual è il mix ideale paese per paese. Aurora ad aprile, in questo, come dire, tragitto che dobbiamo fare, le aziende appunto, mi dicevi, si sono già attivate, svegliate, cercano di trovare una via per decarbonizzare, anche attraverso la scelta delle fonti energetiche, degli approvvigionamenti, ma anche attraverso... ci puoi dire un po' in cosa consiste questo percorso, se c'è un esempio, è interessante in effetti, com'è? Poi torniamo ancora sulle fonti, ma volevo anche sentire questo passaggio. In realtà è tutto collegato, nel senso che le aziende come gli stati, come ognuno di noi, per capire qual è la strada migliore da percorrere per ridurre le proprie emissioni, deve seguire dei passaggi, e diciamo che si possono riassumere in tre, ma facciamo cinque. Misurarle, definire l'obiettivo di riduzione che sia, come dire, ambizioso abbastanza, perché non ci si può dare un obiettivo, cioè è facile darsi un obiettivo facile da raggiungere, poi alla fine lo sforzo non è neanche così tanto e l'effetto non sarà neanche così incisivo. stabilire un piano di riduzione che permette appunto di abbassare e ridurre la propria impronta carbonica, compensare ciò che non può essere ridotto all'estremo, e alla fine e durante, diciamo, poter raccontare e spiegare quello che si è fatto in modo che le persone, le aziende, il mercato, dal punto di vista delle aziende, anche gli investitori, tutti gli stakeholder cosiddetti coinvolti, possano valutare la bontà delle proprie azioni. Quindi riuscire a raccontare quello che si fa e come si fa, facendo il riferimento a degli standard che stanno, diciamo, si stanno sviluppando, che facilitano il confronto tra quello che fa un'azienda, quello che fa uno Stato, quello che fa un settore rispetto a un altro. Quindi la necessità di avere una lingua comune per poter comparare le cose è molto importante. Questo nel mondo delle strategie climatiche per l'azienda sta avvenendo. Esistono dei protocolli sempre in via di miglioramento e di evoluzione, ma sia per misurare, sia per stabilire dei target, sia per stabilire dei piani di riduzione e poi per compensare e comunicare, per esempio, nel mondo della finanza, i propri obiettivi in modo interpretabile. Anche non solo aziende private, anche amministrazione pubblica. Anche amministrazione pubblica, certo. Le scuole anche, per esempio. Sì, sì. La cosa interessante è che tutti questi strumenti adesso stanno, come dire, vedendo una grande evoluzione, una grande accelerazione nel mondo privato, a partire da un input, diciamo, del mondo finanziario molto forte degli ultimi anni. Ma la maggior parte di questi strumenti poi in realtà non sono dedicati esclusivamente alle aziende. Cioè anche i comuni, gli enti pubblici, le organizzazioni possono farne uso. Semplicemente il mondo del privato in questo momento sta accelerando molto dal punto di vista dell'azione climatica. Riguardo alla questione dell'elettrificazione, il messaggio, diciamo, che mi viene come quello più importante che vorrei passare è che per la strategia climatica delle aziende o di chiunque, l'elettrico è fondamentale. Cioè, nel senso, l'abbiamo detto in varie, sotto vari aspetti, ma il messaggio, diciamo, unico e che se qualcuno deve portarsi a casa un'informazione è che l'elettrico è fondamentale per la transizione climatica. Perché, come dicevano i relatori anche del panel precedente, grazie all'elettrico si può cambiare il mix energetico in modo che sia, come dire, sempre meno impattante in termini di emissioni o in termini comunque di impatti ambientali o magari può essere più conveniente, semplicemente. Quindi l'elettrico è fondamentale. Da un punto di vista delle aziende, dove vanno a, diciamo, a parare le aziende? Le aziende misurano, prima di tutto, le proprie emissioni, le misurano tra le emissioni dirette, cioè quelle che vengono dalle proprie attività, misurano le emissioni, diciamo, relative all'energia che acquistano e qui entriamo, diciamo, nel tema di questo panel, e poi misurano, cosa molto complicata ma molto importante, le emissioni di tutta la propria catena di fornitura. Quindi anche dei servizi e dei beni che vengono acquistati e dei prodotti finiti e che vengono utilizzati. E questo, diciamo, è la parte più complessa. Ma a monte, ovvero le emissioni che vengono definite scope 1 e scope 2, ovvero quelle dirette e quelle derivate dall'energia, le scope 2 sono quelle derivate dall'energia acquistata, con tutte le differenze tra settori produttivi che hanno esigenze molto diverse, caratteristiche e funzionamento molto diverso, ma diciamo che le due chiavi di approccio primario sono elettrificazione ed efficienza energetica, perché sono le prime cose che un'azienda può andare a vedere in termini sia di riduzione delle emissioni, sia di risparmio economico. Nel senso, è abbastanza importante considerare che questa situazione in cui ci troviamo, in cui i prezzi dell'energia sono alle stelle, sono ovviamente insostenibili da un punto di vista di attività produttiva, hanno forzato però tanti attori economici a considerare quanta energia veniva utilizzata, se l'energia costa poco, se ne usa tanta, se ne usa tanta senza controllarla. Quindi, questo ovviamente, nessuno si auspica che questa situazione permanga, ma se uno deve fare, come dire, di necessità virtù, una cosa positiva, uno sviluppo positivo di questa situazione, è stata che, come dire, ha forzato la misurazione per cercare di ridurre i costi di tantissimi utilizzi e tantissimi contesti di produzione aziendale. Entriamo un po' prima di questo punto, torniamo al discorso del mix, del bilanciamento di questo mix. La Cina adesso sta investendo molto anche in centrali nucleari. Altri paesi se ne stanno allontanando, vedi la Germania o altri ancora. L'Italia, con due referendum, ma direi ormai abbastanza preistorici, ha detto no, perché c'è chi sostiene, e qui guardo Zollino, che nel mix energetico italiano servirebbe comunque a riaprire la strada del nucleare per una serie di scenari che sono stati fatti in cui sono rapportati diversi mix energetici. Uno di questi comprende anche il nucleare. Altri, invece, abbiamo Maria Luisa Cagliazzo, qualche giorno fa, intervistato Mark Jacobson, della Stanford, del 100% rinnovabile. Allora, vi metto a parlare di ortopedia, che è la stessa cosa. Vabbè, comunque, era solo per provocare, come dire, mettere un po' di pepe nella discussione. Nucleare. Non so se voi avete letto, e questo sì ve lo consiglio, un libretto di Carlo Maria Cipolla. Allegro, ma non troppo. Carlo Maria Cipolla era una persona, diciamo, si occupava d'altro, però aveva questa passione di scrivere questi documenti, questi libretti semiseri, che però è serissimo, perché descrive le leggi della stupidità umana. Proprio con un quadrante, quattro quadranti, e si determina, diciamo, anche una classifica su qual è il peggior stupido. Il peggior stupido, il vero stupido, è quello che fa un danno agli altri senza procurare alcun beneficio per se stesso. Però, i teoremi della stupidità umana sono molto interessanti, perché il secondo dice che la probabilità che una persona sia stupida è assolutamente indipendente da qualunque altra caratteristica di quella persona. Con un certo successo, io da un po' di tempo l'ho mutato questo teorema, dicendo che la probabilità che una persona sia visceralmente antinucleare è indipendente da qualunque altra caratteristica di quella stessa persona. Visceralmente, capita anche ai premi Nobel di essere visceralmente antinucleari senza sapere nulla. Io sono stato testimone di un battibecco riservato, che posso riferire, tra Carlo Bernardini, fisico italiano, forse tra i più noti, che adesso è defunto, e il suo più giovane collega che l'anno scorso ha preso il premio Nobel, il professor Parisi, proprio sul nucleare. E, insomma, non riferisco i termini, però, insomma, per dirvi due autorevolissimi fisici, uno insegnito dal premio Nobel, l'altro probabilmente era, quando era vivo, il più celebre fisico italiano, Carlo Bernardini, avevano un'opinione diametralmente opposta. Sul nucleare non si trova uno che ha una visione diametralmente opposta sul solare, sull'eolico. Io mi occupo di tutte queste tecnologie, le insegno, tecnica ed economia dell'energia, con lo scopo di mettere insieme i vantaggi e far fronte ai limiti di ciascuna di esse, anche del nucleare. Però io non sono contrario, non sono contrario al nucleare, non sono contrario a nessun'altra di quelle tecnologie. Invece sul nucleare c'è una scelta di campo che è irrazionale, irrazionale. Lo dice, posso fare tanti esempi per dire perché è irrazionale. Per esempio, noi non usiamo nucleare. Ma veramente pensi che noi non usiamo nucleare? No, ci approvvigioniamo del nucleare. Allora, noi l'anno passato, quest'anno sta andando un po' peggio perché, come è stato detto, diverse centrali francesi sono in revisione perché sono state fatte delle procedure di life extension che richiedono di fare delle revisioni costose e anche abbastanza approfondite. Per cui si fermano. A riprova che lì il controllo è ferreo. L'autorità di sicurezza nucleare, anche se c'è una crisi del gas, dice no, questa centrale sta spenta perché devi cambiare questo tubo, devi rifare questa pompa, perché hai chiesto di continuare a esercirla per altri dieci anni. Quindi l'anno passato noi abbiamo importato direttamente dalla Francia o dalla Svizzera, però era energia francese che transitava dalla Svizzera, o dalla Slovenia, la stessa quantità di energia elettrica che abbiamo prodotto in casa da fotovoltaico e da eolico. Una quantità che è più del triplo, più del triplo, di quella che abbiamo mai prodotto quando avevamo le quattro centrali nucleari in Italia, che erano piccole. Solo Caorso era abbastanza grande, però ha lavorato solo quattro anni. Quindi noi siamo talmente contrari all'energia nucleare che in questo momento di meno, ma fino all'anno scorso, ne importavamo in quantità più che tripla rispetto a quella che producevamo quando avevamo la massima produzione nucleare domestica. sotto tutti i dati che si trovano se volete sul sito di Terna che vi fa vedere come storicamente abbiamo prodotto l'energia elettrica. Ve ne dico un'altra che è ancora meno nota. Fino al 1958 tutta l'energia elettrica italiana, diciamo il 95% dell'energia elettrica italiana, oggi la chiameremmo rinnovabile. Allora non si chiamava rinnovabile, si chiamava idroelettrica e geotermica. Il 95% dell'ultimo anno è stato il 1958, il 95% dell'energia elettrica italiana era rinnovabile. Non c'è ovviamente nessun pregiudizio contro le rinnovabili. L'idroelettrico è flessibile, si produce l'energia elettrica nel momento in cui serve. E questa è la chiave di volta. Noi, nel caso dell'energia elettrica, abbiamo bisogno di disporre momento per momento della potenza elettrica necessaria. Vi faccio un esempio, vedo tante ragazze e anche qualche ragazzo con i capelli lunghi. Voi vi asciugate i capelli con un asciugacapelli, no? Che da oggi ce ne sono fino a 2000 watt e ci mettete mezz'ora con l'asciugacapelli. Mezz'ora. Dieci minuti, spero. Non mezz'ora. Un quarto d'ora. Mio figlio ci mette quasi mezz'ora. ma non... Però, insomma... Ce n'abbè di lunghi. Ce n'abbè di lunghi. Però, quarto d'ora a 2000 watt. Uno dice, va bene, ma se potessi disporre di un phon da 50 watt in 5 ore me li asciugo. No. Se dovete cucinare la pizza, dovete portare il forno a 300 gradi. Non è che... e si cucina per 10 minuti. Non è che se potete cucinare nel forno a 30 gradi per due ore. Non si cucina. Quindi c'è bisogno di potenza elettrica. Poi possiamo spostarla nel tempo. La lavatrice la faccio partire quando dal contatore mi arriva un segnale, anzi, va direttamente alla lavatrice. Falla partire adesso perché la produzione in questo momento da una fonte non controllabile come le nuove rinnovabili è sufficiente. Questo lo dico perché quando parliamo di mix la prima cosa da dire è quanta energia elettrica mi serve e che tipo di carichi devo alimentare. Oggi abbiamo una curva della domanda di potenza giornaliera. Se io, per esempio, voglio elettrificare tutti i miei riscaldamenti con le pompe di calore l'energia elettrica mi servirà d'inverno. un bel pezzo in più. Se voglio alimentare tutte le mie macchine con energia elettrica l'energia elettrica mi servirà estate e inverno mi servirà un po' di meno forse durante il weekend come già per esempio in tanti altri ambiti e durante la giornata come mi serve. E qui ci sono tutta una serie di modelli per cui ci sono alcuni carichi che possono essere effettivamente le automobili collegate alla colonnina durante il giorno quando c'è sole altri tipi di utilizzo che non consentono di stare collegati alla colonnina perché devo marciare per cui ci sono dei modelli in cui grosso modo 40% del fabbisogno si pensa possa essere durante il giorno 60% dopo il rientro a casa quindi nelle 12 ore che vanno dalle 6 alle 6 per dire allora tutti questi sono modelli per dirvi che se io produco tutta l'energia elettrica che mi serve con prevalentemente tecnologie che non sono controllabili c'è un problema di differenza temporale tra la produzione e l'utilizzo uno dice va bene uso delle batterie che si caricano oppure dei sistemi di accumulo diversi dalle batterie che si caricano durante le ore di illuminazione con l'energia solare e che sono disponibili poi la notte ad alimentare le varie utenze questo si si fa e l'abbiamo sempre fatto abbiamo i sistemi di accumulo a pompaggio ne aggiungeremo di nuovi e questo sarà un grosso contributo poi però c'è un'altra questione il nostro paese dati alla mano non è particolarmente vocato alla produzione di energia per esempio eolica è molto più vocato alla produzione di energia solare abbiamo più sole che vento uno dice ma io il vento lo sento c'è perché mi dici questo perché quando io dico vocato intendo dire vi faccio una domanda secondo voi se stabilmente l'energia elettrica in Italia si dovesse produrre a un costo due volte e mezzo superiore a quello che invece devono pagare come costo di produzione i tedeschi gli inglesi i francesi no? perché utilizzano le coste del mar del nord sarebbe sostenibile? cioè se la bolletta elettrica italiana fosse due volte e mezzo superiore a quella di un altro paese nostro competitor internazionale no non sarebbe sostenibile quindi in Italia i mix futuri da fonte rinnovabile sono prevalentemente solari non quello che facciamo noi a Padova ma tutti quelli che sono disponibili prevalentemente solare e meno eolico potremmo anche immaginare che in futuro l'energia elettrica la importiamo tutta dall'estero è un'ipotesi è chiaro che quando ci viene chiesto a livello di impegni internazionali di definire come intendiamo produrre la nostra energia senza emettere anidride carbonica se noi gli rispondessimo ah guarda non mi importa perché tanto me la producono i paesi confinanti non ci prendono molto sul serio uno può dire scambiamo sì scambiamo se io in qualche momento sto producendo di più e il confine il paese al di là del confine un po' di meno ce la possiamo scambiare e poi magari avviene il contrario tra un mese o tra 15 giorni questo è ovvio i scambi sì ma il fa bisogno in tutti questi scenari quando si presentano le carte per aderire agli impegni al 2030 per esempio di riduzione delle emissioni o agli impegni al 2050 di azzeramento delle emissioni un paese membro presenta uno suo modello come intende produrre l'energia che prevede di cui prevede avrà bisogno concludo con una informazione su quanta energia ci servirà per decarbonizzare la nostra economia questi numeri sono contenuti nell'unico documento ufficiale che è stato prodotto pubblicato sul sito del ministero dell'ambiente la strategia di lungo termine di gennaio 2021 è un modello ovviamente si chiamano scenari speculativi è stato già detto quello che può succedere nei prossimi 25 anni nessuno può giurare di saperlo perfettamente però guardate il mondo dell'energia non è come l'elettronica di consumo 25 anni fa nessuno avrebbe immaginato l'iPhone 14 mentre 25 anni fa le ipotesi che si facevano su come sarebbe stata prodotta l'energia oggi sono molto affidabili sono cambiati leggermente i prezzi non ci si poteva aspettare che il crollo che c'è stato sui costi degli impianti di produzione rinnovabile fosse questo però era previsto che doveva avvenire nel 2030 è già avvenuto nel 2022 c'è stato un anticipo ma non c'è niente di rivoluzionario se guardate gli scenari che si venivano pubblicati 25 anni fa sono abbastanza fedeli come set di tecnologia quelli di oggi se leggete qualche pubblicazione sul futuro che si scriveva nel 1995 nessuno prevedeva l'evoluzione che c'è stato sull'informatica cioè immaginate lo smartphone non esisteva e nessuno se lo immaginava se non fosse stato per quel genio di Steve Jobs però stiamo parlando dell'elettronica di consumo nel settore dell'energia non è così peregrino immaginare come produciamo e quanta energia ci può servire al 2050 è più stabile e allora quanta ce ne serve è stato detto dell'efficienza verissimo due numeri oggi noi consumiamo come energia finale cioè quella che veramente va ad alimentare le nostre fabbriche le nostre case le nostre automobili circa 120 milioni di tonnellate di petrolio equivalente non è tutto petrolio 120 milioni di tonnellate di petrolio equivalente di questi 120 milioni di tonnellate di petrolio equivalente il 21% è energia elettrica l'energia elettrica oggi in Italia in tutti i paesi sviluppati con qualche piccola differenza per esempio in Francia un po' di più copre il 21% circa della domanda di energia finale cosa si pensa per il 2050 uno straordinario progresso nell'efficienza per cui la domanda di un paese che cresce stabilmente dell'uno e mezzo ogni anno scende a 70 milioni di tonnellate di petrolio equivalente da 120 a 70 e di questo 70 il 55% deve essere energia elettrica è stato detto elettrificazione il 55% questo fa sì che pur di fronte a straordinari miglioramenti nella capacità di usare meno energia e di usarla meglio ci servono però più del doppio del consumo attuale di energia elettrica per produrre quel consumo lì di energia elettrica averlo a disposizione nelle ore giuste e nella quantità giusta ci serve un mix il più equilibrato possibile oggi non vi faccio vedere però poi dopo vi posso dare qualche indicazione se volete leggere un articolo scritto in italiano apposta per facilitare la discussione a noi risulta che il mix migliore prevede due punti 350 gigawatt 350 gigawatt di fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili circa diciamo 30 gigawatt di sistemi di accumulo da 8 ore e 35 gigawatt nucleari questo è il mix che costa meno e impatta meno sul territorio allora a questo punto visto che il tempo adesso adesso cominciano le domande volevo chiedere prima a Ruggeri dire la sua brevemente abbiamo un quarto d'ora in più tanto lo recuperiamo per le domande e il dibattito la mia su cosa esattamente no beh allora in risposta a Zollino sul mix e su queste cose consideriamola già la prima domanda e poi apriamo a tutte le vostre domande per un quarto d'ora io sono torno a quanto detto prima cioè ci sono tante strade compatibili quello che sicuramente sappiamo che dobbiamo fare sono tutte le cose che abbiamo elencato elettrificazione efficienza risparmio accumuli gestione da domanda l'interconnessione tra paesi e quant'altro il fatto che si prediliga nel mix una fonte o un'altra è una valutazione che è politica che si può basare su valutazioni scientifiche economiche di stime che però evidentemente al 2050 hanno tutta una serie di incertezze e quindi si portano dietro dei possibili errori io personalmente nella vita ho deciso di dedicarmi alle cose che sappiamo sicuramente di fare anziché mettermi a discutere se dobbiamo fare il nucleare o non dobbiamo fare il nucleare perché l'esperienza del nostro paese negli ultimi 40 anni ci dimostra che è stata una tematica estremamente polarizzante in cui spesso si è perso tantissimo tempo a discutere e anziché fare le cose che dovevamo fare ultimissima cosa su questo per esempio e qua a proposito della dimensione politica delle sfide c'è un tema di democrazia energetica di ruolo dei cittadini che secondo me è cruciale nella transizione ma è che è chiaramente un tema politico esattamente come la riduzione della dipendenza dall'estero è un tema politico quanto la vogliamo spingere quanto non la vogliamo spingere se è la stessa cosa essere dipendenti da altri paesi europei o essere dipendenti dall'Arabia Saudita e dalla Russia e così via cioè sono tutte questioni in cui a me fanno per dirigere certe scelte piuttosto che altre ma che sono come dire un passo al di là dello stretto dato tecnico a questo punto io do voce a tutti le domande e chiedo di ritardare di 15 minuti la la mensa diciamo così no quindi massimo 15 minuti ma abbiamo tutto il tempo prego già hanno chiesto la parola Valeria Fieramu ecco io mi chiedo come mai voi quelli che per esempio vogliono nucleare prescindono sempre dai corpi fisici perché c'è un problema che ignorate costantemente che è la tutela dei patrimoni genetici delle specie viventi per quanto mi riguarda in primis quelle umane e se c'è un'energia che è devastante per la tutela dei patrimoni genetici delle specie viventi è quella del nucleare su questo non ci piove anche se hanno torturato minacciato di morte fatto avere incidenti dato ai tapini che dopo Cernobil si occupavano di vedere gli effetti sulla salute e anche se ci sono tutti i dati per sapere quali sono sappiamo benissimo che alla seconda generazione peggiore addirittura codice genetico se voi volete profigurare un mondo di alieni deficienti e dei forti siete sulla strada giusta questo è il tema tradotto quando c'è una guerra vi eccitate è il tema incidenti nucleari ma aspettiamo raccogliamo altre domande domanda guarda portate lì la vedo grazie allora io volevo fare una domanda cioè abbiamo parlato prima dell'energia idroelettrica che diciamo più o meno un cuscinetto costante di energia in Italia e invece ci sono cioè se dovessimo disegnare un grafico c'è un picco di energie che sono le altre energie cioè l'eolico e il solare e volevo chiedere dato che per ricoprire quel cuscinetto noi dovremmo utilizzare tante batterie che in questo momento sono impossibili da produrre perché non ci sono abbastanza risorse per produrre tutte queste batterie perché non si potrebbe utilizzare il cuscinetto invece di nucleare e poi diminuire la produzione di batterie cioè perché alla fine della fiera noi screditiamo tanto il nucleare però cioè i due disastri che sono avvenuti sono stato uno a Chernobyl perché l'uomo lì effettivamente ha sbagliato non c'erano le protezioni e ha sovraccaricato il tutto però il secondo disastro è stato di Fukushima in cui l'uomo non c'entrava niente è stato soltanto un disastro naturale quindi volevo chiedere va bene altre domande Marzia se le raccogli tu si si lo studente ci chiede se andassimo di pronte ad un 100% di energie rinnovabili quindi elettrico si chiede se non fossi se in quel caso lì per le materie prime non fossimo punte a capo cioè dovremmo dipendere da delle nazioni che in qualche modo non sono stabili politicamente e quindi cosa succede nel futuro non avremo il rischio di nuovo di ritrovarci in una crisi energetica anche se ovviamente nucleare sappiamo benissimo che comunque in Italia voglio capire dove lo facciamo tutto in Sardegna perché gli spazi a questo aggiungo io una domanda non è un problema non sono un problema i tempi di realizzazione molti dicono 15 anni siamo troppo in ritardo grandi investimenti iniziali cioè c'è anche un motivo di ordine temporale vista l'emergenza a questo punto chiedo di dare queste prime risposte e nel caso preparatevi ad altre domande io avrei poi un'altra domanda ma cominciamo a rispondere a queste chi allora sugli effetti della dell'uso dell'energia nucleare in condizioni ordinarie vi faccio vedere se volete le foto delle centrali francesi con le coltivazioni di vigne intorno in condizioni normali la variazione della radioattività all'esterno della centrale è irrilevante con gli strumenti in condizioni incidentali le Nazioni Unite vanno fanno prese come riferimento non solo come abbiamo già fatto abbondantemente tutti e tre panelist qui quando parlano del cambio climatico l'IPCC ma anche quando analizzano con articoli scientifici Lancet Nature eccetera gli effetti degli incidenti che ci sono stati nucleari finora gli effetti degli incidenti nucleari che ci sono stati finora sono analizzati da un organismo che si chiama UNSHAIR delle Nazioni Unite sugli effetti dell'assorbimento eccezionale di radiazione se vi interessa trovate il rapporto sull'incidente di Chernobyl e il rapporto sull'incidente di Fukushima ci sono ovviamente un altro interessante documento pubblicato sempre dall'UNECE UN sempre sta per United Nations Nazioni Unite ricordatevelo UNECE un'analisi dell'impatto sul ciclo di vita di tutte le tecnologie energetiche oggi note oggi note e ha a che fare anche con la questione dei materiali critici o comunque dei materiali dell'impatto sul suolo abbiamo detto delle emissioni di CO2 delle emissioni di radiazioni che sono misurate come radioattività di un grammo di uranio equivalente così come si usa il petrolio equivalente di tutte le tecnologie nel ciclo di vita cioè inclusa la fase di produzione e ci sono risultati oggettivi quelli ufficiali che non hanno diciamo si può discutere se il modello con cui è stata fatta l'analisi del ciclo di vita tiene conto del range di applicazioni eccetera però sono dati ufficiali delle Nazioni Unite e lì si trova per esempio che certamente l'energia nucleare è quella che emette nel ciclo di vita più radiazioni misurate come grammi di uranio equivalente per kilowattora prodotto questa è la cosa importante per kilowattora prodotto il numero è 12 il carbone sta intorno a 10 ciclo di vita la produzione di pannelli fotovoltaici durante l'esercizio il pannello fotovoltaico non emette niente pulitissimo la fase di produzione richiede comunque processi che utilizzano materiali e fenomeni radioattivi per cui il range di variazione della produzione dei pannelli dice il panel delle Nazioni Unite non è zero in termini di radiazione immessa nell'ambiente ripeto rimane nella fabbrica non è sul tetto di casa nostra non voglio fare allarmismi non c'è nessuna radiazione emessa da un pannello durante l'esercizio ma siccome si deve fare l'analisi del ciclo di vita il pannello arriva fino a un massimo di 8 ok a un minimo di 3 dipende dalle tecnologie quindi il range è tra 3 e 8 mi è stato chiesto sulla faccenda del servizio di base che oggi viene fatto con le vabbè non solo l'idroelettrico oggi viene fatto con i combustibili fossili con il gas con il carbone quando dobbiamo decarbonizzare c'è questo problema cioè che noi dobbiamo avere comunque energia anche quando se facciamo l'analisi dei dati registrati già oggi perché ci sono tanti impianti ormai installati durante l'inverno ci sono sequenze fino a 8 giorni in Italia registrate da Terna in cui la produzione solare c'è cattivo tempo su tutta Italia o piove e quella eolica è praticamente zero quindi per quanto tu aumenti la potenza installata produci pochissimo in quel caso si deve far fronte con sistemi di accumulo utilizzando biogas e se c'è ovviamente utilizzando nucleare mettendo insieme tutte queste tecnologie si riesce a determinare un mix che costa di meno fatemi dire un ultimo numero l'impatto sul territorio le centrali nucleari che vengono considerate come l'esempio da non imitare sono tre che stanno in Europa la centrale di Inkley Point che non riescono a risolvere un sacco di problemi di costruzione la centrale di Flamanville Inkley Point in Inghilterra la centrale di Flamanville in Francia e la centrale di Oltiluoto in Finlandia che finalmente è entrata in esercizio a pieno regime questi tre paesi che ho citato questi tre paesi tutti e tre hanno già consegnato a Bruxelles i loro piani di decarbonizzazione e tutti e tre considerano queste tre centrali come un esempio di cattiva gestione nella fase di costruzione che credono di essere in grado di correggere e infatti prevedono tutti una consistente quota di nucleare nel loro mix la Finlandia più del 50% la Francia il 50% l'Inghilterra il 20% ok? questi tre casi quelli considerati l'esempio di chi dice che costa troppo infine i tempi di costruzione in gli Emirati Arabi il processo di autorizzazione in un paese come gli Emirati Arabi è più facile ovviamente nessuno lo negano ci mancherebbe altro il sultano decide si fa si fa si fa lì facendo un'analisi però hanno chiamato i coreani del sud la Kepco è una grossa azienda che produce regolarmente e costruisce reattori in tutto il mondo gli stanno costruendo una centrale si chiama Barak con quattro reattori che sono entrati già tre in servizio sette anni per il primo dopo un anno sette anni per il secondo dopo un anno hanno cominciato la costruzione sette anni per il terzo dopo un anno la costruzione del quarto che sarà consegnato l'anno prossimo l'insieme di questi quattro reattori è costato 25 miliardi sono però 5,6 gigawatt che producono energia elettrica per 60 anni 7.800 ore l'anno a 60 dollari per megawattora fisso costante negli Emirati Arabi dove non c'è manco un saldatore e nemmeno una betoniera l'hanno portato tutto i coreani lo possiamo fare anche noi la sensibilità è figlia dell'informazione voi siete giovani io punto moltissimo l'Italia punta moltissimo su di voi ciascuno di noi ha incrostazioni vecchie che vengono da posizioni tutte giuste tutte corrette nessuno vuole dileggiare nessuno io credo molto che i giovani hanno testa migliore della nostra più libera da incrostazioni saranno loro a decidere il loro futuro Gianluca allora credo che come è andata quest'ora e mezza di chiacchierata rafforzi la mia opinione nel senso che è un tema polarizzante non ne usciamo vivi non ne usciamo vivi comunque perché di fatto lo sappiamo che il nucleare avrà un ruolo nel mondo e sarà un ruolo piccolo rispetto al totale di quello che dobbiamo fare nella produzione e contemporaneamente dovremo fare comunque gli accumuli perché è vero che il nucleare ha dei vantaggi nel coprire il carico di base è assolutamente così ma l'eolico e il fotovoltaico non è che producono quando abbiamo bisogno sulla punta se fosse così semplice l'integrazione sarebbe perfetta e invece producono quando producono quindi comunque anche un mix richiede degli accumuli ci sono studi che mostrano come tra uno scenario 100% rinnovabili e uno scenario mix nucleare rinnovabili semplicemente nel caso di 100% rinnovabili ci sono più accumuli di lungo termine per semplificare idrogeno poi non apro l'idrogeno ci sarà la prossima mentre nel caso di mix nucleare e rinnovabili invece ci vogliono più batterie quindi è proprio che dobbiamo pensare a un modello diverso a un modello diverso visto che è stata chiesta la cosa sulle materie prime è assolutamente un tema che all'ordine del giorno di praticamente governi istituti di ricerca da tantissimo tempo è molto complesso e non abbiamo assolutamente il tempo per approfondire tutte le questioni varie ma in estrema sintesi il fotovoltaico di base è fatto di silicio il silicio è il materiale più disponibile della crosta terrestre credo dopo l'ossigeno quindi in quest'aula c'è molto più silicio di quello che ci servirebbe per alimentare elettricamente quest'aula facendo dei pannelli fotovoltaici dopodiché servono alcuni elementi che sono rari in piccole quantità e su questo ci sono delle criticità ovviamente c'è una grossa corsa a sviluppare tecnologie che usino meno questi elementi rari sono anche elementi rari perché fino adesso non erano molto utili e quindi nessuno andava a cercarli recentemente sono state scoperte delle miniere per esempio in Turchia di questi elementi rari che prima nessuno andava a cercare sulla filiera fotovoltaica il problema non è tanto la disponibilità del materiale ma si è costruita una filiera di produzione in cui il primo step di quello che serve poi a costruire il pannello è la realizzazione dell'ingotto di silicio purissimo con caratteristiche molto particolari e quella parte lì della filiera è sostanzialmente concentrata tutta in Cina mentre le altre sono un pochino più distribuite in Italia è in costruzione un impianto a Catania di Enel che produrrà pannelli fotovoltaici pari a 3 gigawatt all'anno che non è tanto lontano da quello che è il nostro obiettivo di qui al 2030 di installazione in un unico impianto quindi stiamo parlando di numeri grossi però appunto la base della produzione è molto concentrata in Cina sull'eolico per esempio c'è una criticità su alcuni materiali che vanno a costituire i magneti permanenti che servono a produrre appunto l'energia e c'è ricerca per vedere se produrre turbine altrettanto efficienti ma senza usare quel materiale però c'è questa criticità assolutamente credo peraltro che se parliamo di filiere critiche anche l'uranio oggi è prodotto in gran parte da credo che il paese più produttore maggiore in questo momento sia il Kazakistan abbiamo lavorato per un sacco di anni con l'uranio che veniva dalle testate nucleari dismesse e che quello è finito o sta finendo e quindi questo per dire che fare questa transizione sarà complicato dobbiamo scegliere in quale complicazione metterci ecco scusa volevo chiederti anche questo ma è nostra perché giustamente tu accennavi ai modelli c'è anche il discorso della democrazia della partecipazione delle persone è nostra un buon esempio di come dire costruzione dal basso di una potenziale insomma di crescita delle rinnovabili come funziona in molto breve tempo e poi Aurora noi siamo una cooperativa e siamo nati con l'idea di costituire una comunità di consumatori che diventasse anche produttore nel nostro modello noi andiamo a realizzare per quella quota di produzione che è nostra appunto degli impianti collettivi utilizzando gli investimenti che fanno i soci che decidono di investire nell'impianto e assicurando a questi soci una tariffa a prezzo fisso dell'elettricità che quindi si sgancia dall'andamento dei prezzi delle fossili di cui abbiamo parlato prima per quella che non produciamo e viene comprata sul mercato ovviamente ha le dinamiche del mercato le altre cose che però credo siano altrettanto importanti oltre a queste sono da una parte che aiutiamo i nostri soci a risparmiare energia cioè facciamo questa operazione di servizi energetici quindi chi ha bisogno di fare l'isolamento della casa di sostituire la caldaia eccetera può chiedercelo o anche di farsi l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa e l'ultima cosa e credo che sarà un tema che nei prossimi anni sarà molto interessante stiamo aiutando una serie di situazioni locali di comuni distribuiti in tutta Italia a costituire quelle che si chiamano le comunità energetiche che di sicuro non sono la soluzione ma come credo sia chiaro non c'è la soluzione ci sono tante soluzioni che possono essere integrate le comunità energetiche possono essere una delle soluzioni che tengono assieme la finalità a lungo termine della decarbonizzazione la partecipazione dal basso e la consapevolezza rispetto a quello che si sta facendo e anche ovviamente una certa tranquillità rispetto ai costi di approvvigionamento Aurora ad aprile e poi andiamo a mangiare io non ho tanto da aggiungere rispetto alla questione del mix energetico perché i relatori qui hanno diciamo dettagliato moltissimo e la cosa che appunto la conclusione pensando a tutti questi elementi penso che sia diciamo il fatto che bisogna essere consapevoli che la decarbonizzazione è un processo molto complesso che appunto non ha una soluzione ma ne ha tante vanno tutte valutate e volevo lasciarvi con tre ragioni di ottimismo che sono sostanzialmente capitale tecnologia e talento cioè negli ultimi tre anni c'è stato un movimento un'accelerazione pazzesca dal punto di vista di movimento di talenti da università centri di ricerca verso società che sviluppano nuovi modi di fare energia distribuire energia decarbonizzare i processi produttivi in Italia abbiamo degli esempi ma soprattutto in Europa e negli Stati Uniti ne vediamo tantissimi il capitale nel senso che gli investimenti in altri sono ingenti anche la Cina è il principale investitore paese investitore in energia rinnovabile energia pulita e l'altro è la tecnologia cioè che non è l'unica diciamo l'unico aspetto ma è importante cioè così come il prezzo dell'energia rinnovabile è crollato negli ultimi dieci anni molto in modo molto diciamo più forte rispetto alle previsioni così ci come dire ci si aspetta si può puntare anche sul fatto che tecnologie digitali intelligenza artificiale bioingegneria possano dare un contributo alla decarbonizzazione quindi questo è anche un invito agli studenti qui a interessarsi al tema e sapere che c'è tanto da fare posso solo aggiungere una battuta iscrivetevi iscrivetevi a facoltà scientifiche non come me che ho fatto la filosofia bene allora adesso ricominciamo poi pian piano arriveranno un po' tutti ma è giusto cominciare per tenere un po' i tempi quindi un attimo solo eccoci vediamo un po' va bene cominciamo va bene eccoci qui di nuovo siamo arrivati alla terza penultima sessione della giornata con la sessione che si chiama oltre il gas la sfida dell'idrogeno verde parliamo dell'idrogeno che è un ingrediente sicuramente non secondario in questa transizione energetica tant'è vero che anche il piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato parecchi fondi proprio allo sviluppo dell'idrogeno sull'idrogeno non si sa moltissimo a livello di opinione pubblica ma e anche le informazioni non sono sempre correttissime tant'è vero che qualche settimana fa stavo partendo dall'aeroporto di Malpensa e campeggiava queste nove pubblicità della SEA che gestisce la Malpensa dicendo noi usiamo solo una fonte l'idrogeno ah bene cominciamo bene l'idrogeno è una fonte energetica e quindi credo che sia utile considerando anche il pubblico che è volutamente un pubblico di giovani di studenti eccetera spiegare anche quello che raccontiamo e entrando un po' nel merito delle questioni anche per quanto riguarda questa economia dell'idrogeno economia ma soprattutto anche ricerca e sviluppo che si sta sviluppando sull'idrogeno che funzione può avere qual è il futuro dell'idrogeno idrogeno verde anche se ora al momento quello che utilizziamo è soprattutto idrogeno non verde idrogeno blu idrogeno e di altri colori la sessione è fatta da tre panelist Alessandro Abbotto che insegna proprio qui in Università Bicocca su questi temi e quindi come dire affronta il tema dell'idrogeno nel senso più ampio proprio anche di approfondimento scientifico e di ricerca scientifica sull'idrogeno Alessio Gambato della SNAM che come è noto la SNAM è l'infrastruttura di trasporto del gas ma in futuro potrebbe essere anche la struttura di trasporto dell'idrogeno e Cristina Maggi di Assolombarda e H2IT che poi ognuno ci spiegherà un po' quello che fa anche in queste società che si occupa come è noto di politica industriale delle industrie il punto di vista degli imprenditori che già stanno utilizzando l'idrogeno e soprattutto che vorranno utilizzare l'idrogeno quindi abbiamo una componente accademica una componente proprio anche industriale che ci può ben raccontare l'utilizzo e i futuri sviluppi di questo vettore io partirei subito con Alessandro Abbotto chiedendo di introdurci un po' il tema dell'idrogeno brevemente ma facendo proprio un pochino spiega insomma di che cos'è e perché può essere utile per la transizione energetica in quale forma ecco sì allora innanzitutto buon pomeriggio a tutti quindi io partirei dal ruolo dell'idrogeno che c'è già oggi perché un errore che si fa comunemente pensare all'idrogeno come qualche cosa che deve ancora venire che è appena emerso a parte il fatto che la ricerca sull'idrogeno c'era tantissimi anni decenni però anche dal punto di vista industriale oggi l'idrogeno è un protagonista se ne producono oltre 70 milioni di tonnellate al mondo è una produzione che negli ultimi decenni è aumentata in maniera continua e vigorosa e ha degli impieghi molto importanti due o tre quali sono l'utilizzo come reagente nella sintesi dell'ammoniaca a partire dall'azoto una sintesi che è stata messa a punto circa 110 anni fa e ancora utilizzata oggi ed è un processo estremamente importante perché è la base dei fertilizzanti cioè permettono al pianeta di nutrirsi alla popolazione mondiale di nutrirsi e poi in altri aspetti importanti come ad esempio nel processo di raffinazione del petrolio quindi già oggi l'idrogeno è un protagonista dov'è che emerge questo interesse attuale nelle applicazioni emergenti cioè nelle applicazioni energetiche e lì io poiché sono un chimico un accenno di chimica la devo puffare seppure proprio molto basilare qual'è la differenza dell'idrogeno ormai tutti sanno la formula H2 e quando io lo utilizzo per produrre energia utilizzo un processo in cui lo faccio reagire con l'ossigeno quindi proveniente dall'aria o in una reazione di combustione oppure se ne parleremo anche nelle celle combustibili e allora H più O H2O quindi lo scarto è acqua e quindi è un combustibile pulito e come è stato detto giustamente non è però una fonte nel senso che H2 non si trova sulla Terra è l'elemento più abbondante dell'universo però sulla Terra non c'è nella forma H2 c'è nelle molecole che contengono di idrogeno l'acqua il CH4 il metano un'altra formula che ormai tutti conosciamo e quindi lo dobbiamo prendere da lì con dei processi tra cui ad esempio dei processi sporchi come appunto l'idrogeno grigio in questo momento l'idrogeno viene prodotto in maniera sporca da CH4 e laddove c'è una C e allora quando si combina con l'ossigeno CO2 ecco quindi una questione abbastanza semplice l'acqua è invece lo scarto della produzione dell'idrogeno quindi dov'è la soluzione quindi finendo diciamo l'arcobaleno dei colori abbiamo parlato dell'idrogeno grigio l'idrogeno blu che è stato citato è quello in cui si produce CO2 ma viene catturata non con un'efficienza del 100% poi c'è l'idrogeno verde che è quello che invece è l'idrogeno veramente pulito perché viene ottenuto da acqua e da elettricità ottenuto da fonte rinnovabile ed è quello verso cui dobbiamo tendere dove mandare ci sono anche altri colori ad esempio turquese che è ancora da metano con un diverso processo oppure anche dal nucleare l'idrogeno rosa proviene da elettricità ottenuta dal nucleare però sono dei contributi molto piccoli bene bene allora a questo punto chiederei invece a Cristina Maggi qual è un po' il panorama delle industrie che impiegano e che soprattutto prevedono e già lavorano in termini di investimenti di ricerca eccetera di utilizzare l'idrogeno perché inevitabilmente l'idrogeno per molte industrie è il sostituto del gas fondamentalmente grazie mille buongiorno a tutti innanzitutto io rappresento anche appunto un'associazione di aziende che si occupano di idrogeno a livello italiano che si chiama H2T un'associazione che è nata nel 2005 quindi come diceva il professore non è che se ne parla da due o tre anni che però ha avuto ovviamente una crescita negli ultimi anni dovuta anche all'attenzione che l'idrogeno ha attirato in questi ultimi anni come ruolo come vettore energetico che avrà un ruolo nella transizione energetica e nella decarbonizzazione di molti settori diceva giustamente il professore mi connetto a questo che l'idrogeno attualmente e prevalentemente è utilizzato nell'industria è un idrogeno sporco attualmente quindi un idrogeno che prodotto produce CO2 ed è utilizzato principalmente in industrie come le raffinerie la produzione dell'ammoniaca quindi ad esempio i fertilizzanti però queste aziende che fanno parte appunto anche dell'associazione ma tante aziende hanno visto nel vettore energetico idrogeno un'opportunità di decarbonizzare settori che sono magari difficilmente decarbonizzabili con altri vettori energetici come ad esempio l'elettricità ovviamente attraverso un idrogeno che deve essere pulito quindi un idrogeno che non viene dalla produzione di combustibili fossili ma un idrogeno che proviene giustamente dall'acqua quindi l'opportunità qual è? da un lato è vero che l'opportunità è la decarbonizzazione quindi decarbonizzare i propri processi però c'è un'altra opportunità interessante che è quella della leadership tecnologica su questo tema nel senso che l'idrogeno non essendo una fonte primaria e necessitando comunque di tecnologie per essere trasformato in energia e anche per essere prodotto permette lo sviluppo di tecnologie quali ad esempio gli elettrolizzatori le celle a combustibile ma come tante altre tecnologie che insomma stanno arrivando sul mercato che devono essere sviluppate per trattare questo per trasformare appunto questo vettore energetico in energia e diventa un'opportunità per le aziende di sviluppare nuova componentistica nuove tecnologie ed essere leader anche in un nuovo settore che si sta sviluppando quindi da un lato l'opportunità della decarbonizzazione dall'altra l'opportunità economica poi l'Europa nel 2020 ha pubblicato la strategia idrogeno europea una strategia che aveva questo duplice obiettivo quindi l'obiettivo da un lato di decarbonizzare settori pesanti come l'industria pesante le acciaierie con la sostituzione dell'idrogeno e del gas naturale ad esempio con l'idrogeno oppure anche la mobilità quindi la mobilità come il trasporto merci il trasporto aereo anche il trasporto il trasporto pesante insomma tutte le varie tipologie di mobilità e ha intravisto non solo l'opportunità appunto di decarbonizzare questi settori ma chiaramente anche l'opportunità di sviluppare un nuovo settore dove essere leader in qualche modo visto che in passato abbiamo perso altre sfide in questo senso bene e Alessio Gambato invece per la SNAM SNAM appunto è la proprietaria di tutta questa rete incredibile anzi abbiamo anche una diapositiva che faceva vedere quanto è stesa questa rete di tubi che mettiamola pure perché ce l'avevano dato proprio a SNAM che che riguarda peraltro tutta l'Europa non tutto SNAM ovviamente tutta l'Europa e come vedete ci sono delle delle linee verdi cioè quelle che sono i tubi la rete già esistente e le parti gialle che dovrebbero interconnettere questa rete anche per consentire uno scambio continentale dell'idrogeno vorrei capire appunto quali sono le vostre posizioni e strategie proprio quindi in termini di infrastruttura di trasporto se questo è possibile no c'è c'è tutto un dibattito anche sull'opportunità da un lato di trasportarlo dall'altro di produrlo in loco perché evita tutta una serie di problematiche quindi ci interessa anche questo tipo di posizione grazie grazie intanto buongiorno a tutti dunque diciamo inizierei come dire forse dalla fine della domanda che mi veniva posta ovvero il modello di produzione come immaginiamo e come quello che è stato detto stamattina in qualche modo si si accosta al tema idrogeno i due temi c'è la transizione energetica e le energie rinnovabili di cui si è parlato stamattina in realtà sono molto più legati al tema idrogeno di quanto non potrebbe sembrare perché in effetti come è stato già detto l'idrogeno diciamo rinnovabile o cosiddetto verde è quello che ci serve per è una delle leve per poter effettivamente attuare la transizione energetica e per ottenerlo è necessario utilizzare un'energia primaria dato che l'idrogeno è un vettore l'energia primaria è appunto l'energia rinnovabile quindi da sole vento geotermia idroelettrico eccetera per cui diciamo quello che il modello di produzione e di distribuzione e anche di consumo dell'idrogeno in realtà ha molto a che fare con quello delle rinnovabili da questo punto di vista e anche la sua produzione il fatto che possa essere prodotto con un approccio piuttosto che l'altro se volete diciamo possiamo accostarlo a quello che ad esempio accade sul solare dove abbiamo l'energia solare ha introdotto un modello diciamo distribuito di produzione e di consumo che era estraneo diciamo al modello industriale dove c'era una centralizzazione tante produzioni o meglio poche produzioni centralizzate su larga scala grandi centrali e poi la distribuzione dell'energia ecco noi sull'idrogeno diciamo vediamo una complessità analoga quindi con delle applicazioni che potranno effettivamente soprattutto all'inizio beneficiare di una produzione di l'idrogeno in loco quindi dove magari ho delle rinnovabili disponibili e quindi questo in qualche modo produrrà qualcosa di analogo a quello che abbiamo visto con il fotovoltaico se volete accanto a questo se guardiamo agli obiettivi di lungo periodo che sono stati posti anche dalle strategie europee al 2030 ma più in generale di decarbonizzazione nel lungo periodo quello che sappiamo è che però i quantitativi di idrogeno che serviranno per decarbonizzare determinate applicazioni poi magari vedremo meglio quali sono importanti e quindi diciamo per produrre questi quantitativi evidentemente servirà in qualche modo fare un mix un giusto mix tra una produzione distribuita quella fatta un po' diciamo sotto casa come con i pannelli fotovoltaici e quella invece centralizzata su grandi impianti e anche in un sistema interconnesso e quindi da qui diciamo arriviamo all'immagine che c'è alle nostre spalle cioè in altre parole come per l'elettrico anche per il mondo dell'idrogeno si immagina che ci sia una forte interconnessione all'interno dei paesi europei e tra l'Europa e ad esempio il Nord Africa ma anche verso est diciamo e quindi l'infrastruttura quello che è rappresentato qui non è altro che una parte dell'infrastruttura gas che oggi trasporta il gas naturale attraverso l'Europa e che interconnette l'Europa anche con la Russia il Nord Africa e così via una parte di questo sistema possa essere riutilizzata anche per trasportare gas verdi diciamo così in particolare biometano che è una parte importante anche delle strategie europee di decarbonizzazione e idrogeno e quindi magari non so poi torniamo meglio sui dettagli di questo percorso mi interessava capire anche i problemi tecnici che bisogna affrontare per trasportare una molecola molto diversa dal gas attraverso tubi che erano stati concepiti proprio per il gas quindi questo se vogliamo possiamo anche affrontarlo subito effettivamente non è così semplice perché è chiaro che immaginiamo l'infrastruttura gas intanto cose diciamo basilari da sapere è interrata quindi sono tubi interrati è abbastanza invisibile come infrastruttura magari al contrario di altre che sono più visibili e meglio individuabili essendo quindi interrata è fondamentale capire se posso riutilizzarla tal quale e se posso quindi minimizzare gli interventi che devo farci su per poter cambiare il gas che voglio trasportare la buona notizia è che Snam come tanti altri trasportatori di gas in Europa sono oramai più di 30 che hanno aderito alla backbone europea che vedete raffigurata hanno definito sostanzialmente una compatibilità di larga massima della rete europea di trasporto del gas con l'idrogeno quindi diciamo la buona notizia è che si può switchare si può sia miscelare il gas con l'idrogeno ma soprattutto si può riconvertire gradualmente una parte dell'infrastruttura gas man mano che il mercato gas tra l'altro diciamo diminuirà perché per il trend dell'elettrificazione che abbiamo visto anche stamattina e quindi una parte di questa infrastruttura potrà essere riconvertita ci sono delle sfide tecnologiche che però diciamo si stanno già affrontando quindi come dire quello che la visione diciamo è che già dal 2030 in avanti si possa realizzare in alcune zone cosiddette valle diciamo distretti dell'idrogeno un modello integrato dove ci saranno delle produzioni e dei consumi e una rete che unisca produzione e consumo in parte possibilmente riutilizzando le infrastrutture di trasporto e distribuzione che già ci sono e questo vuol dire tra le altre cose ridurre diciamo i costi a livello di sistema quindi il costo complessivo dell'energia è dato dalla produzione dal trasporto e distribuzione dell'energia e poi dalle applicazioni finali ecco diciamo il fatto di poter fare leva su un patrimonio diciamo su un asset che in Europa è molto sviluppato perché una rete del gas così interconnessa come c'è in Europa è così diciamo magliata è qualcosa di peculiare che c'è in Europa ma non è non è così diffuso nel resto del mondo è un tema diciamo che può può in qualche modo fare la differenza e accelerare l'unione della domanda dell'offerta e la creazione di un mercato certo bene torniamo da botto per capire meglio entriamo un po' nel merito di questo idrogeno verde che è un po' il futuro a cui dobbiamo prepararci quali opportunità ma soprattutto anche quali difficoltà e che tipo di opportunità economiche ci sono nella produzione e nel dispaccio di questo idrogeno verde anche come tempi insomma questi sono tutti elementi molto utili da capire sì allora è chiaro che l'idrogeno verde è l'obiettivo finale altrimenti abbiamo capito tutti che torniamo al punto di partenza cioè torniamo al gas naturale l'idrogeno verde appunto vi ricordo ha bisogno oltre che di acqua di elettricità da fonti rinnovabili e quindi la sfida è capire ma noi dei 70 milioni che produciamo oggi nel mondo dei mezzo milione che produciamo in Italia dei 10 milioni di tonnellate che produciamo in Europa e negli Stati Uniti quanto possiamo convertirne in idrogeno verde allora lì ci sono diciamo due livelli di discorso che secondo me si possono fare uno di tipo politico strategico e su questo appunto l'ha già citata hydrogen strategy europea ha fissato degli obiettivi al 2024 al 2030 e al 2050 al 2024 l'obiettivo è quello di rendere verde circa un milione di tonnellate di produzione di idrogeno in Europa sto dicendo poi al 2030 l'obiettivo è quello di moltiplicare per 400 volte la potenza necessaria degli elettrodizzatori per arrivare ad idrogeno verde nel 2050 addirittura 7000 volte quindi ci dobbiamo porre dei gradini un gradino di brevissimo termine un gradino intermedio al 2030 e un gradino poi un pochettino più ambizioso al 2050 quando l'idrogeno sarà diventata una tecnologia matura quindi non è una tecnologia pronta per il domani però ha incomincio a ritagliarsi un ruolo importante adesso e poi sempre di più fino al 2050 allora io mi permetto di fare qualche calcolo proprio scolastico che ho riportato qui quindi permettetemi di leggerlo giusto per non fare errori allora cosa se noi volessimo rendere verde domani mattina il 10% della produzione di idrogeno che attualmente è sporco di quanta elettricità verde abbiamo bisogno allora lì i calcoli sono molto semplici ci vado a vedere il contenuto di energie in un chilogrammo di idrogeno lo moltiplico per l'efficienza degli elettrodizzatori oggi intorno al 65% la tecnologia alcalina che tra l'altro è una tecnologia che è arrivata cent'anni fa e adesso poi ci sono nuove tecnologie come ad esempio quella membrana protonica che arrivano ad efficienze dell'80% le nuove generazioni addirittura oltre l'80% però usiamo pure questo dato del 60% di efficienza allora questo vuol dire che ci vogliono circa 50 kilowattora per fare un chilogrammo è tanto è poco allora 50 kilowattora è quanto ciascuno di noi consuma a caso in una settimana quindi vuol dire che il consumo di una settimana nel nostro appartamento è necessario per produrre un chilogrammo di idrogeno ecco a questo punto se uno fa i calcoli con tutta l'energia verde che viene prodotta nel mondo quindi ritorniamo al mondo si accorge che per produrre già domani mattina il 10% di idrogeno verde cioè convertire l'idrogeno grigio che oggi è al 98% circa tenendo anche conto del mix elettrico quindi il 98% ecco se noi volessimo passare al 10% subito di idrogeno verde abbiamo bisogno di una quantità di energia rinnovabile che equivale all'incremento che viene avviene annualmente ad esempio negli ultimi due anni cioè dal 19 al 20 o dal 20 al 21 quindi è un obiettivo alla portata diciamo tecnologico assolutamente ci sono due distingui da fare allora il primo distingue è che chiaramente parliamo del 10% se noi vogliamo puntare al 100% i discorsi cambiano poi c'è un'altra questione qui cito Nicola Armaroli che sarà un panelist della prossima sessione che ha fatto un interessantissimo commento su Nature che è uscito qualche tempo fa in cui giustamente lui faceva notare però attenzione che la quantità di idrogeno non è quella che produciamo oggi ma quella che intendiamo produrre per coprire tutte le applicazioni emergenti cioè quindi ad esempio l'energia ai trasporti l'industria hard to abate e tutte le altre richieste riscaldamento allora lì le cose cambiano quindi ad esempio in Italia oggi noi produciamo per i nostri utilizzi mezzo milione di tonnellate e Armaroli ha previsto che triplica la quantità di idrogeno necessaria e allora a quel punto le richieste energetiche sono diverse anche lì però si capisce che siamo comunque alla portata perché è vero che noi dobbiamo produrre molto più energia ad esempio da fotovoltaico e da eolico ma ad esempio anche qui è vero che negli ultimi dieci anni abbiamo moltiplicato per 15 volte la produzione di fotovoltaico quindi è certamente la nostra portata in Italia in un solo anno intorno al 2010 abbiamo prodotto di nuova potenza fotovoltaica quello che abbiamo prodotto nei successivi dieci anni quindi quello a cui voglio arrivare il messaggio e poi diciamo finisco è che quindi certamente ci deve essere un aumento graduale di produzione di idrogeno verde ma certamente la portata incominciamo col 10% e poi gradualmente si può aumentare non possiamo arrivare subito al 100% e il tutto deve essere accompagnato da una politica decisa di incentivazione dello sviluppo rinnovabile se noi avessimo tenuto negli ultimi dieci anni lo stesso rate di installazione fotovoltaico che abbiamo avuto in un solo anno nel 2010 a quest'ora forse i telegiornali e i giornali non ci parlerebbero in continuazione del problema del gas naturale del fatto che non abbiamo abbastanza energia per per le nostre esigenze energetiche ma il 100% di idrogeno verde realisticamente ci si potrebbe arrivare a metà secolo con sempre che la tabella di marcia della decarbonizzazione e dell'installazione di energie rinnovabili prosegua anzi aumenti perché adesso siamo un pochino in questi primi anni in difficoltà ci si potrebbe arrivare o comunque con quali tempi dobbiamo aspettarci per questo uso pulito dell'idrogeno sì allora ad esempio ritornando allora giusto perché per tornare al nostro paese al caso italiano il 10% richiede il 2% dell'attuale produzione di energie rinnovabili quindi è fattibile per arrivare al 100% arriviamo al 20% è chiaro che quindi oggi non è fattibile perché non possiamo dedicare il 20% dell'elettricità per produrre idrogeno verde ma è anche vero che ci sono due fattori da tenere in conto primo in questo momento tutto il settore energetico si divide in due grandi comparti combustibili ed elettricità e l'elettricità rende conto di circa un quinto il 20% di tutta la domanda finale di energia al 2050 l'obiettivo è quello di arrivare e superare il 50% quindi avremo sempre più elettricità l'altro fattore è che avremo sempre più elettricità pulita nel senso che come dicevo prima negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 15 volte l'installazione di fotovoltaico che avevamo 15 anni fa e mi preme anche sottolineare un altro elemento se uno va a vedere io l'ho fatto se uno va a vedere i dati dell'International Energy Agency che è una delle più importanti agenzie intergovernative mondiali nel campo dell'energia io sono andato a vedere le migliori previsioni di installazione di fotovoltaico al 2020 scritte nel rapporto 2000 e nel rapporto 2010 di questa agenzia e sono andato a vedere che la previsione al 2000 di quello che sarebbe successo al 2020 erano fuori di ordini di grandezza parliamo non so di 30 contro 8000 tanto per dare un'idea ma anche al 2010 cioè solo 10 anni fa si prevedeva al 2020 l'installazione di un quinto di quella che c'è attualmente oggi il che uno potrebbe dire strapolando vuoi vedere che oggi le migliori previsioni sono sottostimate c'è una ragione perché la tecnologia progredisce il fotovoltaico di 10 anni fa non è quello di oggi le efficienze sono migliori le stabilità sono migliori adesso sta arrivando anche in Italia una Gigafactory che avrà una capacità di 3 gigawatt di produzione di fotovoltaico a silicio bifacciale nella piana di Catania i costi sono diminuiti quindi è molto difficile fare previsioni da qui al 2030 certamente gli ultimi 10 anni ci hanno insegnato che l'evoluzione delle rinnovabili è veramente sta andando veramente a ritmi molto forti molto sostenuti e quindi a mio parere gli obiettivi sono raggiungibili sempre che lo si voglia però fare non tanto in Italia ma insomma in molti altri paesi di più forse come sviluppo delle rinnovabili che nel nostro paese un po' hanno per tanti anni hanno un po' ristagnato adesso come dire tutta una serie di ostacoli permettendo dovrebbe assolutamente riprendere molto alla grande volevo chiedere a Cristina Maggi vorrei insistere un po' sugli impieghi industriali dell'idrogeno perché non so se dal veloce commento fatto prima emerge nella sua importanza quali tipi di industria dovrebbero diciamo passare all'idrogeno sostituendolo in particolare al gas per poter andare avanti in questo panorama certo allora magari traccio un pochino il quadro di quella che è la filiera dell'idrogeno brevemente cioè noi partiamo dalla produzione dell'idrogeno che oggi ovviamente abbiamo parlato delle tecnologie che sono quelle che ci portano alla produzione di idrogeno rinnovabile ma non sono le uniche esiste anche l'idrogeno low carbon quindi ci sono diverse possibilità di produzione di idrogeno poi abbiamo la necessità di trasportarlo distribuirlo e stoccarlo quindi tutta la parte della logistica e qua SNAM ovviamente entra nella parte del trasporto ma ci sono anche altri metodi di trasporto dell'idrogeno e poi abbiamo gli utilizzi finali per gli utilizzi finali noi ad oggi parliamo di utilizzi dove possiamo utilizzare l'idrogeno per decarbonizzare i settori quindi partiamo da quello più facile secondo me da comprendere che è la mobilità la mobilità ok l'idrogeno può essere utilizzato in due modi nella mobilità o all'interno di una cella combustibile una cella combustibile è semplicemente un dispositivo elettrochimico che utilizzando sostanzialmente in ingresso idrogeno mi produce energia elettrica quindi in toto un motore elettrico sostanzialmente e posso utilizzarlo per tutte le tipologie di mobilità e questa è la prima la fuel cell la cella combustibile e poi io posso bruciare l'idrogeno attenzione che ovviamente nel bruciare l'idrogeno con aria produco NOx quindi anche qui a differenza di una cella combustibile che invece diciamo è un processo completamente a zero emissioni però anche su quello ovviamente si sta lavorando tantissimo su tantissime tecnologie quindi questo per dire che da un lato apre a diverse tipologie di tecnologie diversi studi e ricerche e sviluppo in questo ambito dall'altro si può utilizzare per diverse tipologie di mobilità parliamo dell'auto leggera che sono in commercio ad oggi anche se costosissime e poi in molti casi non utilizzabili perché non abbiamo ancora le infrastrutture di rifornimento parliamo dell'auto parliamo dei bus ma parliamo anche di treni che in Italia pare che arriveranno molto presto quindi spero che a breve potrete salire su un treno idrogeno come già in Germania succede c'è un progetto in Valcamonica dove a breve verranno sostituiti i treni diesel con treni idrogeno in questo caso treni a fuel cell quindi parliamo di treni elettrici però treni elettrici che non si collegano ad un cavo hanno una fuel cell sopra hanno un pacco di bombole idrogeno e funzionano in questo modo poi in realtà quelli probabilmente sono anche treni ibridi quindi hanno batterie a loro insomma è un range extender sostanzialmente hanno batterie più idrogeno e quindi a brevissimo parliamo di due o tre anni questo all'interno del PNRR si prevede che prima del 2026 le estrazioni di rifornimento saranno costruite e i treni li avremo speriamo parliamo il trasporto pesante quindi di camion a cella combustibile o camion anche a combustibile di idrogeno anche qui ci sono diverse visioni su questo tema parliamo di trasporto marittimo e qua si apre un altro un altro mondo perché l'idrogeno esiste come in idrogeno ma esiste anche come all'interno di altre carrier come ad esempio l'ammoniaca quindi questo è un tema apre un altro tema molto molto interessante perché l'ammoniaca a differenza dell'idrogeno può essere diciamo ha una capacità di trasportare energia maggiore se vogliamo dell'idrogeno perché non deve essere compressa tanto quanto deve essere compresso l'idrogeno ad esempio e poi il trasporto aereo quindi abbiamo tutta una serie di opzioni e opportunità quindi questa è la mobilità lato industria è interessante perché su determinati processi ad alta temperatura come possono essere ad esempio processi all'interno delle acciaierie o soprattutto adesso si parla tanto di acciaierie ma si parla anche di vetrerie di ceramiche quindi industrie comunque molto energivore che necessitano processi ad alta temperatura dove il gas naturale o comunque il combustibile è d'obbligo cioè io non riesco a farlo questo con l'elettricità e quindi devo sostituirlo con un altro combustibile e preferiamo un combustibile verde quindi un combustibile che non emette sostanzialmente CO2 è chiaro che qui va andato studiare come l'utilizzo dell'idrogeno impatta poi sul prodotto finale perché se faccio una piastrella vorrei ben vedere che la piastrella viene uguale che se la faccio con il gas naturale quindi queste ad esempio le possibilità nell'industria ed è in realtà l'ambito dove stiamo puntando di più a livello italiano perché è l'ambito forse dove riusciremo a fare anche la mobilità sicuramente ma dove riusciremo in primis a fare le prime sostituzioni ad abbattere tanto l'emissione di CO2 e poi si aprono anche il settore residenziale ad esempio con eventualmente calda e idrogeno piuttosto che la produzione di energia e calore appunto sempre attraverso l'idrogeno quindi diciamo che entra a far parte di diversi settori alcuni saranno più veloci e prioritari altri arriveranno dopo quando avremo tante speriamo quantità di idrogeno come si parlava prima però sicuramente insomma un'opzione interessante anche nell'ambito di quello che sta succedendo diciamo oggi con l'aumento dei costi del gas eccetera non so se ho dato una visione della filiera grazie mille prego allora a livello abbiamo parlato adesso della possibilità di utilizzare l'idrogeno nell'industria a livello politico burocratico qual è il l'aiuto che viene dato a questo tipo di attività beh questa è un'ottima domanda perché diciamo che è quello che ci sono tante la costruzione di questo settore è una sfida completa dall'inizio alla fine sia per quanto riguarda le quantità di effettivamente di idrogeno da produrre come diceva il professor Abbotto ma anche della costruzione di tutto quello che è il quadro regolatorio normativo dove questo settore si inserisce perché è fondamentale costruire intorno a questo un qualcosa di chiaro che abiliti gli investimenti perché se non so come mi attualizzeranno gli impianti piuttosto che la normativa non è chiara eccetera ovviamente la difficoltà di sviluppare queste tecnologie e di utilizzarle poi come utilizzatore finale è sicuramente difficile quindi è importantissimo il lavoro degli enti normatori ma anche delle istituzioni nel creare le condizioni perché questo settore si sviluppi e anche le policy vorrei dire quindi la parte ovviamente incentivante cioè io come utilizzatore finale devo riuscire devo poter essere messo diciamo nelle condizioni di scegliere il vettore più green rispetto a quello meno green o comunque la soluzione in generale parlo di tutte le soluzioni non solo l'idrogeno ma devono essere messi nelle condizioni di scegliere l'uno piuttosto che l'altro quindi che il mio business case stia in piedi grazie anche a un supporto di incentivi a livello di governo poi sicuramente sulla parte della normativa anche Snam ha sicuramente il suo punto di vista Sì allora magari provo diciamo a riprendere la palla che alzavi tu Cristina riguardo diciamo il come dire quello che sta succedendo e che vediamo diciamo che effettivamente nei prossimi anni concretamente può succedere sul mondo dell'idrogeno effettivamente c'è un interesse molto forte stamattina parlavamo ascoltavamo diciamo un intervento che ci raccontava come le aziende si stanno avvicinando al tema della decarbonizzazione e come chiedono diciamo di poter agire rapidamente per intraprendere questo percorso anche sull'idrogeno effettivamente c'è un'attenzione molto forte noi diciamo come SNAM stiamo andando un po' oltre l'attività diciamo di trasporto del gas e ci stiamo occupando di cercare diciamo di favorire anche con dei progetti pilota l'abbio di questo tipo di applicazione e la creazione di questi ecosistemi a idrogeno quindi vediamo anche noi che effettivamente c'è una consapevolezza molto accresciuta negli ultimi anni da parte diciamo degli utilizzatori che si rendono conto il mondo industriale è sicuramente il primo di questo in questo che per poter decarbonizzare e centrare gli obiettivi che sono stati posti a livello europeo laddove l'elettrificazione non è un'opzione l'idrogeno c'è largo consenso sul fatto che sia effettivamente una soluzione in molti casi l'unica soluzione faccio l'esempio dell'industria dell'acciaio che è un'industria tipicamente piuttosto sporca diciamo così per processi quantità di energia temperature l'elettrificazione non arriva a coprire diciamo a sostituire i fossili che vengono usati attualmente quindi su questo ho parlato dell'acciaio ma insomma ci sono tanti altri settori in cui tra l'altro l'Italia è molto forte come la ceramica o la carta c'è una forte spinta quindi effettivamente vediamo che negli ultimi due o tre anni c'è stata un'apertura e un traino diciamo anche da parte di chi questo vettore dovrà poi comprarlo in qualche modo quello che manca è ancora un approccio di sistema e qui torno al punto che facevi sulla normativa cioè mancano ancora le regole di questo sistema cioè oggi ci sono le regole per il mercato del gas stamattina abbiamo sentito come funziona la borsa del gas e mancano completamente quelle di un per gestire un ipotetico mercato dell'idrogeno e senza questo effettivamente diciamo diventa difficile immaginare uno sviluppo su larga scala degli investimenti e così via ecco ma sempre stando su Snam un attimo per tornare alle reti di trasporto e alla logistica se oggi avessimo già per miracolo grande disponibilità di idrogeno verde che cosa mancherebbe per poterlo effettivamente trasportare attraverso i tubi ci sono dei passaggi tecnologici di ricerca eccetera che devono essere ancora fatti o siamo già pronti sì allora diciamo a livello di ricerca direi di no nel senso che quello che abbiamo visto è che la rete di trasporto del gas quindi diciamo i tubi per semplificare e le centrali che spingono questo gas all'interno dei tubi sono riconvertibili al trasporto dell'idrogeno è necessario fare degli investimenti per rinnovare in parte le centrali quindi i sistemi che comprimono il gas e che potranno comprimere l'idrogeno per trasportarlo su lunga distanza ma come dire questo non è il collo di bottiglia come dire per creare un sistema idrogeno su larga scala in questo momento il vero diciamo limite che vediamo è ancora una volta quello della competitività cioè il costo di produzione dell'idrogeno verde che è legato stavolta molto al costo dell'energia elettrica che utilizzo per produrlo quindi per rispondere alla domanda l'infrastruttura di trasporto del gas già oggi può essere riconvertita e noi abbiamo nel piano di evoluzione della rete già al 2030 oltre 2.000 km dedicati all'idrogeno un'altra parte dell'infrastruttura che è importante oggi e fondamentale ne abbiamo parlato del sistema gas sono gli stoccaggi gli stoccaggi diciamo sotterranei su grande scala anche quelli sono oggetto di un programma di ricerca innovazione finalizzato a capire se si possono riutilizzare gli stoccaggi sotterranei di gas anche per l'idrogeno perché effettivamente come abbiamo detto che le rinnovabili saranno soggette a forte variabilità e questo pone tutta una serie di sfide sia variabilità giornaliera che stagionale questo varrà anche per l'idrogeno verde in qualche modo perché se lo produciamo dalle rinnovabili inerudibilmente avremo lo stesso problema e quindi anche per l'idrogeno che derivo dalle rinnovabili dovrò trovare un modo per poterlo stoccare e per poter diciamo in maniera efficiente diciamo agire da polmone quando non ho produzione aggiungo un ultimo aspetto per ricongiungere questo tema dell'infrastruttura e degli stoccaggi con gli usi finali in particolare industriali l'altra grande sfida è che alcuni utilizzi e quelli industriali sono da questo punto di vista diciamo un esempio lampante sono continui cioè le grandi industrie consumano grandi quantità di energia in continuo con dei processi sostanzialmente continui i forni di fusione i forni di lavorazione lavorano a ciclo continuo quindi la domanda rappresenta quella parte di domanda di energia che è un po' uno zoccolo duro che sostanzialmente non ha una forte variabilità e quindi se la devo servire con energia elettrica perché la posso elettrificare dicevamo stamattina dovrò trovare il modo di essere stabile nel produrre energia elettrica se invece devo fornire idrogeno perché abbiamo detto che questa è un'applicazione centrale anche quell'idrogeno dovrà essere fornito con continuità e questo è uno dei motivi per i quali secondo noi è necessario che il sistema in qualche modo sia un sistema magliato non posso avere una produzione dedicata a un singolo utilizzo perché questo mi riduce fortemente diciamo la possibilità di si accoppiare la variabilità della produzione con la continuità invece di domanda che ho sulle applicazioni che vediamo diciamo come prioritarie per l'idrogeno bene mi sembra di capire che il problema dell'idrogeno verde oggi è essenzialmente anche di ordine economico ma anche tecnologico nel senso gli elettrizzatori le celle a combustibile che tipo di miglioramenti potranno avere anche con gli sviluppi della ricerca per rendere la produzione dell'idrogeno verde più spedito e anche più economico e per entrare in una produzione piena insomma di idrogeno verde ovviamente sì allora diciamo che ci sono diversi livelli in cui secondo i quali diciamo la ricerca sta sviluppando nuove tecnologie a breve a medio a lungo termine a breve a medio termine si punta ad elettrolizzatori e fuel cell che siano sempre più efficienti vi accennavo prima oggi un elettrolizzatore ha una conversione energetica del 60-65% domani dell'80% o anche più con le nuove generazioni di elettrolizzatori aumentare la scala perché dobbiamo produrre più idrogeno verde quindi abbiamo bisogno di macchine sempre più grandi di un ordine di grandezza diminuire i costi adattarsi questo è molto importante al sistema elettrico quindi ad esempio se io voglio utilizzare un elettrolizzatore sfruttando energie da fonti rinnovabili deve avere dei sistemi che si possono fermare e riaccendere rapidamente quindi anche questi aspetti di integrazione sono molto importanti è un errore grosso parlare a settori separati del sistema integrato energetico deve funzionare tutto in maniera integrata e poi non da ultimo che poi è anche quello di cui ci occupiamo ad esempio in questa università e in altre università lo sviluppo di nuovi materiali ad esempio per aumentare l'efficienza degli elettrolizzatori io devo passare dagli elettrolizzatori adesso lasciate perdere il termine tecnico comunque lo dico lo stesso però anche se non vi dice nulla da quelli alcalini a quelli a membrana protonica a base acida e lì però devo utilizzare dei materiali costosi che siano stabili in queste condizioni quindi ad esempio parliamo di platino cioè quindi di materiali critici è chiaro che se io voglio passare ad alte produzioni devo far sì di inizialmente limitare e poi azzerare la presenza di materiali critici che non solamente sono costosi ma sono anche concentrate in zone ben precise del pianeta per cui di nuovo dipendiamo da zone che prima o poi possono essere soggette delle crisi geopolitiche questo non va bene o oscillazioni di prezzo e poi c'è tutta la nuova generazione in lungo termine secondo me tra queste il più affascinante è quello dell'approccio diretto solare cioè che sfrutta direttamente la luce del sole che non dimentichiamoci a differenza del gas che viene non viene ai prezzi che aumentano diminuiscono il sole non ha questa caratteristica viene sempre e il prezzo è sempre lo stesso cioè non ha prezzo cioè è gratuito per sempre l'approccio diretto solare è molto importante perché in questo momento uno dei problemi dell'idrogeno è che dobbiamo fare più passaggi cioè noi dobbiamo partire dall'acqua ottenere elettricità verde da acqua produrre idrogeno poi come è stato detto l'idrogeno lo mettiamo in una cella combustibile da cui riproduciamo acqua ed elettricità quindi partiamo dall'elettricità arriviamo all'elettricità è vero che nel frattempo noi lo possiamo stoccare distribuire attraverso i gaslotti possiamo fare tutto quello che vogliamo però è un doppio passaggio dal punto di vista diciamo energetico quasi inutile allora come evitare questo produrlo direttamente da sole da materiali abbondanti che non siano costosi quindi si va nel campo della fotocatalisi dell'elettrocatalisi che sono attualmente allo stato di ricerca e sviluppo di laboratorio oppure addirittura di proof of concept quindi ancora diciamo a un livello abbastanza basso però ricordiamoci che prima avevamo un orizzonte del 2070 no? tutto sommato oggi molte persone parlano di fusione nucleare diffusione nucleare chissà quando arriverà e questi approcci quindi sono possibili e certamente quando arriveranno risolveranno altri problemi un altro approccio interessante ad esempio è quello di produrre idrogeno non d'acqua dolce che in certi paesi oggi si parla di siccità però diciamo in certi paesi ad esempio nel nord Africa da cui partono quelle linee no? dei gasdotti insomma il problema di riperimento dell'acqua può diventare un problema ma d'acqua di mare allora a quel punto abbiamo una risorsa inesauribile a costo nullo sfruttando il sole anch'esse inesauribile a costo nullo per cui arriviamo veramente però questo tra un po' come si può fare a fare questo tipo di allora ci sono già degli studi ad esempio ci sono delle start up addirittura in California che sono già riusciti su piccola scala su piccoli prototipi ad evitare il problema della produzione di sostanze diciamo collaterali tipo il cloro che provengono normalmente per l'elettrodisi del sale presente nell'acqua marina facendo in modo tale che questo processo venga limitato addirittura annullato e produrre solamente idrogeno in maniera selettiva quindi ci sono dei progetti da questo punto di vista la ricerca sta sviluppando questo quando ci arriveremo allora a questo punto diciamo avremo idrogeno a partire da fonte abbondante poco costose stiamo parlando di ricerca quindi ci sono vari livelli cioè il breve termine è quello che vi ho detto prima e poi sempre più ma elettrodizzatore e cello combustibile efficienti ci sono nuove generazioni sia di elettrodizzatore che di combustibile che sono ancora più efficienti di quelle che ho menzionato quelle ossidi solidi a carbonati fusi sono tutte a livello di ricerca ma sono a livello di ricerca molto sviluppata anche in Italia tra l'altro il piano nazionale riprese resilienza proprio col programma citato prima ha finanziato tra l'altro proprio recentemente in questi mesi tutte queste attività di ricerca quindi diciamo speriamo che da qui al termine del PNRR intorno al 2026 si siano fatti dei passi avanti anche grazie a questi diciamo finanziamenti anche nella ricerca a livello italiano dunque ci stiamo avvicinando verso la fine della nostra dichiarata quindi se cominciano magari cominciare a prendere qualche domanda ma volevo intanto farne una io tornando agli usi civili a riscaldamento prima si citavano le caldaie idrogeno leggevo che il Regno Unito ha una strategia di implementazione di questo riscaldamento di caldaie idrogeno che però recentemente è stata anche un po' contestata da alcuni dicendo che costerebbe molto meno usare le pompe di calore essenzialmente perché al momento è molto costoso questo tipo di riscaldamento ci sono delle considerazioni su questo aspetto allora partiamo dal fatto che ogni vabbè UK non è più Unione Europea ma ogni paese ha una sua strategia sull'idrogeno perché chiaramente siamo anche diversi dal punto di vista geografico abbiamo diversi mix energetici diversi diciamo punti forti per cui UK ha adottato una strategia particolare che è molto diversa e non si inserisce in gran parte in quella che è la strategia ovviamente europea appunto non essendo europei ma in generale sono rimasti molto spinti e non si sono allineati all'Europa in quanto hanno puntato tantissimo sull'utilizzo sullo spingere l'utilizzo dell'idrogeno quindi utilizzando anche idrogeno blu quindi decidendo che andava bene qualsiasi idrogeno sia l'idrogeno verde che è l'idrogeno diciamo prodotto convenzionalmente quindi per far partire il mercato è una strategia nel senso che in questo modo tu abiliti stai abilitando un settore e intanto lo fai partire quindi quello da un lato e quindi la possibilità di avere grandi quantità di idrogeno e quindi poter abilitare anche settori che ad esempio in altri paesi europei non sono prioritari perché abbiamo adottato una strategia diversa sull'idrogeno quindi con meno quantità disponibili quindi cercando di prioritizzare determinati settori piuttosto che altri tra l'altro la UK un'altra caratteristica interessante è che hanno sostanzialmente puntato al blending di idrogeno all'interno delle reti quindi permettendo una normativa di mix di idrogeno con gas naturale all'interno delle reti più ampia cioè molto più ampia rispetto a altri paesi europei noi in Italia oggi abbiamo una normativa che ci permetterebbe non lo facciamo ancora ma ci permetterebbe un'immissione di idrogeno in rete al 2% in volume mentre le percentuali a livello di UK sono molto più elevate quindi la possibilità eventualmente di utilizzare un boiler o comunque una caldaia con un mix idrogeno e metano per cui è chiaro che tu a livello di strategico tu stai abilitando nuove opportunità e nuove tecnologie sull'utilizzo finale perché io ho una rete che già mi trasporta dell'idrogeno in parte ho tanto idrogeno per cui alla fine si è sviluppata anche la parte del settore residenziale che è comunque interessante perché lo vediamo anche a livello di tecnologie ma anche qua in Italia noi abbiamo delle aziende molto interessanti su questo lato che vendono non in Italia ma in altri paesi con caldaia e idrogeno sia lato caldaia e idrogeno che bruciano sostanzialmente l'idrogeno ma anche caldaie a cella combustibile a ossidi solidi come nominavamo prima quindi diciamo delle tecnologie molto interessanti che funzionerebbero con un blending e anche lì risulta interessante perché se io abilito la rete a fare un blending alla fine posso abilitare degli apparecchi che mi utilizzano idrogeno e metano perché in Europa non è consentito questo che problemi si pongono no no non è che non è consentito non è qualcosa che non consentito è semplicemente una strategia di andare a dar priorità alla sostituzione ad esempio di idrogeno di gas naturale nell'industria piuttosto che altre però in realtà è un qualcosa che è studiato anche perché noi abbiamo dei player importanti in questo ambito e quindi anche dal punto di vista tecnologico diventa interessante poter fornire un'opzione di questo tipo e nel momento in cui si svilupperà una rete capace di accogliere gas naturale sarà molto interessante avere degli apparecchi che potranno di accogliere idrogeno sarà molto interessante avere delle tecnologie pronte quindi quando saremo pronti a farlo cioè avremo effettivamente l'idrogeno allora anche quelle saranno un'opzione alla fine penso che ma come è stato detto lungo tutto il convegno fino ad oggi la soluzione diciamo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione è quella di avere più soluzioni possibili non una soltanto quindi è vero le pompe di calore in questo momento le stiamo spingendo tantissimo ma è chiaro che in un futuro potremo avere diverse soluzioni che si integrano bene insieme nel nostro sistema per raggiungere gli stessi obiettivi ci sono domande nel frattempo che ho curiosità commenti che possono altrimenti io volevo intanto farne una io e cioè si parla molto si è parlato molto di hydrogen valleys di queste valli dell'idrogeno c'è qualcuno che mi sa spiegare cosa sono queste valli queste hydrogen valleys perché non è sicuramente il dominio comune è questa cosa forse allora mi aggancio una domanda dei ragazzi perché i ragazzi di solito per esempio eh va bene ma allora di solito l'idrogeno di oggi ne ha più da tutti dieci per tantissimi anni è una cosa che è proprio solo che ha passione lo insegna cioè nel senso che ne sa qualcosa o che lo studia di per sé e lo insegna però è sempre visto quasi come un sottoprodotto di alcune appunto produzioni industriali di grande livello e comunque fa paura tant'è vero che la domanda dice ma insomma se noi mettiamo nella macchina l'idrogeno questo è infiammabile se succede un incidente sull'autostrada ci sarebbero gravi danni ecco questo ovviamente è parte dal presupposto di non sapere il meccanismo però se poteste ritornare anche su appunto come viene usato nei trasporti si chiarisce un po' il tutto grazie allora diciamo che ci sono queste due domande sul tavolo io provo sulle valleys sul trasporto poi credo che ci sarà modo di approfondire anche nella sessione successiva e magari provo a dire due cose io ma allora le valleys si se ne sente parlare in effetti perché è un concetto che va un po' di moda e nasce dall'idea di creare un sistema chiuso dove io produco distribuisco e quindi creo un ecosistema dove ho in qualche modo tutta la filiera rappresentata quindi in Italia e anche in Europa ci sono già oggi diversi progetti anche finanziati dall'Unione Europea per la creazione di questo tipo di distretti ci sono degli esempi già soprattutto in Nord Europa e anche in Italia diciamo ci sono delle iniziative che vanno esattamente in questa direzione prima è stata citata la Valcamonica per alimentare i treni a idrogeno su delle linee non elettrificate come spiegavi tu Cristina anche quello diciamo può essere l'inizio di una valle nel senso che io creo una prima applicazione produco idrogeno sul posto poi posso aggiungere a questa filiera man mano altre applicazioni e quindi creo un ecosistema o una valle per così dire e questo è un modo molto pragmatico di cominciare a far espandere un sistema ma d'altra parte faccio un parallelismo con quello che conosco della storia della metanizzazione in Italia cioè in Italia il metano all'inizio non era importato insomma negli anni 50 lo producevamo soprattutto in Piano Rapadana poi anche in Sicilia in Puglia c'erano altri pozzi e la rete il mercato si è sviluppato così cioè produzione consumo sul territorio e quindi creazione di una piccola valle in quel caso era il metano perché il modello di distribuzione di produzione era distribuito quindi diciamo con l'idrogeno quello che probabilmente succederà è qualcosa di analogo cioè all'inizio ci saranno dei cluster dove ad esempio c'è la chimica che ha bisogno di idrogeno e lì ha senso produrne tanto e poi creare intorno un ecosistema dove posso fare anche mobilità posso fare altre cose quindi questa è una cosa che diciamo è un trend una cosa che ha molto senso anche dal punto di vista dell'efficienza degli investimenti sul tema della mobilità non so se c'è qualcuno che vuole interviene grazie io volevo un pochino rispondere tanto sull'idrogen valley che abbiamo completato perché era molto chiaro volevo un attimo rispondere al tema della sicurezza che secondo me è un tema fondamentale e come tutte le evoluzioni e le costruzioni dei settori è un tema che va trattato e ci hanno ragione nel senso è una domanda lecita trattato a fondo e fino in fondo direi che innanzitutto il ruolo fondamentale lo fanno coloro che insegnano queste cose nel senso che più formazione facciamo e più informazione facciamo poi il cittadino sarà in grado di gestire tutto quello che gli arriverà di tecnologie quindi chiaramente si parte da lì si parte si parte anche dal costruire delle tecnologie che sono in grado di gestire questa tipologia di gas e di costruire degli impianti a norma in grado di accogliere e di gestire questa tipologia di gas quindi l'approccio deve essere di una normativa chiara e abilitante per far sì che questo vettore energetico possa essere utilizzato in maniera sicura quindi a partire appunto dal seguendo ovviamente tutta la normativa ma visto che l'idrogeno prima era utilizzato solo nell'industria e va bene tutto seguiamo tutta la normativa ma poi arriverà da noi vicini ai cittadini sempre più per cui la cosa secondo me più importante è fare formazione informazione sulla tematica in modo tale che poi non ci ritroviamo a gestire una tecnologia così nuova perché la verità è che è una tecnologia nuova però secondo me non è più spaventosa di altre cose che ci sono state in passato anzi le aziende stanno addirittura utilizzando dei fattori di sicurezza più elevati sulla produzione dei loro prodotti e sugli impianti perché non vogliono rischiare che un incidente possa bloccare lo sviluppo di questo settore quindi cercano di fare di tutto come ad esempio la Toyota con le sue bombe l'idrogeno che gli hanno fatto di tutto spari gli hanno non so cosa ne hanno provate di tutti i colori per far sì che quella bombola messa su un'auto idrogeno ormai commercializzata quindi teoricamente voi potete prenderla e andare in giro è un'auto sicura cioè un'auto che sappiamo che la bombola di idrogeno gli hanno provato a fare tutti i test possibili e insomma è risultata una tecnologia sicura quindi questo è un tema che mi sembra importante affrontare che dovrà essere affrontato sempre sempre di più certo mi sembra che tu volessi aggiungere qualcosa anche in relazione a questo tema allora innanzitutto una battuta allora l'idrogeno si è un gas infiammabile ma notizia anche il gas naturale è un gas infiammabile anche la benzina e il diesel sono liquidi infiammabili quindi cosa vuol dire tutto questo vuol dire appunto come è stato detto che bisogna prendere le opportune contromisure non dimentichiamo che l'idrogeno ripeto non nasce oggi e già l'industria dell'idrogeno c'è in giro da decenni per cui diciamo le misure di sicurezza sono già state ampiamente sviluppate semmai secondo me invece è giusto mettere l'attenzione su altri aspetti in cui l'idrogeno proprio dal punto di vista delle proprietà chimiche è diciamo ha dei limiti ad esempio il fatto che a parità di volume ha una densità energetica che è molto più bassa di quella di un combustibile liquido cioè quindi di un derivato del petrolio e anche del gas naturale quindi questo vuol dire che a parità di volume io trasporto meno energia quindi vuol dire più costi quindi qual è il punto il punto è che io devo sviluppare delle tecnologie per compensare questa che è una proprietà proprio intrinseca dell'idrogeno quindi quella e non la si può cambiare ad esempio utilizzando l'alta pressione non l'abbiamo ancora citata oggi però oggi si può utilizzare idrogeno ad altissime pressioni 350 o 700 atmosfere che non sono difficili da raggiungere ma comunque implicano dei costi per cui anche lì bisogna trovare dei modi di produzione per abbattere i costi per avere idrogeno a queste altre pressioni l'ideale sarebbe arrivare ad idrogeno liquido allora a quel punto non c'è più quasi nessuno svantaggio rispetto ai derivati del petrolio al diesel e la benzina ad esempio la NASA per andare sulla luna usa l'idrogeno liquido quindi non è un problema qual è il problema? di nuovo è un problema di costi cioè l'idrogeno liquido fa meno 253 gradi centigradi non è tanto difficile raggiungere quelle temperature è relativamente facile però mantenerle per lunghi periodi ovviamente vuol dire che devo spendere una certa energia perché altrimenti non riesco a mantenere quella temperatura quindi vuol dire avere dei costi però giusto per fare un altro paragone anche quando io vado a liquefare il gas naturale per poi portarlo nelle metaniere adesso io non voglio entrare in risvolti quasi politici insomma anche lì queste considerazioni sono tutte da fare ecco quindi ci sono delle differenze però alla fine non è non ci sono dei pericoli in più una battuta velocissima nella televisione locale romana c'è stata una persona che mi ha chiesto ma la bomba di idrogeno ecco allora è chiaro che lì basta dire nessuno va a toccare i nuclei quindi non ci sono fusioni tra nuclei quindi stiamo parlando proprio di un ambito completamente diverso ecco però è giusto cioè capisco che queste cose toccano insomma l'opinione pubblica c'era il professor Pacchioni che voleva dire qualcosa una domanda una considerazione sì io una curiosità è molto il professor Abbotto lo sa già perché glielo ho già chiesto ma la sua risposta per iscritto non mi ha convinto nel senso il punto è questo fino a un anno o due fa quando si parlava di idrogeno verde si diceva costa da tre cinque volte di idrogeno grigio quello che è prodotto partendo dal metano quindi diciamo e chiaramente si pensa di avere un abbattimento dei costi come tu stavi dicendo intanto però da un paio di anni fa anzi da un anno a questa parte il metano è decuplicato cioè il prezzo è diventato dieci volte e uno dovrebbe dire a questo punto se non so nel leggere e descrivere il costo dell'idrogeno prodotto da metano ai costi attuali del metano dovrebbe essere più elevato di quello prodotto con rinnovabili ecco questa è la mia domanda e se qualcuno mi sa chiarire il dubbio allora se volete provo un attimo a rispondere io velocemente allora noi in Italia in Europa abbiamo quello che è il cosiddetto sistema di prezzo marginale adesso senza entrare in tecnicismi significa che il prezzo dell'elettricità oggi non viene fissata sulla base del prezzo della fonte da cui l'ho ricavata ad esempio se io a casa mia utilizzo elettricità da fotovoltaico o da eolico ad esempio a casa mia è soprattutto eolico perché uso un fornitore che produce energia soprattutto dai suoi impianti eolici io non pago il prezzo dell'eolico di oggi pago il prezzo che in questo momento è il più alto di tutti nel mercato in cui viene messa a disposizione l'elettricità in questo momento il prezzo più elevato di tutti è quello del gas naturale e questo sistema che viene utilizzato anche in Europa fa sì che quindi l'elettricità da eolico io la pago come elettricità da gas naturale è un sistema secondo me abbastanza che ha funzionato tra l'altro ha funzionato quando vent'anni fa quindici anni fa le rinnovabili costavano di più del gas naturale o anche del petrolio quindi era anche un sistema a difesa delle nuove fonti adesso c'è una situazione straordinaria che è già iniziata prima sei mesi prima della guerra russo-ucraina per cui già proviene da altri fattori è un sistema abbastanza perverso perché è come se io dicesse se io vado in un ristorante prendo un panino e delle ostriche pago sia il panino che le ostriche al prezzo delle ostriche cioè una roba che dico ma com'è questa cosa qui però è così allora qui deve rispondere la politica se ne è incominciata a parlare di disaccoppiare questi prezzi morale laddove non c'è questo sistema di prezzo marginale già oggi già oggi il prezzo del cioè il costo di produzione dell'idrogeno verde è già inferiore a quello dell'idrogeno grigio già oggi in Europa e in Italia che utilizza il sistema di prezzo marginale e quindi se io voglio produrli in Italia comprando l'elettricità l'elettricità oggi è aumentata infatti se uno va a vedere le curve le fanno vedere spesso in televisione le curve del prezzo di elettricità del prezzo del gas naturale sono sovrapponibili perfettamente sovrapponibili infatti io all'inizio mi chiedevano come maghi e invece il motivo è proprio questo cioè è come se venisse prodotto al 100% da gas naturale cosa che non è oggi in Italia il 42% dell'elettricità proviene da fonti rinnovabili infatti questa è la grande lezione di questa giornata aver capito che fra costi e prezzi voglio dire quello che costa una fonte non c'entra niente con quello che questa fonte ci viene fatta pagare questo lascia abbastanza sconcertati ma poi entrando nei meccanismi del mercato si vede che così è e quindi certo qui la politica può fare può fare molto Francesca Cresta voleva fare una domanda un po' un salto nel futuro mettendo che riusciamo ad arrivare a un'applicazione dell'idrogeno verde per accumulo e trasporto dell'energia su larga scala mettendo che riusciamo a far fronte ai problemi di carenza di acqua non so importando appunto dal nord Africa che in qualche modo desalinizza insomma riusciamo a risolvere queste cose resta un po' forse il rischio di ripetere alcune alcune dinamiche che già ci sono per per esempio il gas naturale ovvero non so la dipendenza da altri paesi in caso che l'idrogeno non venga prodotto dal paese in cui viene utilizzato e d'altra parte anche il fatto che il vapore acqueo è un gas clima alterante e quindi anche se ovviamente ha dinamiche diverse dalla CO2 si sposta un H2O da una parte a un altro luogo e quindi non so mi chiedevo se su larga scala sia la dipendenza che questo potenziale clima alterante potessero entrare effettivamente a infilare un po' di criticità nell'idrogeno allora una cosa che forse non abbiamo detto e che va detta è che tutti gli obiettivi diciamo di incremento di strategie europee di incremento dell'idrogeno verde prevedono il cosiddetto principio di addizionalità ovvero per produrre più idrogeno verde mi servono più rinnovabili quello che non deve succedere è che la produzione di idrogeno come dire sottragga energia rinnovabile ad altri usi quindi deve essere accompagnata necessariamente da uno sviluppo di rinnovabili che alimenti la produzione di idrogeno il punto è abbiamo abbastanza potenziale rinnovabile in Italia e in Europa per alimentare tutto il sistema in questo modo questa è la grande diciamo domanda da cui dipende il fatto di legarsi più o meno ad altri paesi o ad altri continenti quindi è vero che c'è un tema di interdipendenza comunque prospettica del sistema energetico però diciamo penso che sia abbastanza inudibile cioè l'idea di avere un sistema come dire a livello nazionale chiuso e totalmente indipendente pone una serie di vincoli e di ulteriori complessità e di costi che non è banale affrontare quindi è un tema strategico direi però non credo ci sia una risposta ad oggi quello che vediamo cioè quantomeno l'Europa si sta muovendo poi lascio a lei professore se vuoi si sta muovendo in questa direzione cioè sta ragionando come un sistema integrato esteso quindi probabilmente la direzione è quella di diciamo avere un sistema appunto interconnesso ed esteso dove in qualche modo ci sarà ancora un elemento di interdipendenza importante sì allora certamente il problema diciamo di passare a una nuova se intendo bene il senso della domanda cioè il problema di passare a una nuova diciamo vettore energetica una nuova strategia energetica è quello poi di non ereditare diciamo i difetti i problemi delle vecchie strategie allora a mio parere se si va verso un sistema che è basato su un mix di elettricità e combustibili puliti credo che è il modo migliore per evitare questi problemi soprattutto poi come dicevo a lungo termine se ne sfruttiamo direttamente il sole il sole per fortuna non è prerogativa di nessun paese forse noi italiani ne abbiamo più di altri ecco per cui al limite ce ne avvantaggiamo c'è un problema a livello di materiali quello che dicevo prima bisogna sempre più la ricerca ad esempio deve avere un ruolo importante nello sviluppo di materiali che siano sempre più abbondanti e distribuiti in maniera abbastanza uniforme sulla costa terrestre ma non c'è dubbio che comunque si fanno dei enormi passi in avanti rispetto ad adesso permettetemi una battuta anche visto che siamo ormai quasi alla fine di questa sessione io ho sentito spesso nei mesi scorsi della televisione ho letto nei giornali da tutti dire stiamo diversificando le fonti di energia passando dal gas russo al gas africano allora dal mio punto di vista questa non è una diversificazione della fonte di energia diversificare le fonti di energia vuol dire proprio andare verso nuove forme di energia che riescono a superare i limiti di quella attuale ecco per cui secondo me nella misura in cui il problema non diventa l'acqua non è un problema quello non è un fattore limitante nella produzione di idrogeno sull'elettricità verde si fa una concreta diciamo politica di sviluppo del fotovoltaico ad esempio personalmente se io fossi al governo direi la gigafactory della piena di Catania che produrrà nel 2024 3 gigawatt di pannelli magari moltiplichiamola per 5 e avremmo risolto molti dei problemi attuali abbiamo fatta una con investimenti di circa 300 milioni di euro che non sono una cosa infinita tenendo conto di investimenti che abbiamo oggi per altri settori riusciamo a raggiungere ad esempio obiettivi di questo tipo bisogna farlo e poi appunto la ricerca secondo me tutte queste cose messe assieme potranno risolvere molti dei problemi a cui le ho accennato bene io direi che se non ci sono altre domande chiudiamo questa sessione fra 5 minuti 10 minuti massimo tempo di organizzarci perché ci sono anche dei relatori in remoto passiamo all'ultima grazie 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 bene cominciamo l'ultima sessione cominciamo l'ultima sessione sulla mobilità muoversi in tempo di transizione energetica siamo per quest'ultima sessione qui in presenza con Nicola Armaroli ricercatore del CNR e autore di diversi libri tra cui l'ultimo un mondo in crisi gas nucleare rinnovabili clima è ora di cambiare di cui magari in coda a questa sessione faremo degli accenni che ha una grande competenza soprattutto sull'auto elettrica che pure possiede e che ci racconterà tra le altre cose è anche consulente del ministro Giovannini per la mobilità e le infrastrutture abbiamo poi Matteo Colleoni che insegna sociologia dell'ambiente e del territorio in questa università l'Università Bicocca di Milano di cui ricopre anche l'incarico di delegato della rettrice per la sostenibilità e che coordina a livello nazionale l'ambito di ricerca mobilità sostenibile del piano nazionale programma nazionale della ricerca 2021-2027 e poi abbiamo Sergio Savaresi del Politecnico di Milano che è professore ordinario di automatica presso appunto il Politecnico e vice direttore del dipartimento di elettronica che ha anche lui molte cose interessanti da raccontarci tra l'altro anche su proprio la guida automatica che è una delle prospettive del futuro su cui ha fatto delle grandi interessanti sperimentazioni e anche competizioni se avremo modo riusciremo a vederle è ovvio che qui abbiamo quindi diversi argomenti che si intrecciano argomenti tecnologici scientifico tecnologici tra cui ovviamente la transizione che ci sarà che ci dovrà essere verso l'elettrico della mobilità ma anche altri aspetti altri aspetti che non sono prettamente tecnologici ma sono direi sociali economici urbanistici perché il cambiare la mobilità la mobilità del futuro per venire incontro a quelli che abbiamo visto all'inizio sono gli obiettivi della transizione ecologica in senso più lato dettata per esempio dalla comunità europea comporta anche delle modifiche nel modo in cui sono concepite le città il modo di spostarsi in città il modo in cui si dovrà rivalutare credo necessariamente il trasporto pubblico rispetto al trasporto privato il modo anche di concepire probabilmente l'auto o comunque il veicolo con cui ci si sposta non più necessariamente come proprietà ma anche come servizio che è un altro tema molto importante o il car sharing per esempio oltre a quello appunto della transizione all'elettrico l'automazione e quant'altro quindi concludiamo con un ambito che è ricco di molte dimensioni come peraltro anche gli altri e vorrei vedere se sono se gli altri due relatori che purtroppo non hanno potuto essere presenti si possono manifestare ci sono si vedono quando parlano allora io chiederei intanto Matteo Colleoni se può se è in grado di collegarsi o di parlare perché volevo mi sembra di capire dal suo profilo anche dai suoi ambiti di interesse che potrebbe farci un po' un quadro proprio anche come dire dal suo punto di vista di professore di sociologia dell'ambiente e del territorio di cosa comporta questa transizione qual è oggi la situazione del parco veicolare a che tipo di carbonizzazione andiamo incontro e cose ed argomenti di questi genere professor Colleoni ci sente riesce a parlare? sì io vi sento e non so se voi mi sentite però vi sento e vi vedo bene sì sì la sentiamo e la vediamo anche bene vi ringrazio vi ringrazio molto per l'invito mi spiace moltissimo veramente non essere lì con voi nella mia università avevamo nel frattempo un evento sui temi della sostenibilità a livello nazionale in un convegno che mi vede adesso presente fuori Milano sì allora ho colto con molto interesse il vostro invito e ho preparato anche qualche slide che però vado a raccontarvi in maniera molto veloce per rispondere alla domanda che mi è stata fatta adesso vediamo se se sono visibili le slide innanzitutto quindi se mi date confermi vado avanti sì le vediamo le vediamo benissimo in tempo di transizione è un bel argomento poiché ci troviamo in un momento caratterizzato da un grande interesse verso i temi della mobilità sostenibile giustamente poiché la mobilità non è per niente sostenibile in questo momento nel senso che abbiamo una situazione molto critica sia dal punto di vista del parco veicolare che richiede una fortissima decarbonizzazione di tutto il parco veicolare non soltanto automobilistico ma anche gli altri veicoli e poi non soltanto un parco veicolare che è poco sostenibile vedremo tra poco qualche dato ma anche dei riparti modali che sono per niente sostenibili che differenza c'è tra parco veicolare e riparti modali e parco veicolare insomma quali sono le caratteristiche di motorizzazione e di età delle nostre autovetture e invece per quanto riguarda il riparto modale come si ripartiscono tutti gli spostamenti di quei diversi modi di trasporto in Italia siamo in una situazione particolarmente critica per quello che occorre lavorare sulla decarbonizzazione e poi gli altri miei colleghi andranno avanti con questo approfondimento specifico sul tema energetico sia dell'idrogeno che dell'elettrico perché noi abbiamo innanzitutto una situazione in cui è il trasporto che dà un grande contributo di emissioni di greenhouse questo è un dato del 2019 il trasporto contribuisce al 25% di emissioni di inquinanti non è l'unico settore che emette inquinanti abbiamo il 55% che viene dal settore energetico esclusi i trasporti l'8% dei processi industriali il 7% dell'agricoltura e il 4% dei rifiuti questo è il dato del National Agri-Nousin Venture Report dell'ISPA 2021 però se noi andiamo a vedere i trasporti il trasporto veicolare contribuisce per il 92% dell'emissione di inquinanti quindi trasporto soprattutto su strada e trasporto su strada vuol dire trasporto su gomma tutti quelli che studiano i trasporti sanno che il contributo del settore trasporti e l'emissione di inquinanti è consistente circa un quarto e all'interno di questo quarto è soprattutto emissione di inquinanti da parte dei veicoli e soprattutto il trasporto su gomma e questa è la situazione che c'era prima e sta migliorando pian piano ma ancora richiede grossi miglioramenti abbiamo un parco veicolare molto consistente questi sono i dati ACI abbiamo un parco veicolare di 52 milioni di veicoli su 60 milioni di abitanti di cui 39 milioni di autovetture erano 40 milioni nel 2000 questo è l'intero parco veicolare non è soltanto le nuove immatricolazioni questo è un dato molto consistente vuol dire che il 75% del parco veicolare è formato da autovetture e queste autovetture sono 39 milioni siamo il paese dopo il Lussemburgo col tasso di immatricolazione più elevato quindi c'è un problema non soltanto attenzione di ridurre l'uso dell'automobile tradizionale ma di contenere il parco veicolare perché il parco veicolare anche quando non è mobile occupa spazio soprattutto spazio pubblico anche città virtuose come Milano che è una città virtuosa in termini di riparto modale perché è un buono riparto modale c'è una quota di trasporto pubblico molto consistente rispetto alla media italiana comunque ha una presenza veicolare molto importante spesso di auto ferme e quindi c'è un problema di possesso dell'automobile non soltanto di utilizzo l'altro dato interessante che introduce il dibattito spero di farlo in maniera sintetica però efficace è che il parco veicolare non è soltanto consistente troppo consistente ma è anche molto vecchio considerate che secondo gli ultimi dati del ministero io lavoro anch'io come consulente della struttura tecnica di missione del ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili meno il nome che aveva fino a ieri poi vedremo secondo i dati del ministero l'automobile avevano 11 anni medi di età quindi un parco veicolare vecchio parco veicolare vecchio e per di più all'alimentazione molto tradizionale la quota di vetture sopra e qui vi faccio riferimento soltanto alle autovetture e non tanto a veicoli la quota di autovetture sotto l'euro 5 è del 56% e questo è un dato del 2020 quindi vuol dire che abbiamo un parco veicolare consistente vecchio e anche molto inquinante se andate a vedere quel riquadro in alto questo è un dato interessante preso anche da altri studi fatti anche da altri colleghi vediamo invece il dato delle nuove immatricolazioni le nuove immatricolazioni del BEV più PHEV che sono in pratica le auto elettriche più le auto plug-in avevamo una quota di immatricolazioni italiane del 4,3% questo è il 2020 attenzione queste sono le ultime immatricolazioni a 2020 non è il parco veicolare rispetto alla media europea dell'11,5% i paesi comparabili con l'Italia come la Germania erano 12% l'Inghilterra all'11% non parliamo della Norvegia che è a 75% insomma per rispondere in prima battuta alla sua domanda abbiamo un parco veicolare troppo consistente un parco veicolare troppo vecchio troppo inquinante che sicuramente va decarbonizzato come stiamo raccontando a livello scientifico che si occupa di questi temi e a livello di pianificazione che si occupa dei nuovi piani tra l'altro vi informo che sta per uscire il nuovo PGTL che è il piano di governo dei trasporti della logistica che appunto affronta da parte del ministero in modo approfondito questi argomenti e mostra le linee e politiche che andrebbero fatte proprio per poter riuscire a decarbonizzare tutti i mezzi di trasporto a partire però dal parco veicolare automobilistico perché il parco veicolare automobilistico è molto consistente come abbiamo visto se posso fare un'ultima battuta perché non voglio portare via troppo tempo nel primo giro dopodiché le slide sono tante ma io penso che sia sufficiente questo in prima battuta voglio però raccontarvi del riparto modale il riparto modale è una cosa un po' diversa non è il parco veicolare è come si ripartisce il nostro parco modale anche questo è una tabella interessante so che è difficilmente leggibile però è interessante questo qui non è il parco veicolare questi qua sono i miliardi di passeggeri per chilometro per tipo di settori di trasporto lo trovate anche qui nell'ultimo report del ministero dove scoprite che nel 2020 il 94% degli spostamenti era trasporto tradale la quota del trasporto ferroviario è del 4,2% il trasporto marittimo è dello 0,5% il trasporto aereo è dello 1,0% complessivamente devo dire che nel corso del medio periodo si è avuto anche una riduzione dell'1,6% della quota di miliardi di chilometri a seggero però in fondo rimane sempre un 94% quindi insomma il grosso del trasporto è su strada una piccola e buona parte è trasporto su gomma di un parco veicolare molto consistente molto inquinante e anche molto vecchio se noi potessimo esplodere questa riga andando a vedere questo 94% vedremo che quasi tutto è trasporto privato la quota di trasporto pubblico in Italia in questo momento è attorno al 10% che è molto distante dall'indicazione della comunità europea di avere un 30-30-30 il famoso 30-30-30 cioè 30% di trasporto pubblico 30% di trasporto privato e 30% di trasporto attivo in bicicletta e a piedi in realtà è ben diversa la situazione quindi tutti gli interventi sia scientifici sia tecnologici sia industriali di cui parleranno i miei colleghi dei Politecnici sicuramente va nella direzione di migliorare i parchi veicolari per andare verso quella direzione noi dal nostro punto di vista che siamo studiosi urbani e di pianificazione più che non soltanto di comportamenti possiamo soltanto mettere in evidenza questo tipo di dato l'ultimissima informazione veramente che vi do è questo di carattere invece più urbanistico è che questa situazione è abbastanza normale in un contesto come il nostro caratterizzato da grossa dispersione dei generatori e degli attrattori di mobilità cioè noi siamo in una fase storica urbanistica particolare in cui abbiamo una forte sub- e periurbanizzazione e c'è una forte dispersione dei generatori fuori dalle aree urbane nei confini delle aree urbane tanto è vero che la distanza sta incrementandosi sempre di più io sono qui ad un convegno con gli studenti universitari di tutta Italia sui temi della sostenibilità mi trovo in un posto bellissimo che l'isola di San Servo è la Venezia per quello che ho questo retro molto bello e agli studenti mostravo qualche minuto fa una tabella in cui facevamo vedere i dati di spostamento degli studenti universitari italiani non so se sapete che la distanza media a casa università degli studenti universitari è di 28 chilometri è altissima 28 chilometri per 45 minuti di spostamento dovuto alla forte dispersione degli generatori di mobilità e questo è un problema di carattere urbanistico che va tenuto in forte conto quando facciamo interventi di decarbonizzazione ma anche di ripianificazione degli insediamenti perché soltanto cambiando insediamenti e la loro localizzazione andremo anche verso la mobilità più sostenibile e mi fermo qui come primo giro bene grazie oltretutto ha messo proprio il dito nella piaga perché oltre al nostro patologico tasso di motorizzazione di auto anche molto vecchie si capisce come anche in questo settore il problema della decarbonizzazione come capite voi tutti tira dentro tutto il resto tra cui l'organizzazione urbana l'Italia è la patria dello sprawl urbano lo sprawl urbano si può tradurre come marmellata nel senso che mentre altri paesi come la Germania e la Francia hanno strumenti urbanistici in cui il pubblico riesce a governare lo sviluppo urbanistico urbano delle città da tempo per una serie di motivi che adesso non sto a rivangare l'Italia ha dato questo in mano ai privati e quindi ciascuno costruisce più o meno dove vuole e questo ha creato soprattutto a norma non solo una cosiddetta città infinita che si sviluppa per esempio lungo l'autostrada Torino-Venezia che appunto inizia Torino e finisce a Venezia con capannoni residenze eccetera e che rende molto difficile catturare tutti questi flussi tutto con il trasporto pubblico e in qualche modo costringe anche la gente a spostarsi in automobile questo è un problema collegato al problema tecnologico volevo intanto sentire anche oltre a parlare anche degli effetti sanitari dell'inquinamento che è molto proviene dal trasporto ma non solo tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che ci sono 7 milioni di morti all'anno per inquinamento atmosferico più o meno 4 da inquinamento atmosferico esterno e 3-4 e mezzo da inquinamento indoor quindi siamo di fronte a una delle più gravi cause di mortalità dell'inquinamento una delle più gravi cause di mortalità al mondo quindi non è un problema da meno di quello del clima ed eppure gli altri effetti che il clima ha anche sulla salute professore Savaresi se ci sente credo di sì volevo darle un attimo la parola anche a lei per capire invece qual è il suo punto di vista qual è l'angolo da cui lei approccia il discorso della mobilità che poi svilupperemo in più giri quindi può darci una sua prima visione prima di dare poi la parola a Nicola Armaroli che è qui con noi grazie Sì grazie allora grazie all'invito anch'io mi devo scusare per non essere riuscito un po' all'ultimo momento di non essere lì fra voi se mi consente anch'io condividerei qualche slide vediamo se funziona ditemi cortesemente se vedete Sì vediamo Va bene allora io in realtà mi collego benissimo al diciamo la prima breve presentazione che ha fatto il collega con Leone diciamo mi riaggancia a molti dei suoi temi ovviamente con un angolo interpretativo un pochino diverso ma in realtà in qualche modo stiamo dicendo solo le cose ora molto in sintesi ovviamente una sintesi estremamente di alto livello allora noi il mondo occidentale sostanzialmente dal punto di vista diciamo tecnologico ha sviluppato il suo modello di mobilità in questo modo quindi diciamo autobasate su combustibili fossili di proprietà personale guidate da umani abbiamo detto più volte che transiteremo la tempistica ancora ignota diciamo 20-30 anni per completare questa transizione su veicoli elettrici barra idrogeno condivisi e guidati da algoritmi ora faccio due affermazioni abbastanza brusche però come dire per brevità di tempo la faccio semplice allora la mobilità servizio intesa come car sharing oggi non funziona in realtà Milano è un caso virtuoso è uno dei pochi casi in cui la tassa è sviluppata in maniera consistente però in generale è un modello che fa molto fatica ad attecchire per motivi essenzialmente di tipo economico che poi vuol dire una difficile accessibilità alle auto sostanzialmente l'auto è sempre un po' nel posto sbagliato o non è garantita e quindi c'è un servizio che non può oggi considerarsi né economicamente conveniente né economicamente sostenibile né veramente fruibile per i cittadini qual è il salto tecnologico che farà fare lo scatto in avanti a questo tipo di mobilità quindi mobility as a service questa tecnologia è sicuramente l'auto autonoma l'auto autonoma la potete concepire in due modi qui li ho visualizzati con due filmati in maniera molto come dire visiva è chiaro il concetto di robotaxi non c'è bisogno di spiegazione è di fatto un taxi a tutti gli effetti guidato da un guidatore diciamo di algoritmi intelligenza artificiale in realtà potrebbe bastare molto meno qui vi faccio vedere il cosiddetto smart summon della Tesla cioè la possibilità semplicemente di chiamare a sé il veicolo a bassa velocità ovvero il veicolo si può muovere senza nessuna bordo a bassa velocità quindi anche questa tecnologia è sufficiente per far fare questo salto che consente una ampia diffusione della mobilità a servizio e la sua sostenibilità economica è interessante abbiamo fatto delle simulazioni non entro ovviamente nel dettaglio questo è un esempio utilizzando una larghissima base di dati che abbiamo fatto insieme a Unipoltech questo è il caso di Padova abbiamo preso un raggio di 10 km attorno a Padova e abbiamo capito in base a come si muovono oggi i cittadini in quell'area se è possibile transitarne una parte verso questa mobilità e questi sono i numeri e la risposta è assolutamente sì e tra l'altro vi faccio osservare questo numero l'efficienza cioè noi possiamo togliere otto auto private rimpiazzandole con una di questo tipo diciamo con un robotaxi di fatto avendo un'efficienza di servizio altissima quindi questo è il tempo di attesa medio che abbiamo calcolato quindi in realtà il vero salto è quello lì ed è molto scalabile quindi 10 km di raggio funziona ma anche se vado a 15-20-30 km di raggio in realtà mantiene questo tipo di mantiene questo tipo di efficienza la seconda affermazione che vorrei fare anche qui un po' provocatoria sintetica e provocatoria è che la macchina elettrica si presta malissimo alla proprietà privata in realtà diciamo il collega con leoni in qualche modo l'ha già detto cioè la proprietà privata è un po' distorcente è un po' distorcente lo hai già oggi l'ha detto prima ci sono 50 milioni di veicoli quasi sempre fermi parcheggiati da qualche parte questi che sono sempre dati che abbiamo raccolto attraverso diciamo un'analisi di dati di movimento di box telematiche rappresentano in maniera molto sintetica questo concetto cioè pensiamo all'auto elettrica puntiamo l'attenzione su 300 km che è un range oggi ragionevole di un'auto elettrica ultima generazione bene il 50% delle automobili in Italia non fa mai più di 300 km al giorno ma mai vuol dire mai nell'arco di un anno se addirittura noi togliamo un giorno due giorni tre giorni quattro giorni cinque giorni all'anno di superamento questo numero arriva a un incredibile 95% quindi vuol dire che in realtà non serve questa autonomia e non serve assolutamente un'autonomia da 500 km ricordando anche che un'auto che ha 300 km di range ha una batteria che vive per 400.000 km quindi qual è la sostanza la sostanza è che un'auto privata richiede una batteria grossissima molto costosa che non verrà mai esaurita che viene usata rarissimamente quindi una risorsa estremamente costosa e impattante che viene molto sottosfruttata abbiamo fatto un po' di simulazione che qui non entro nei dettagli e la sintesi è che in realtà esiste solo un 15-20 stiracchiandolo un po' 25% di auto in Italia che si prestano naturalmente senza forzature a passare all'elettrico in un modello di mobilità privata quindi quello che a me piace sottolineare è questa consecuzione lasciatemi la chiamare così o giusta sequenza di eventi noi oggi parliamo tanto di elettrico e di elettrificazione benissimo ovviamente sono favorevole al processo di elettrificazione per mille motivi sono già stati enunciati però il realismo dice che è efficiente col modello di proprietà privata un'elettrificazione che non supera il 20-30% a questo punto ci serve la tecnologia dell'auto autonoma cioè almeno un livello 4 la tecnologia dell'auto autonoma ci consente una vera transizione di una mobilità a servizio e solo a questo punto si può completare l'elettrificazione perché l'elettrificazione invece si presta magnificamente in una mobilità a servizio quindi è questa la sequenza corretta quindi volendo saltare da qui immediatamente al 100% dell'elettrificazione in realtà è una forzatura è una distorsione da ultimo diciamo volevo fare un cenno a questo tipo di biforcazione quindi oggi questi famosi 40 milioni di auto oggi private di fatto coniugano function and fun dico io quindi hanno questi due aspetti di coniugo in realtà ci sarà una netta separazione ci sarà un numero molto inferiore di auto pubbliche attenzione parliamo probabilmente di 4 milioni da 40 milioni che sono i robotaxi quindi un servizio pubblico sicuramente diciamo per chi quindi non pianga troppo chi ama le macchine sportive rimarrà una nicchia una nicchia ovviamente di veicoli emozionali probabilmente rimarranno sicuramente probabilmente nella propria privata e sicuramente non non autonomi qualche ultima battuta di questo primo giro dove siamo con l'automazione quindi abbiamo capito che l'elemento pivotale di questa di questa rivoluzione è la tecnologia dell'automazione la tecnologia dell'automazione è estremamente complessa estremamente complessa che che ne dica Elon Musk che ovviamente nella sua visione punta sempre a accelerare e spingere è ancora da sviluppare in larga parte per essere veramente affidabile quindi realisticamente servono ancora una decina d'anni per arrivare al livello 5 oggi siamo sulla transizione fra il cosiddetto livello 2 e il livello 3 il livello 3 è fondamentale perché è il primo livello di parziale autonomia con un pilota automatico inseribile in cui legalmente il guidatore umano può disingaggiarsi dalla guida e dopodiché ovviamente bisogna andare verso l'L4 l'L5 l'L5 è l'auto diciamo senza pedali e senza volante che è in grado di fare tutto da solo concedetemi un paio di battute con cui chiudo la mia prima parte della presentazione ovviamente come dire non servono molte spiegazioni a spiegare ma io e il professor Colleoni in questo momento siamo un esempio di questa transizione verso la mobilità virtuale quindi diciamo la pandemia ha semplicemente accelerato qualcosa che già stava avvenendo cioè che era un'evoluzione come dire una transizione verso una forte componente di mobilità virtuale ovviamente è molto veloce questa transizione perché è basata su tecnologie ICT che non hanno tutti gli aspetti di sicurezza e di investimenti infrastrutturali della mobilità della mobilità fisica quindi quello che in realtà succederà è da un lato fatemela chiamare l'uberizzazione quindi la mobility as a service quello che vi ho raccontato prima che è una mobilità delle persone è sempre una mobilità delle persone ma si svilupperà si sta già enormemente sviluppando lasciatemela chiamare nel logismo un po' brutto l'amazonizzazione della mobilità quindi il fatto si sviluppa tutta la parte di logistica le persone stanno sempre più ferme e le cose devono andare verso le persone quindi questo qui è esempio un nostro progetto tanto per visualizzare cosa vuol dire è un veicolo autonomo che però non è per portare persone ma per trasportare cose quindi il cosiddetto la smile logistics quindi la consegna una specie di postino completamente autonomo per fare la consegna quindi volendo guardare il futuro avanti e qui il professor Colleoni ha già in qualche modo anticipato questo concept se noi volessimo dire come saranno le nostre città vent'anni avanti o trent'anni avanti questo è uno scenario quindi lo scenario lo si capisce basta guardare l'immagine qui in una città molto libera dalle auto saranno poche piccole elettriche automatiche condivise e quindi molto più spazio molta più libertà a quella che ha chiamato per esempio il professor Colleoni la mobilità attiva quindi pedoni biciclette biciclette elettriche eccetera eccetera ovviamente dietro l'angolo c'è un altro tipo di mobilità ed è una mobilità molto digitale quindi adesso poi ci sono tanti giovani che stanno ascoltando non c'è bisogno che lo spieghi anzi ce lo spiegano loro quindi c'è un trend molto veloce molto importante verso proprio la creazione di ambienti di mobilità che sono completamente virtuali ecco dove saremo tra 30 anni se saremo chiusi in casa immersi in un metamondo oppure saremo a passeggiare per la città col cane la bicicletta ce lo dirà il futuro e non lo so io va bene chiudo qui questa mia prima parte della presentazione poi magari se abbiamo tempo vi dico due parole su quanto possiamo divertire l'autonomous motorsport grazie per questa visione del futuro e adesso quindi passo la parola a Nicola Armaroli anche per ricollegandosi a queste due visioni quella che è la sua visione della mobilità che so essere anche molto esperita con la sua macchina elettrica e con una trasformazione che peraltro anche le Iene ieri ieri l'altro hanno come dire praticamente sono andati in casa e ci hanno rivelato tutti i segreti delle nuove tecnologie di cui già Armaroli fa ampio uso prego bene buon pomeriggio a tutti dunque parlando di mobilità dobbiamo renderci conto che ci sono tante cose che si muovono e tanti tipi diversi di di mezzi di trasporto e questi hanno degli impatti diversi per esempio si guardava prima gli aerei ma gli aerei pesano l'1% sì è vero però se io faccio un viaggio da Milano a Palermo in aereo e lo faccio magari in due giorni faccio 2.000 2.500 chilometri che sono l'equivalente di quello che io poi in macchina tipicamente faccio in due o tre mesi quindi ci sono dei mezzi che sono poco utilizzati ma quando li utilizziamo come l'aereo hanno un impatto molto molto grande facendo questo rapporto sulla decarbonizzazione dei trasporti per il ministero assieme ad altri colleghi anche qui di Milano siamo arrivati diciamo a questo quadro possibile o comunque auspicabile per il trasporto per la mobilità allora per quanto riguarda il trasporto leggero dal monopattino alla bicicletta alla moto all'automobile l'elettrico ha già stravinto cioè non fatevi raccontare da nessuno che un giorno avremo le auto a idrogeno leggevo ieri che stanno già chiudendo i distributori di idrogeno alcuni distributori di idrogeno in Gran Bretagna perché semplicemente è una opzione che non ha molto senso l'auto a idrogeno per fare gli stessi chilometri di un'auto a batteria considerata tutta la filiera di produzione dell'idrogeno e di distruzione dell'idrogeno dentro la macchina perché bisogna distruggerlo per produrre l'elettricità consuma tre volte di più quindi siccome un'auto termica normale come il 95-99% di quelli che trovate lì fuori consumano quattro volte più energia per fare gli stessi chilometri in un'altra batteria non è che passando all'idrogeno abbiamo tutto questo gran miglioramento quindi certamente l'auto a idrogeno non ci appare una soluzione particolarmente allettante tra l'altro soffre di quello che è il problema c'è nato primo l'uovo o la gallina non ci sono auto a idrogeno perché non ci sono distributore a idrogeno ma è anche vero il contrario non ci sono distributore a idrogeno perché non ci sono auto a idrogeno tant'è che il buone Elon Musk che era stato citato prima la prima cosa che fece fu mettere i supercharger cioè le stazioni di ricarica che la gente dice ma questo è scemo ma perché mette stazioni di ricarica che non ci sono le macchine però aveva capito che l'ultimo l'ultima cosa che doveva fare era cadere in quel trucco in quel loop del fatto che lui vendeva macchine ma nessuno sapeva dove caricarle quindi quello dell'infrastruttura è un fattore assolutamente chiave e l'infrastruttura per l'idrogeno attualmente non c'è e l'infrastruttura per l'idrogeno da portare così capillarmente com'è la rete elettrica voi la macchina la bicicletta la potete caricare in garage qualcuno il monopattino se lo porta in camera e se lo carica ok perché l'elettricità è ovunque voi non avrete mai la possibilità di caricare un monopattino idrogeno in camera vostra è abbastanza implausibile che questo possa accadere per una serie di ragioni anche di sicurezza poi la situazione si complica dopo se volete parliamo di batterie perché è un problema che come chimico ci tengo insomma a sottolineare però poi c'è quando passiamo a mezzi più grandi l'elettrificazione si fa più complicata cioè se pensate a un camion immaginate quanto deve essere grande la batteria di un camion di un tir quindi lì ci vanno molti materiali la batteria costa molto e ha anche bisogno di una stazione di ricarica dedicata io la macchina la carico in garage ma se avesse un camion non lo potrei caricare in garage quindi serve un'infrastruttura quindi vedete ingrandendo il mezzo di trasporto ingrandiamo i problemi dell'infrastruttura che sai per farli funzionare questo ovviamente si applica anche tanto più se aumentate ai treni alle navi per non parlare degli aerei quindi qual è la prospettiva in questo senso andando a vedere qual è il trend attuale nonostante quello che vedete un minuto fa sembra e lo vedete anche a Milano che gli autobus e i camion a batteria stiano prendendo il sopravento anche qui rispetto all'idrogeno cioè sono tecnologie che tutto sommato adesso sono già meno costose adesso sono più facilmente scalabili una ricarica di un camion ad una stazione adeguata evidentemente può richiedere tre quarti d'ora per fare i prossimi 4-500 km ma siccome il camionista si deve comunque fermare per legge per riposarsi avrà tutto il tempo per ricaricare quindi vedete andando poi nel mondo reale di nuovo l'opzione delle batterie per il trasporto su strada anche pesante pian piano sta prendendo il sopravento ci sono città come Montpellier in Francia che avevano fatto un programma di mettere di prendere autobus a idrogeno che hanno abbandonato adesso sono passati completamente un piano di autobus a batteria perché gli costa meno ci sono meno problemi di manutenzione si trovano gli autobus a batteria mentre quelli a idrogeno ancora sostanzialmente sul mercato praticamente non ci sono e così via poi passiamo alla questione delle navi ecco la questione delle navi è un problemaccio cioè le navi sono degli oggetti che bruciano la parte peggiore del petrolio è capitato a tutti di salire su una barchetta o una barcona sentite quell'odore terribile che fanno gli scarichi delle imbarcazioni perché è la frazione più inquinante quindi è una quantità enorme anche di combustibile che viene usato pensate ho fatto un conto l'anno scorso quando si incagliò quella nave a Suez che bloccò il commercio di mezzo mondo ve lo ricordate bene pensate che una nave di quel tipo un container pieno di roba che parte da Shanghai e arriva a Genova sta in viaggio circa un mese 40 giorni pensate consuma 9000 9000 tonnellate di gasolio 9000 una quantità spropositata quindi se andate a vedere sul sito si chiama marinetraffic.com andate a vedere quella situazione in questo istante delle navi nel mondo vedete che c'è una quantità spaventosa di navi che stanno che stanno girando di grande stanza sia per il commercio molte tra l'altro trasportano il 30% trasportano combustibili liquidi cioè petrolio e derivati e ci sono molte navi da crociera bene spostare questi bestioni per tanti chilometri è un problema allora mi sono divertito a fare un conto di quanto idrogeno dovremmo fare per far funzionare la nave gigante da 220.000 tonnellate che si era incagliata Suez ma i numeri non sono particolarmente consolanti perché per fargli fare lo stesso viaggio da da Shanghai a Genova servirebbero 3.000 tonnellate di idrogeno allora dice beh un progresso 9.000 tonnellate sono diventate 3.000 ammettendo che sia idrogeno liquido però il problema è che l'idrogeno liquido ha una densità di energia molto bassa quindi alla fine non vi sto a tegnare coi numeri il serbatoio di quella nave dovrebbe essere grande il doppio della nave che si è incagliata Suez quindi vedete che poi andando nel dettaglio dei problemi saltano fuori le questioni che non sono non sono banali quindi per il trasporto navale per il quale per fare quell'idrogeno servirebbe una quantità spropositata di elettricità ma a parte quello qual è il punto cioè noi vogliamo fare una transizione energetica e basta che vuol dire sostituire una nave a quel orribile gasolio da nave con una nave ad esempio idrogeno e quella è una transizione energetica sostituisco uno a uno certamente l'idrogeno da un punto di vista ambientale è meglio di quel gasolio oppure facciamo una transizione ecologica che è una cosa un po' diversa anche se nel linguaggio giornalistico i due termini sono intercambiabili non è vero una transizione ecologica vuol dire cambiare il sistema cioè vuol dire che devo porre il problema se è proprio necessario che quella nave vada da Shanghai a Genova cioè qual è il noccio del problema è che noi per 20-30 anni abbiamo semplicemente deciso di delocalizzare altrove delle produzioni le abbiamo portate tantissime poi tanto c'era petrolio a basso costo navi container a basso costo che ce l'avrebbero portato queste condizioni al momento non ci sono più e probabilmente molto difficilmente torneranno quindi se noi vogliamo fare una transizione ecologica più che metterci qua a dire ma come lo cambiamo il combustibile dobbiamo cominciare a pensare di riportare più vicino almeno una parte della produzione industriale al consumo cioè in altre parole far girare meno navi perché come si dicevano dicevano primi colleghi bisogna far girare meno macchine nelle città questo vale anche per le navi bisogna far girare meno navi per i mari il che vuol dire riportare la produzione vicino al consumo attenzione io non sto dicendo che voglio cancellare il commercio mondiale il commercio mondiale è fonte di ricchezza da sempre dei paesi poveri di risorse come l'Olanda o come la città di Venezia sono diventati delle ricchezze delle potenze di ogni tipo facendo il commercio internazionale attenzione però le storture del commercio internazionale non si risolvono mettendo un pool di esperti che abbiamo fatto noi per fargli trovare una soluzione per cosa gli mettiamo dentro le navi che non sia il gasolio ecco forse dobbiamo andare oltre per quanto riguarda poi gli aerei la situazione è ancora più lontana perché pensate che un aereo viaggia può viaggiare per 20 ore consecutive a 10.000 metri di quota ma lassù ci sono 50 gradi sotto zero quindi serve un combustibile che non solo abbia una densità di energia che lo faccia viaggiare tranquillamente per 20 ore lassù ma che rimanga anche liquido che non abbia dei problemi concreti di diventare solido e di incrostarsi e di bloccare tutto quanto che l'aereo precipita del cherosene questa frazione del petrolio che abbiamo trovato nel sottosuolo e che produciamo con la raffianza del petrolio è un liquido straordinario quindi sarà difficile che noi avremo aerei che percorrono tutti quei chilometri avendo qualcosa che sia diverso da un combustibile liquido è difficile immaginare con tutta la fantasia del mondo proprio perché ci sono dei limiti fisici oltre i quali noi non possiamo andare non possiamo far andare la nostra fantasia la nostra esercita di tecnologia al di là del fatto che la densità volumetrica dell'idrogeno è quella che è la densità in peso è quella che è quindi dobbiamo pensare a fare combustibili sintetici da fonti rinnovabili con tecnologie rinnovabili da materie prime rinnovabili che vuol dire essenzialmente rifiuti biomasse e rifiuti però quando andiamo a fare i numeri andiamo a vedere quanti aerei girano facendo il conto della nave di prima e quanti di questi combustibili liquidi dovremmo fare ci rendiamo conto che è un'impresa titanica e qui dobbiamo veramente sperare a progressi molto importanti dal lato delle ricerche scientifiche bene realisticamente riusciamo a fare un altro giro quindi prendiamo le misure e facciamo un secondo intervento sapendo che difficilmente ne possiamo fare un terzo perché poi il tempo è tiranno e insomma stiamo stiamo già entrando molto nel merito quindi io gli darei la parola al professor Colleoni ciascuno di voi stimolati da quello che hanno detto anche gli altri colleghi e in base a quello che studiano direi possono fare un secondo giro completando un po' quello che è il loro pensiero sulla mobilità del futuro sulla pianificazione immagino che queste affermazioni sull'idrogeno possano anche avere dei commenti quindi insomma passo la parola a professor Colleoni se ancora sì sì ci sono e li sento ho seguito chiaramente tutto gli interventi molto interessanti dei colleghi che mi hanno poi seguito ma diciamo che adesso mi stacco dalle slide per fare velocemente qualche considerazione di questo secondo giro quanto riguarda il futuro allora dal mio punto di vista abbiamo lavorato sulla pianificazione e quindi sui piani per la prima volta in Italia l'ultimo piano di governo dei trasporti e della logistica risaliva all'inizio del 2000 quindi siamo arrivati adesso al 2022 con questo piano che voleva essere un piano di medio lungo periodo infatti si chiama trasformare l'Italia nei prossimi 10 anni ora io non so se riusciremo a trasformare l'Italia nei prossimi 10 anni questa poi è la trasformazione che la faranno i politici non tanto noi nel campo della scienza quello che però sarà necessario fare nel campo della mobilità sono alcune cose che cerco di riassumere tratto anche da questo piano prima cosa che occorre fare occorre pianificare sul meglio lungo periodo scusate il riferimento ovvio nel senso che non si può pensare di non pianificare i trasporti e la mobilità e qui parlano soltanto dei trasporti ma della mobilità più in generale e non si può pensare di non pianificare i trasporti e la mobilità in maniera integrata con i trasporti con la pianificazione territoriale l'ho detto nel punto finale del mio primo di intervento del primo giro prima e questo sarà fondamentale farlo e perché una pianificazione integrata è oggi più necessaria rispetto al passato perché siamo in una fase urbanistica e industriale diversa l'urbanistica l'ho detto prima che non siamo in una fase più di suburbanizzazione l'abbiamo già passata alla fase di suburbanizzazione perché quella è la fase industriale in cui le città si sono espanse nelle loro periferie adesso non siamo in quella fase e tutti i seri l'incremento demografico insediativo che sono stati fatti su dati reali empirici ci dicono che sulle zone a bassa densità che sono distanti dai core metropolitani circa 20 km che hanno avuto il più forte incremento insediativo di uso del suolo e conseguentemente abitativo ed è lì che si sono collocati i generatori di mobilità con la dispersione di cui parlavamo prima laddove è un sistema fatto così non puoi non pianificare i trasporti la mobilità in maniera integrata con la pianificazione territoriale e questa è una cosa fondamentale che noi abbiamo scritto nel piano generale e che deve essere da guida per le pianificazioni regionali e locali soprattutto sulla scala metropolitana la seconda considerazione ancora di questo tenore è che però è collegata al tema della mobilità l'Italia in questo momento ha 60 milioni di abitanti di cui la metà vivono nelle aree metropolitane nelle aree non nelle città che sono delle cose un po' diverse considerate che le aree metropolitane italiane dai nostri e dagli studi di altri colleghi dei politecnici di altre università coprono circa il 10% della superficie se noi abbiamo il 10% della superficie nazionale dove abbiamo il 50% della popolazione a dare quindi ad alta densità di flusso dove lì vanno concentrate gli sforzi della pianificazione territoriale dei trasporti della mobilità e quindi l'altra cosa che mi viene da dire a questo dibattito per dare il mio contributo specifico e non sovrappormi alle competenze dei miei colleghi nel campo chimico o nel campo ingegneristico è quello proprio di lavorare una diversa pianificazione l'altro aspetto cambiare il riparto modale il riparto modale in questo momento non è sostenibile non possiamo vivere un riparto modale a 65% di trasporto veicolare soprattutto con quel parco veicolare visto prima un 10% di trasporto pubblico e una quota che non supera il 25% di mobilità attiva è un riparto modale insostenibile quindi con un riparto modale di questa natura dobbiamo assolutamente raggiungere entro 2030 non so se ce la faremo però almeno duplicare il tasso di mobilità con trasporto pubblico e qui subentra un'altra questione è una questione un po' delicata spero che la si possa affrontare anche se in queste modalità è il problema della domanda offerta di trasporto pubblico in quel piano che vi ho raccontato prima abbiamo molto approfonditamente analizzato tutti i dati sul trasporto pubblico italiano ora la situazione italiana è caratterizzata da due cose che vanno migliorate la prima questione le forti differenziazioni territoriali ma questo lo sapevamo c'è il grande deficit del sud Italia del trasporto pubblico e delle aree interne va bene questo lo sapevamo già il problema però è un altro abbiamo una situazione caratterizzata da una bassa domanda anche a parità di offerta cioè cosa vuol dire abbiamo un'offerta di trasporto pubblico che non riesce a trainare la domanda il che fa entrare in gioco la questione della qualità del trasporto pubblico e questo è un altro tema c'è la qualità del sistema di mobilità il sistema di mobilità lo sa bene anche i miei colleghi è formato da vettori che si muovono su delle reti attraverso dei nodi quindi il sistema di mobilità deve essere sostenibile non soltanto nei vettori cioè auto più ecologiche va bene ma anche infrastrutture più ecologiche e nodi di interscambio o comunque centri intermodali che siano più sostenibili allora una seconda indicazione importante che dovrà essere presa non è soltanto quella che ho detto prima di pianificare i trasporti di mobilità in maniera integrata rispetto alla pianificazione territoriale e dei servizi che è fondamentale ma anche quello di migliorare il riparto modale e soprattutto quello di rendere più sostenibile l'intero sistema di mobilità il piano come coordinatore non del PNRR ma del PNR ma è stato giustamente detto abbiamo perso un po' le ultime frasi se vuoi ripetere l'ultimo pensiero ma giusto l'ultimo tolga magari il video dobbiamo anche migliorare tante cose tra cui anche il collegamento va bene comunque come dire la sostanza l'abbiamo colta ed è veramente importante mi sono segnato due parole chiave il futuro è la pianificazione e questo shift modale dal trasposto privato al trasporto pubblico che deve colmare questo divario territoriale e anche implementare la qualità del trasporto pubblico purtroppo il PNRR sicuramente ecco il PNRR ha lavorato molto per esempio sugli assi dell'alta velocità ma come dire i treni per i pendolari come dire non è che proprio sia un salto nel futuro mi spiace ma non mi spiace ma non mi sento più mi spiace ecco abbiamo comunque sentito grazie professor Colleoni sentiamo se si sente meglio il professor Savaresi grazie eccomi Savaresi ci sente ci sono ci sono ci sono vi sento bene allora diamo la parola a lei sapendo che questo è l'ultimo giro perché altrimenti non ce la facciamo e quindi ricollegandosi un pochino ai ragionamenti fatti volevo che lei proseguisse con il suo racconto che peraltro credo interesserà molto perché comporta anche tutta una parte agonistico tecnologica che penso non dispiacerà agli studenti sì in realtà sarò molto più breve mi sentite mi conferma che vedete sentite sì 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 la sentiamo perfetto sì sì allora sarò in realtà molto più breve adesso dopo la lunga introduzione diciamo di contesto lasciatemi chiamare così che ho fatto prima che mi sembra sia stata molto in linea con una prospettiva un po' diversa rispetto a quanto hanno detto i miei colleghi vorrei invece passare a alleggerire un pochino l'argomento raccontarvi in maniera molto molto sintetica un'esperienza che abbiamo fatto faccio scorrere questo video e quell'immagine intanto che vi dico due parole allora quest'anno c'è stato un evento nel suo piccolo diciamo storico è stata un po' la nascita un evento che ha una data è un luogo ben preciso cioè il 7 gennaio del 2022 a Las Vegas all'interno del del famoso consumer electronic show il CS di Las Vegas c'è stata la prima vera tra virgolette gara di veicoli autonomi quindi diciamo veicoli completamente autonomi veramente multi agent quindi diciamo testa testa non semplicemente il giro da solo di pista come se fosse un giro di qualifica e a velocità decisamente alta quindi siamo arrivati a fare 280 km in un formato in cui diciamo i contendenti si sfidavano a coppie in semifinale finale finale qui vedete scorrere in questo video la finale fra il Politecnico in Milano e l'Urista di Monaco è stata esperienza molto bella è un'iniziativa patrocinata è stato un challenge all'americana un po' come il DARPA Challenge di più di 15 anni fa è stata supportata dallo Stato dell'Indiana si chiama India Autonomous Challenge ha avuto una prima una prima gara un pochino più semplificata a India Napolis queste macchine sono delle Indy Light sono delle dallare Indy Light quindi sono delle normale macchine da corsa come se fosse una Formula 2 che sono state equipaggiate con tutta una serie di sensori attuatori unità di calcolo e così via e la sfida lo ripeto sempre non era fra macchine ma era fra piloti quindi tutti i team siamo partiti in 35 team e poi diciamo il gruppo si è assottigliato fino a diventare una decina di team team da tutto il mondo si sfidavano sull'intelligenza artificiale quindi sugli algoritmi di controllo quindi macchine identiche nella meccanica nell'elettronica nei sensori e i team dovevano caricare il software del loro gli algoritmi del loro del loro pilota di intelligenza artificiale è stata un'esperienza molto bella molto coinvolgente come ho messo insieme un team di ricerca con i miei migliori dottorandi e studenti sono stati tanto tempo negli Stati Uniti tra l'altro questa esperienza dura ancora quindi quest'anno ci saranno altre due gare una in Texas proprio fra una ventina di giorni e un'altra e un'altra a Las Vegas è stato in qualche modo un evento storico la motivazione di questo evento è stato sostanzialmente che riportare al racing riportare il racing nel suo significato originario che è quello di fare sviluppo di tecnologie come dire da sviluppare se voi andate indietro cent'anni questo era il senso delle competizioni poi pian pianino il racing è scivolato verso un aspetto di entertainment più che di sviluppo tecnico e questa competizione vista l'enorme importanza e l'enorme complessità della tecnologia dell'auto autonoma ha voluto fornire una piattaforma di sviluppo quindi questo è sostanzialmente il senso fornire una piattaforma di sviluppo altre due cose rapidamente abbiamo dato seguito a quel primo evento di gennaio con un altro evento che è stato anche questo molto emozionante per certi versi più come dire un pochino più semplice da un certo punto di vista più complesso all'altro siamo stati autorizzati dalla NASA a utilizzarlo vedete in questo filmato la pista di atterraggio dello Space Shuttle che sta a Cape Canaveral nel Kennedy Space Center di Cape Canaveral è la pista di atterraggio più lunga al mondo è quasi 5 km quindi un posto ideale un posto perfetto per fare il record di velocità recentemente Max Biagi ha fatto il record di velocità per moto elettriche se non sbaglio proprio su questa pista e abbiamo ci siamo portati a casa sempre con la stessa macchina potenziata un motore più potente l'attuale record mondiale di auto completamente autonome che è di circa 310 km un'esperienza che è questa molto bella per me per i miei ragazzi i miei studenti i miei dottorandi è un risultato sicuramente molto prestigioso mi piaceva segnalarvi mi riaggancio un po' alla battuta sul mondo dei metaversi che vi ho detto l'altro giorno che vi ho detto prima scusate come team abbiamo partecipato anche a una stagione di prova in realtà non è un vero portocampionato ma è una season beta di un'altra iniziativa che si chiama Roborace vedete qui il filmato Roborace mi piace citarlo perché è stato il primo contesto di competizione in cui si sono mescolati oggetti fisici e i metaversi quindi vedete qui i metaversi sono un po' giocattolosi le vedete da questo filmato però vedete quella macchina una macchina vera una macchina elettrica vera che sta girando su un circuito vero Las Vegas anche questo è il circuito diciamo road course di Las Vegas che sta competendo o sta cercando di non scontrarsi o sorpassare degli oggetti degli oggetti virtuali e questa è un'altra direzione su cui sta andando e stanno andando le competizioni dell'autonomous racing cioè mescolare una parte fisica e una parte di oggetti virtuali chiudo in realtà con una battuta questo è proprio la chiusura che è la tipica domanda che mi chiedono what for cioè perché il racing autonomo in realtà ci sono tanti motivi per cui questo nuovo tipo di tra virgolette sport chiamiamolo così ha senso il primo in qualche modo ve l'ho già detto cioè è una piattaforma di sviluppo a tutti gli effetti una piattaforma di sviluppo che di fatto è particolarmente motivata a portare al limite questa tecnologia cioè capire cosa succede a velocità altissime a dinamica altissime tempi di reazione bassissimi avendo in mente quello che è detto il modulo di emergenza quindi voi immaginatevi quindi provate a vivere la sensazione che magari vivrete fra 10-15 anni di essere su un robotaxi quindi seduto il seduto posteriore non c'è nessuno alla guida se non questo pilota intelligente artificiale e trovarvi una condizione molto complessa quindi siete ad alta velocità probabilmente saranno autorizzate ad andare velocità più alte con margini di distanze più piccoli magari piove quindi c'è c'è un asfalto bagnato l'autostrada è molto affollata e capita una situazione inaspettata canica attraversa la strada qualunque tipo di situazione è una situazione estremamente complessa che in realtà anche pochi umani sono in grado di gestire bene quello che si porta dall'autonomous racing è sicuramente la comprensione di come sviluppare questo modulo di emergenza direi che posso posso terminare qui vi lascio con una battuta nel mondo dell'autonomous racing in realtà quello che si sta cercando di capire è come si evolverà nei prossimi anni e probabilmente la cosa più probabile che accadrà sarà non fare competizioni tra macchine completamente autonome tra di loro ma inserire il fattore umano quindi è realistico che fra 5-10 anni vedremo una formula 1 una formula e una formula indie in cui il team quindi immaginatevi la Ferrari di turno dovrà ingaggiare un pilota umano e un pilota di intelligenza artificiale quindi in qualche modo questa è la visione di lungo periodo la visione affascinante ovviamente anche dal punto di vista della ricerca siamo agli albori però diciamo siamo molto contenti il nostro team milanese si è comportato molto bene battendo tantissimi prestigiosi competitor internazionali grazie per la vostra attenzione chiudo grazie molto bello il racing ha portato ha portato entusiasmo quindi darei la parola infine a Nicola Armaroli perché voglio dire possa in qualche modo tirare le fila tirare le fila di questa cosa della mobilità considerando ovviamente la possibilità di domande che c'è sempre che si possono sempre fare ma prima di tutto concludere il suo discorso sulla mobilità sull'elettrico su queste cose poi lasciamo un po' di spazio per le domande e poi concludiamo io come avevo accennato prima volevo parlare per concludere di questa questione delle batterie perché è la classica obiezione che esce tutte le macchine che abbiamo visto di cui ho parlato io e che abbiamo visto anche lì dal vivo sono macchine elettriche quindi macchine che hanno una batteria quindi macchine che accumulano l'energia in maniera molto molto intensiva soprattutto immaginate un'auto da corsa figuriamoci quindi l'auto a batteria è sostenibile o è una schifezza come qualcuno sostiene perché questa è una domanda che vi faranno tutti dice tu che studi spiegami se la macchina è sostenibile o meno allora la prima cosa da capire è che in un'auto a batteria voi non buttate mai dentro niente fisicamente quindi cosa succede io l'unica cosa che metto dentro la mia macchina è il liquido per pulire i vetri quindi quello di cui io ho bisogno è l'elettricità l'elettricità è un bene immateriale che può essere prodotto da fonti rinnovabili nel mio caso è prodotto da fonti rinnovabili perché come ricordava prima Luca Cara me lo produco sul tetto della casa quindi certamente io mi sono svincolato dal problema della volatilità dei prezzi della disponibilità eventuale o mancante eccetera e quindi è possibile è possibile andando verso un futuro in cui l'elettricità sarà sempre più rinnovabile che questa roba immateriale che mettiamo nelle batterie è qualcosa di veramente sostenibile fino in fondo dopodiché le batterie devono essere fabbricate però vorrevo e direi che chiudo qua volevo farvi riflettere su un punto un'auto termica prendete qualsiasi auto termica che avete là fuori quando avrà finito di fare i suoi 200.000 300.000 chilometri avrà consumato una quantità di combustibile che è tra 7 e 10 volte il suo peso non solo ci fa caso non solo ci pensa perché la maggior parte di quel liquido che ha un udore molto caratteristico che è la benzina o il gasolio che ha un colore ben definito che vediamo che possiamo toccare si trasforma in qualcosa in gran parte di invisibile che è la CO2 che va a compromettere il clima quindi i veri consumatori di risorse materiali attenzione perché qui appunto la chimica ci gioca un brutto scherzo trasformando qualcosa di puzzolente e colorato in qualcosa di inodore e incolore che è la CO2 ci fa uno scherzo appunto e qui la gente non ci pensa quindi i grandi consumatori di materia è lì che voglia arrivare sono le macchine termiche una macchina termica quando ha finito il suo periodo utile 200.000 300.000 chilometri ha emesso 20 30 volte 20 30 volte il suo peso in termini di CO2 ma siccome non si vede nessuno si pone problemi quindi la mobilità elettrica è sostenibile anche per questo motivo la batteria rimane lì per tutto il tempo di vita della macchina si parlava prima di 300.000 400.000 chilometri quando non va più bene per essere utilizzati in automobili perché vuol dire che si ricarica solo l'80% la posso utilizzare per altri 10 anni come stoccaggio di elettricità rinnovabili in un impianto che produce elettricità rinnovabili questo viene fatto comodamente quindi non viene fatto non viene buttata via immediatamente non viene messa nella terra dei fuochi quando non funzionerà più neanche per quello scopo perché proprio non si potrà più caricare quella macchina ancora dentro tutto il litio che è stato messo dentro all'inizio magari sia un po' ossidato sia un po' staccato dal catodo però è tutto lì è ancora tutto lì quello si può riciclare e c'è una grande prospettiva di sviluppo industriale nel riciclo delle batterie quindi le batterie sono sicuramente una tecnologia intensiva che richiede molti materiali in una batteria media ci sono circa 100 kg tra litio in alcuni casi cobalto la mia macchina non ha cobalto e altri materiali ma sono ancora tutti lì quindi qual è la differenza che il petrolio lo devi estrarre in continuazione se tu non lo estrai quella macchina non andrà mai il litio lo estrai una volta quel litio potrà essere usato da tuo figlio e da tua nipote se quella macchina come accadrà andrà sotto alla cosiddetta responsabilità estesa del produttore se lo riprende in carico se lo ricicla il produttore è ben contento di prendersi in carico una batteria a riciclarla piuttosto che andarsi a ricomprare di nuovo il litio in Australia o in Cile quindi vedete c'è un cambio radicale anche in questo senso quindi non credete a quelli che vi dicono che le batterie distruggeranno il mondo certamente è un'attività di impatto ambientale in fase estrativo ma è tutta una situazione che noi sappiamo che il problema è che possiamo controllare soprattutto possiamo rendere circolare cosa che non possiamo fare col petrolio grazie Nicola Armaroli c'è una domanda vedo di ragazzo se gli danno il microfono alza la mano bene così ti vediamo è una domanda semplice e veloce ma al mondo esiste abbastanza litio per fare tutte queste batterie o ti ringrazio per questa domanda era lo stesso dilemma che si ponevano cent'anni fa quando c'erano le prime auto diciamo termiche di massa che arrivavano sul mercato ci sarà abbastanza petrolio molti dicono no non ce ne sarà abbastanza ora noi viviamo in un pianeta bellissimo penso che su questo siano tutti d'accordo pieno di risorse con una tavola con una diciamo distribuzione degli elementi molto varia abbiamo pubblicato come società chimica europea una tavola periodica dell'abbondanza relativa che fa vedere quanto è varia l'abbondanza degli elementi chimici su questo pianeta molto più varia che rispetto a giove o a saturno dove quasi tutto elio è idrogeno quindi molto noiosa è molto varia quindi tutti questi elementi a cominciare dal litio devono essere usati in maniera diciamo razionale quali sono i numeri attualmente se i 75 milioni di automobili che vengono venduti nel mondo fossero tutti con batterie al litio in realtà non potremmo farlo perché solo il 12-13% delle auto che oggi vengono prodotte potrebbero avere il litio sufficiente con il litio che viene estratto oggi quindi in questa prima fase mettiamo i prossimi 10 anni bisognerà aumentare in maniera enorme la produzione di litio ci sarà per me il problema non è quello il litio ci sarà ce n'è tanto lo stanno cercando in molti posti e lo trovano fino adesso ne serviva meno non era stato cercato il problema sarà se noi in 10 anni saremo così veloci da fare tutto quello che c'è tra il litio perché a me non interessa come consumatore finale di litio ma interessa la batteria e la batteria è il prodotto finale quindi cato di anodi permessi minerari estrazione raffinazione c'è tutta questa fase che è un'inerzia enorme che dobbiamo velocizzare quindi per rispondere precisamente alla tua domanda io sono convinto che ci sia abbastanza litio sono convinto che riusciremmo a riciclarlo cioè ci sono le tecnologie per farlo quindi dobbiamo impegnarci a farlo sono più diciamo preoccupato sul fatto che riusciremo alla velocità necessaria che ci richiede la transizione energetica che è guidata dalla crisi climatica ecco questo quindi il problema non è la quantità ma la velocità e la capacità di riciclare convertiremo convertiremo le auto elettriche ma come hanno detto prima anche i nostri altri relatori forse non ne serviranno altrettante di quelle certamente endotermiche che abbiamo che ancora un po' ce ne abbiamo una a testa in Italia Alessandro Botto voleva fare una domanda anche Savarese ovviamente può rispondere è una sfida al mio amico Nicola Armaroni c'era una sfida allora io sono d'accordo con te sull'impostazione elettrico e idrogeno perché ci sono questioni tecniche però ti vorrei porre questa sfida partendo da citando alcuni numeri oggi proprio verificavo stamattina prima di venire qui noi abbiamo lungo le autostrade tedesche 98 distributore di idrogeno lungo le autostrade italiane 34 stazioni di ricarica elettrica oggi oggi noi in Italia immatricalliamo un terzo di vettura benzina circa 30% 30% diesel in diminuzione e 30% di ibrido che è diventata la vettura più venduta e poi le briciole ahimè lo dico con dolore perché io come te sono un felice guidatore di vetture elettriche da qualche anno 3,4% di elettrico allora la domanda che ti faccio è vero tu hai detto l'idrogeno ma non ci guadagniamo tanto di più però insomma cominciamo a mettere il fatto cioè ti voglio sfidare proprio sul trasporto leggero non sull'aereo ad esempio ti cito anche un'altra cosa pochi giorni fa EasyJet ha mandato a tutti gli iscritti EasyJet una mail in fondo io me ne sono accorto magari il 92% no c'è scritto noi stiamo decarbonizzando tutti i nostri aerei e scegliamo l'idrogeno come tecnologia di scelta per decarbonizzare i nostri aerei EasyJet lo dice ok ecco ma io ti voglio sfidare proprio sulle automobili cioè io ti chiedo ma l'idrogeno sì che non ha questo grande guadagno però è un combustibile pulito perché non sostituiamo quel 30% di ibrido oggi con l'idrogeno e incominciamo ad avere un vettore che è comunque più efficiente un vettore che è pulito e che poi si spera con un 70% di elettrico a complemento aiuterà ad andare verso una transizione elettrica che ahimè in questo momento in Italia non si riesce cioè fa fatica un pochettino a farsi strada rispetto agli altri paesi sentiamo Armaroli se poi Savaresi vuole venire benissimo allora secondo me il problema fondamentale uno dei problemi dell'auto idrogeno per cui non ci sarà questa diciamo rincorsa è questo la tecnologia delle cella combustibile è piuttosto più complicata rispetto alla tecnologia delle batterie un'auto in sé a idrogeno è più complicata perché sostanzialmente un'altra batteria come tu sai quanto me è una batteria con le ruote mentre un'auto a idrogeno ha tre bombole da 700 bar ha tutto il sistema di captazione dell'aria perché deve prendere dentro ossigeno puro ha l'accello combustibile che è una roba piuttosto ingombrante quindi la possibilità che ci sia per un sistema così più complicato di competere con uno che è già anni avanti secondo me è molto difficile perché essendo anni avanti essendo più semplice soprattutto è una tecnologia quella delle batterie lione di litio che è diffusa in molti settori per cui ha potuto godere di economie di scala legate al fatto che ci sono stati progressi ovunque qui dentro ci saranno n computer portatili con batterie al litio mentre la cella combustibile è un dispositivo che è meno implementabile in altri tipi di settori industriali anche questo non aiuta a renderla a renderla diciamo così importante e così capace di andare a scalzare questo è un po' quello che sta succedendo in qualche modo anche con il fotovoltaico sì la tecnologia silicio potrebbe non essere il massimo per certi aspetti anche se funziona benissimo funziona dieci anni vent'anni trent'anni quarant'anni e ci sono alternative ma quando questa come ha raggiunto quest'anno ha raggiunto un teravatt di potenza ormai è ormai un sistema industriale talmente diffuso che qualsiasi altro competitor che entra avrà un'inerzia di entrata mentre quello continua a crescere velocemente e quindi magari non è detto che sia il prodotto migliore però ormai ha preso piede quindi io vedo la gara chiamiamola così tra idrogeno e batterie così cioè è come se abbiamo due corridori che potenzialmente sono tutti entrambi capaci di vincere la gara ma uno è partito e ha cinque giri di vantaggio e devono fare i diecimila metri secondo me è difficile che quello che ha cinque giri di svantaggio perché è più indietro da qualsiasi punto di vista in questo caso l'idrogeno riesca a raggiungere e tagliare per primo il traguardo ecco io la vedo la vedo un po' così Savaresi sentiamo cosa eccomi sì allora io in realtà sono allineatissimo sul quanto ho appena detto Nicola Armaroli lo elaboro in modo un pochino diverso allora innanzitutto è chiaro che l'idrogeno non è una rapida soluzione shortcut per risolvere rapidamente il problema ha una complessità altrettanto grossa guardiamo avanti io dico sempre così guardiamo avanti tra 15 o 20 anni la soluzione è quella che in qualche modo vi ho delineato prima e la soluzione non è 40 milioni di auto private elettriche effettivamente se fosse così potrei anche dire parliamone magari il corridore dell'idrogeno a questo punto magari alla lunga lo raggiunge la verità è che l'elettrico è avanti e sta per cominciare una gara in cui è avvantaggiato in cui lui è un centometrista e quello dietro invece è un mezzofondista e quindi nella gara in cui ci saranno soprattutto mobility as a service l'elettrico è praticamente privo di difetti perché beneficia di un come dire un effetto statistico sulla ricarica mentre la proprietà privata ha bisogno del rapidissimo picco di energia perché io privato voglio caricare tanto in quel momento mentre una flotta molto grossa beneficia di un fattore statistico non ha bisogno di quel picco quindi questo è un aspetto secondo ricordatevi che un'auto da 300 km autonomia ha una vita di batteria di 400.000 km mediamente un'auto privata fa 10.000 km all'anno un'auto di una flotta mobility as a service può tranquillamente fare 40-50.000 km l'anno quindi sfrutta enormemente meglio quella risorsa quindi se questo è il punto di arrivo non è l'idrogeno uno shortcut facile che ci porta lì lo shortcut facile è chiaramente l'ibrido che è un modo progressivo di avvicinarci in quella direzione lì io sottoscrivo sostanzialmente della visione che è stata descritta prima sì un'ultima domanda io nella sono qua io nello studio delle ricerche che avevo fatto sulle comunità energetiche avevo trovato lo studio innovativo di batterie alzale cioè c'è la General Electric che già le fa le batterie quelle ovviamente non per far andare la macchina ma quelle che servono quelle che ora sono state gli accumulatori delle macchine anche ecco lei sa qualcosa se questa tecnologia potrebbe essere in futuro accumulatori anche per il solare e soprattutto per le vetture perché so che c'erano studi ed erano anche piuttosto avanti sulle batterie alzale per le autovetture elettriche allora prima Luca Cara citava la puntata delle Ieni in cui mi hanno intervistato sono venuti a casa mia a vedere come funziona a casa mia nello stesso servizio che troverete online nella puntata di ieri l'altro le Ieni sono andate in questa azienda di Correggio che fabbrica queste cosiddette batterie alzale non sono entrati nel dettaglio io non c'entro niente comunque c'è una cosa che hanno fatto loro da loro e da me quindi secondo me quella è una tecnologia credo in realtà al sodio nickel credo per cui cioè in realtà dire che sai da cucina è un po' una semplificazione io durante l'intervista avevo spiegato che le batterie al sodio sono una certa cosa e possono essere di vario tipo quindi ricapitolando se vuole delle risposte su queste batterie cosiddette alzale vada sul sito guardi questo cosa e vada sul sito di quell'azienda dove peraltro non mi sembra che ci sono molti dettagli avevo visto che c'era il sodio e il nickel avevo studiato il meccanismo ecco appunto quindi dire che sono alzale da cucina è una semplificazione però la parte centrale c'è diciamo che c'è del cloruro di sodio anche dentro però non è detto che sia non è solo quello cioè c'è anche il nickel io avevo visto lo schema e devo dire che la quantità di cloruro di sodio era abbastanza rispetto al nickel e al è importante soprattutto direi che hanno un vantaggio sono abbastanza facilmente riciclabili non solo ma anche rispetto alla tenuta della temperatura del cambiamento della variabilità erano competitive su questo un'altra cosa importante da dire è che quando si dice batteria al litio è una frase molto generica in realtà anche di quelle ce ne sono di tanti tipi le mie come dicevo prima sono litio ferro fosfato sia quelle della macchina che quelle della casa per cui non c'è il cobalto per cui diciamo di elementi critici ce ne sono di vario tipo nelle varie nelle varie batterie però la questione è se noi soprattutto riusciamo a riciclarli in quale in quale modo riusciamo a riciclarli però ripeto non dobbiamo fossilizzarci sul fatto che le batterie al litio sono una cosa in realtà sono tante cose come anche le batterie volgarmente dette al sale le chiamerei più facilmente più correttamente batterie al sodio anche di quelle ce ne sono di vario tipo quello che è sicuro che c'è un sano fervore di innovazione nel campo delle batterie per cui certamente il litio per l'automotive che adesso è essenziale tu non puoi avere una macchina che non abbia batteria al litio perché ha una densità di energia sufficientemente elevata per poter funzionare ecco in quel caso quando ci saranno sul mercato batteria al sodio per le applicazioni stazionare si libererà litio per l'automotive calando neanche il prezzo quindi ci saranno tutti questi fattori che andranno a cambiare il quadro e a migliorarlo sostanzialmente bene siamo arrivati diciamo che è un otto ore che siamo qua quasi a parlare di energia ed ecologia poi in realtà perché la transizione non dovrà essere solo energetica ma oggi ci siamo concentrati su questa ma in modo molto più ampio ecologica ringrazio a tutti quelli che sono restati fino ad ora ad ascoltarci anche le persone che ci hanno seguito in collegamento su Scienze in Rete e sul canale Youtube della Bicocca tutti i relatori in remoto e in presenza che si sono resi disponibili e che hanno forse voi ragazzi e ragazze non ve ne avete conto ma abbiamo portato veramente un livello di eccellenza e anche di diversificazione diciamo di posizioni a questo dibattito che è molto raro trovare in incontri simili dove tutti più o meno sono d'accordo invece qui c'erano anche delle posizioni molto diverse e voglio concludere quindi ringraziandovi tutti ma anche ricordando il libro di Nicola Armaroli l'ultimo libro Un mondo in crisi gas nucleare rinnovabili clima è ora di cambiare che è una serie di piccoli saggi che effettivamente comprendono praticamente tutto quello di cui abbiamo discusso dal nucleare di cui il buon Nicola Armaroli è una produzione molto diversa da quella del professor Giuseppe Zollino che abbiamo comunque con interesse ascoltato oggi poi c'è stata quella di Gianluca Ruggeri che si è inventato addirittura un'associazione di produttori energetici che secondo me è una cosa straordinaria sia dal punto di vista scientifico ma anche sociale perché questa transizione energetica sarà anche una transizione che mette in campo diversi modelli anche sociali di produzione e consumo dell'energia in cui entra anche la democrazia un'azione dal basso una decentralizzazione stiamo parlando anche di modelli molto diversi e tutte queste cose così in punta di penna con questi brevi ma incisivi saggi sono stati toccati il tempo non ci concede di continuare perché si potrebbe continuare a lungo a sceverare praticamente tutti questi argomenti però mi sembra che sia stata una buona introduzione al tema dell'energia e soprattutto come soprattutto in quest'ultima sessione è successo quella di pensare a un futuro neanche così lontano anche se si parla di automobili che vanno da sole automatiche eccetera e quindi grazie a tutti ancora e speriamo di poter organizzare qualcosa di simile a prossimo grazie 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 a tutti scusate ancora per essere in remoto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti